come andò che mastro cilieza falegname trova un pezzo di legno che piangeva e rideva come un bambino c'era una volta un re diranno subito i miei piccoli lettori no ragazzi avete sbagliato c'era una volta un pezzo di legno non era un legno di lusso ma un semplice pezzo da cadasta di quelli che d'inverno si mettono nelle stufe e nei caminetti per accendere il fuoco e riscaldare le stanze non so come andasse ma il fatto gli è che un bel giorno questo pezzo di legno capitò nella bottega di un vecchio falegname il quale aveva nome mastro antonio se non che tutti lo chiamavano maestro cilieza per via della punta del suo naso che era sempre lustra e paonazza come una ciliegia matura appena mastro cilieza ebbe visto quel pezzo di legno si rallegrò tutto e dandosi una fregatina di mani per la contentezza borbottò a mezza voce questo legno è capitato a tempo voglio servirmene per fare una gamba di tavolino detto fatto prese subito l'ascia arrotata per cominciare a levargli la scorza e a disgrossarlo ma quando fu lì per lasciare andare la prima asciata rimase col brazzo sospeso in aria perché sentì una vocina sottile che disse raccomandandosi non mi picchiar tanto forte figuratevi come rimase quel buon vecchio di maestro ciliegia girò gli occhi smarriti intorno alla stanza per vedere di dove mai poteva essere uscita quella vocina e non vide nessuno guardò sotto il banco e nessuno guardò dentro un armadio che stava sempre chiuso e nessuno guardò nel corbello dei truccioli e della segatura e nessuno aprì l'uscio di bottega per dare un'occhiata anche sulla strada e nessuno odunque ho capito disse allora ridendo e grattandosi la parrucca si vede che quella vocina me la sono figurata io rimettiamoci a lavorare e ripresa l'ascia in mano tirò giù un solennissimo colpo sul pezzo di legno oi tu m'hai fatto male gridò rammaricandosi la solita vocina questa volta maestro ciliegia resta di stucco cogli occhi fuori del capo per la paura con la bocca spalancata e con la lingua giù ciondoloni fino al mento come un mascherone da fontana appena riebbe l'uso della parola cominciò a dire tremando e balbettando dallo spavento ma di dove sarà uscita questa vocina che ha detto oi eppure qui non c'è anima viva che sia per caso questo pezzo di legno che abbia imparato a piangere e a lamentarsi come un bambino io non lo posso credere questo legno eccolo qui è un pezzo di legno da caminetto come tutti gli altri e a buttarlo sul fuoco c'è da far bollire una pentola di fagioli o dunque che ci sia nascosto dentro qualcuno se ci ha nascosto qualcuno tanto peggio per lui ora l'accomodo io e così dicendo agguantò con tutte e due le mani quel povero pezzo di legno e si pose a sbatacchiarlo senza carità contro le pareti della stanza poi si messe in ascolto per sentire assaggiare qualche vocina che si lamentasse aspettò due minuti e nulla cinque minuti e nulla dieci minuti e nulla ho capito disse allora sforzandosi di ridere e arruffandosi la parrucca si vede che quella vocina che ha detto oi me la sono figurata io rimettiamoci a lavorare e poiché gli era entrata addosso una gran paura si provò a canterellare per farsi un po' di coraggio intanto posata da una parte lascia prese in mano la pialla per piallare e tirare a pulimento il pezzo di legno ma nel mentre che lo piallava in su e in giù sentì la solita vocina che gli disse ridendo smetti tu mi fai il pizziccolino sul corpo questa volta il povero maestro ciliesia cadde giù come fulminato quando riaprì gli occhi si trovò seduto per terra il suo viso pereva trasfigurato e perfino la punta del naso di ponazza come era quasi sempre gli era diventata turchina dalla gran paura maestro ciliesia regala il pezzo di legno al suo amico geppetto il quale lo prende per fabbricarsi un burattino maraviglioso che sappia ballare tirar di scherma e fare i salti mortali in quel punto fu bussato alla porta passate pure disse il falegname senza aver la forza di rizzarsi in piedi allora entrò in bottega un vecchietto tutto arzillo il quale aveva nome geppetto ma i ragazzi del vicinato quando lo volevano far montare su tutte le furie lo chiamavano col soprannome di polendina a motivo della sua parrucca gialla che somigliava moltissimo alla polendina di gran turco geppetto era bizzosissimo guai a chiamarlo polendina diventava subito una bestia e non c'era più verso di tenerlo buongiorno mastrantonio disse geppetto che cosa fate costì per terra insegnò l'abbaco alle formicole buon provi faccia chi vi ha portato da me compar geppetto le gambe sappiate mastrantonio che sono venuto da voi per chiedervi un favore eccomi qui sono pronto a servirvi replicò il falegname rizzandosi sui ginocchi stamani mi è piovuta nel cervello un'idea sentiamola ho pensato di fabbricarmi da me un bel burattino di legno ma un burattino meraviglioso che sappia ballare tirare di scherma e fare i salti mortali con questo burattino voglio girare il mondo per buscarmi un tozzo di pane e un bicchier di vino che ve ne pare bravo polendina gridò la solita vocina che non si capiva di dove uscisse a sentirsi chiamar polendina compare geppetto diventa rosso come un peperone dall'abizza e voltandosi verso il falegname gli disse imbestialito perché mi offendete chi vi offende mi avete detto polendina non sono stato io fa un po vedere che sarò stato io io dico che siete stato voi no sì no sì e riscaldandosi sempre più vennero dalle parole ai fatti e acciuffatisi fra di loro si graffiarono si morsero e si sbertucciarono finito il combattimento mastro antonio si trovò fra le mani la parrucca gialla di geppetto e geppetto si accorse di avere in bocca la parrucca brizzolata del falegname rendimi la mia parrucca gridò mastro antonio e tu rendimi la mia e rifacciamo la pace i due vecchietti dopo aver ripreso ognuno di loro la propria parrucca si strinsero la mano e giurarono di rimanere buoni amici per tutta la vita dunque compar geppetto disse il falegname in segno di pace fatta qual è il piacere che volete da me vorrei un po di legno per fabbricare il mio burattino me lo date mastro antonio tutto contento andò subito a prendere sul banco quel pezzo di legno che era stato cagione a lui di tante paure ma quando fu lì per consegnarlo all'amico il pezzo di legno dette uno scossone e sgusciandogli violentemente dalle mani andò a battere con forza negli stinchi impresciuttiti del povero geppetto ah li hai con questo bel garbo mastro antonio che voi regalate la vostra roba m'avete quasi azzoppito vi giuro che non sono stato io allora sarò stato io la colpa è tutta di questo legno lo so che è del legno ma siete voi che me l'avete tirato nelle gambe io non ve l'ho tirato bugiardo geppetto non mi offendete se no vi chiamo polendina asino polendina somaro polendina brutto scimmiotto polendina a sentirsi chiamar polendina per la terza volta geppetto perse il lume degli occhi e si avventò sul falegname e lì se ne dettero un sacco e una sporta la battaglia finita mastro antonio si trovò due graffi di più sul naso e quell'altro due bottoni di meno al giubbetto parezzati in questo modo i loro conti si strissero la mano e giurarono di rimanere buoni amici per tutta la vita intanto geppetto prese con sé il suo bravo pezzo di legno e ringraziato mastro antonio se ne tornò zoppicando a casa zeppetto tornato a casa comincia subito a fabbricarsi il burattino e gli mette il nome di pinocchio prime monellerie del burattino la casa di geppetto era una stanzina terrena che pigliava luce da un sottoscala la mobilia non poteva essere più semplice una seggiola cattiva un letto poco buono e un tavolino tutto rovinato nella parete di fondo si vedeva un caminetto col fuoco acceso ma il fuoco era dipinto e accanto al fuoco c'era dipinta una pentola che bolliva allegramente e mandava fuori una nuvola di fumo che pareva fumo davvero appena entrato in casa zeppetto prese subito gli arnesi e si pose a intagliare e a fabbricare il suo burattino che nome gli metterò disse fra sé e sé lo voglio chiamar pinocchio questo nome gli porterà fortuna ho conosciuto una famiglia intera di pinocchi pinocchio il padre pinocchio la madre e pinocchio i ragazzi e tutti se la passavano bene il più ricco di loro chiedeva l'elemosina quando ebbe trovato il nome al suo burattino allora cominciò a lavorare a buono e gli fece subito i capelli poi la fronte poi gli occhi fatti gli occhi figuratevi la sua meraviglia quando si accorse che gli occhi si muovevano e lo guardavano fisso fisso geppetto vedendosi guardare da quei due occhi di legno se ne ebbe quasi per male e disse con accento risentito occhiacci di legno perché mi guardate nessuno rispose allora dopo gli occhi gli fece il naso ma il naso appena fatto cominciò a crescere e cresci 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 diventò in pochi minuti un nasone che non finiva mai il povero geppetto si affaticava a ritagliarlo ma più lo ritagliava e lo scorciava e più quel naso impertinente diventava lungo dopo il naso gli fece la bocca la bocca non era ancora finita di fare gli cominciò subito a ridere e a canzonarlo smetti di ridere disse geppetto impermalito ma fu come dire al muro smetti di ridere ti ripeto urlò con voce minacciosa allora la bocca smesse di ridere ma cacciò fuori tutta la lingua geppetto per non guastare i fatti suoi finse di non avvedersene e continuò a lavorare dopo la bocca gli fece il mento poi il collo le spalle lo stomaco le brazza e le mani appena finite le mani geppetto sentì portarsi via la parrucca dal capo si voltò in su e che cosa vide vide la sua parrucca gialla in mano del burattino pinocchio rendimi subito la mia parrucca e pinocchio invece di rendergli la parrucca se la messe in capo per sé rimanendovi sotto mezzo affogato a quel bel garbo insolente e delisorio geppetto si fece triste e melanconico come non era stato mai in vita sua e voltandosi verso pinocchio gli disse birba ad un figliuolo non sei ancora finito di fare e già comincia a mancar di rispetto a tuo padre male ragazzo mio male e si rasciugò una lacrima restavano sempre da fare le gambe e i piedi quando geppetto ebbe finito di fargli i piedi sentì arrivarsi un calcio sulla punta del naso me lo merito disse allora fra sé dovevo pensarci prima ormai è tardi poi prese il burattino sotto le braccia e lo posò in terra sul pavimento della stanza per farlo camminare pinocchio aveva le gambe aggranchite e non sapeva muoversi e geppetto lo conduceva per mano per insegnargli a mettere un passo dietro l'altro quando le gambe gli si furono sgranchite pinocchio cominciò a camminare da sé e a correre per la stanza finché infilato alla porta di casa saltò nella strada e si dette a scappare il povero geppetto a correre dietro senza poterlo raggiungere perché quel birichino di pinocchio andava a salti come una lepre e battendo i suoi piedi di legno sull'astrico della strada faceva un fracasso come venti paio di zoccoli da contadini piglialo piglialo urlava geppetto ma la gente che era per la via vedendo questo burattino di legno che correva come un barbero si fermava incantata a guardarlo e rideva rideva e rideva da non poterselo figurare alla fine per buona fortuna capitò un carabiniere il quale sentendo tutto quello schiamazzo e credendo si trattasse di un puledro che avesse levata la mano al padrone si piantò coraggiosamente a gambe larghe in mezzo alla strada con l'animo risoluto di fermarlo ed impedire il caso di maggiori disgrazie ma pinocchio quando si avvide da lontano del carabiniere che barricava tutta la strada si ingegnò di passargli per sorpresa fra mezzo alle gambe e invece fece fiasco il carabiniere senza punto a smuoversi lo acciuffò pulitamente per il naso era un nasone spropositato che pareva fatto apposta per essere acchiappato dai carabinieri e lo riconsegnò nelle proprie mani di geppetto il quale a titolo di correzione voleva dargli subito una buona tiratina d'orecchi ma figuratevi come rimase quando nel cercargli gli orecchi non gli riuscì di poterli trovare e sapete perché perché nella furia di scolpirlo si era dimenticato di farglieli allora lo prese per la collottola e mentre lo riconduceva indietro gli disse tentennando minacciosamente il capo andiamo a casa quando saremo a casa non dubitare che faremo i nostri conti pinocchio a quest'antifona si buttò per terra e non volle più camminare intanto i curiosi e i bighelloni principiavano a fermarsi lì d'intorno e a far capannello chi ne diceva una chi un'altra pover burattino dicevano alcuni ha ragione a non voler tornare a casa chi lo sa come lo picchierebbe quell'omaccio di geppetto e gli altri soggiungevano malignamente quel geppetto pare un galantuomo ma è un vero tiranno coi ragazzi se gli lasciano quel povero burattino fra le mani è capacissimo di farlo a pezzi insomma tanto dissero e tanto fezzero che il carabiniere rimise in libertà pinocchio e condusse in prigione quel pover'uomo di geppetto il quale non avendo parole lì per lì per difendersi piangeva come un vitellino e nell'avviarsi verso il carcere balbettava singhiozzando augurato figliuolo e pensare che ho penato tanto a farlo un burattino per bene e pensare che ho penato tanto a farlo un burattino per bene ma mi sta il dovere dovevo pensarci prima quello che accade dopo è una storia da non potersi credere e ve la racconterò in quest'altri capitoli la storia di pinocchio col grillo parlante dove si vede come i ragazzi cattivi hanno a noia di sentirsi correzzere da chi ne sa più di loro vi dirò dunque ragazzi che mentre il povero geppetto era condotto senza sua colpa in prigione quel monello di pinocchio rimasto libero dalle grinfie del carabiniere se la dava a gambe giù attraverso ai campi per far più presto a tornarsene a casa e nella gran furia del correre saltava greppi altissimi sepidi pruni e fossi pieni d'acqua tale e quale come avrebbe potuto fare un capretto o un leprottino inseguito dai cacciatori giunto dinnanzi a casa trovò l'uscio di strada socchiuso la spinza entrò dentro e appena ebbe messo tanto di paletto si gettò a sedere per terra lasciando andare un gran sospirone di contentezza ma quella contentezza durò poco perché sentì nella stanza qualcuno che fece cri 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 chi è che mi chiama disse pinocchio tutto impaurito sono io pinocchio si voltò e vide un grosso grillo che saltava lentamente su per il muro dimmi grillo e tu chi sei io sono il grillo parlante e abito in questa stanza da più di cent'anni oggi però questa stanza è mia disse il burattino e se vuoi farmi un vero piacere vattene subito senza nemmeno voltarti indietro io non me ne andrò di qui rispose il grillo se prima non ti avrò detto una gran verità dimmela e spicciati guai a quei ragazzi che si ribellano ai loro genitori e che abbandonano capricciosamente la casa paterna non avranno mai bene in questo mondo e prima o poi dovranno pentirsene amaramente canta pure grillo mio come ti pare piace ma io so che domani all'alba voglio andarmene di qui perché se rimango qui avverrà a me quel che avviene a tutti gli altri ragazzi vale a dire mi manderanno a scuola e per amore o per forza mi toccherà studiare e io a dirtela in confidenza di studiare non ne ho punto voglia e mi diverto più a correre dietro alle farfalle e a salire su per gli alberi a prendere gli uccellini di nido povero grullerello ma non sai che facendo così diventerai da grande un bellissimo somaro e che tutti si piglieranno gioco di te chietati grillaccio del malaugurio gridò pinocchio ma il grillo che era paziente filosofo invece di aversi a male di questa impertinenza continuò con lo stesso tono di voce e se non ti garba di andare a scuola perché non impari almeno un mestiere tanto per guadagnarti onestamente un pezzo di pane vuoi che te lo dica replicò pinocchio che cominciava a perdere la pazienza fra tutti i mestieri del mondo non ce n'è che uno solo che veramente mi vada a genio e questo mestiere sarebbe quello di mangiare bere dormire divertirmi e fare dalla mattina alla sera la vita del vagabondo per tua regola disse il grillo parlante con la sua solita calma tutti quelli che fanno codesto mestiere finiscono sempre all'ospedale o in prigione vada grillaccio del malaugurio se mi monta la pizza guai a te povero pinocchio mi fai proprio compassione perché ti faccio compassione perché sei un burattino e quel che è peggio perché hai la testa di legno a queste ultime parole pinocchio salta su tutto infuriato e preso sul banco un martello di legno lo scagliò contro il grillo parlante forse non credeva nemmeno di colpirlo ma disgraziatamente lo colse per l'appunto nel capo tanto che il povero grillo ebbe appena il fiato di fare e poi rimase lì stecchito e appiccicato alla parete pinocchio ha fame e cerca un uovo per farsi una frittata ma sul più bello la frittata gli vola via dalla finestra intanto cominciò a farsi notte e pinocchio ricordandosi che non aveva mangiato nulla sentì un'uggiolina allo stomaco che somigliava moltissimo all'appetito ma un appetito nei ragazzi cammina presto e difatti dopo pochi minuti l'appetito diventò fame e la fame dal vedere al non vedere si convertì in una fame da lupi una fame da tagliarsi col coltello il povero pinocchio corse subito al focolare dove c'era una pentola che bolliva e fece l'atto di scoperchiarla per vedere che cosa ci fosse dentro ma la pentola era dipinta sul muro figuratevi come restò il suo naso che era già lungo gli diventò più lungo almeno quattro dita allora si dette a correre per la stanza e a frugare per tutte le cassette e per tutti i ripostigli in cerca di un po' di pane magari un po' di pansecco un crosterello un osso avanzato al cane un po' di polenta muffita una lisca di pesce un nocciolo di cilieza insomma di qualche cosa da masticare ma non trovò nulla il gran nulla proprio nulla intanto la fame cresceva e cresceva sempre e il povero pinocchio non aveva altro sollievo che quello di sbadigliare e faceva degli sbadigli così lunghi che qualche volta la bocca gli arrivava fino agli orecchi e dopo aver sbadigliato sputava e sentiva che lo stomaco gli andava via allora piangendo e disperando si diceva il grillo parlante aveva ragione ho fatto male a rivoltarmi al mio babbo e a fuggire di casa se il mio babbo fosse qui ora non mi troverei a morire di sbadigli oh che brutta malattia e la fame quand'ecco gli parve di vedere nel monte della spazzatura qualche cosa di tondo e di bianco che somigliava tutto a un uovo di gallina spiccare un salto e gettarvisi sopra fu un punto solo era un uovo davvero la gioia del burattino è impossibile descriverla bisogna sapersela figurare credendo quasi che fosse un sogno si rigirava quest'uovo fra le mani e lo toccava e lo baciava e baciandolo diceva e ora come dovrò cuocerlo ne farò una frittata no è meglio cuocerlo nel piatto o non sarebbe più saporito se lo friggessi in padella o se invece lo cuocessi a uso uovo da bere no la più lesta di tutte è di cuocerlo nel piatto o nel tegamino ho troppa voglia di mangiarmelo detto fatto pose un tegamino sopra un caldano pieno di braccia accesa messe nel tegamino invece d'olio o di burro un po d'acqua e quando l'acqua principiò a fumare tac spezzò il guscio dell'uovo e fece l'atto di scodellarvelo dentro ma invece della chiara del tuorlo scappò fuori un pulcino tutto allegro e complimentoso il quale facendo una bella riverenza disse mille grazie signor pinocchio d'avermi risparmiata la fatica di rompere il guscio arrivedilla stia bene e tanti saluti a casa ciò detto distese le ali e infilata la finestra che era aperta se ne volò via a perdita d'occhio il povero burattino rimase lì come incantato con gli occhi fissi con la bocca aperta e coi gusci dell'uovo in mano riavutosi peraltro dal primo sbigottimento cominciò a piangere a strillare a battere i piedi in terra per la disperazione e piangendo diceva eppure il grillo parlante aveva ragione se non fossi scappato di casa e se il mio babbo fosse qui ora non mi troverai a morire di fame oh che brutta malattia che è la fame e perché il corpo gli seguitava a brontolare più che mai e non sapeva come fare a chitarlo pensò di uscir di casa e di dare una scappata al paesello vicino nella speranza di trovare qualche persona caritatevole che gli avesse fatto l'elemosina di un po di pane pinocchio si addormenta coi piedi sul caldano e la mattina dopo si sveglia coi piedi tutti bruciati per l'appunto era una nottaccia d'inferno tuonava forte forte lampeggiava come se il cielo pigliasse fuoco e un ventaccio freddo e strapazzone fischiando rabbiosamente e sollevando un immenso nuvolo di polvere faceva stridere e cigolare tutti gli alberi della campagna pinocchio aveva una gran paura dei tuoni e dei lampi se non che la fame era più forte della paura motivo per cui accostò l'uscio di casa e presa la carriera in un centinaio di salti arrivò fino al paese con la lingua fuori e col fiato grosso come un cane da caccia ma trova tutto buio e deserto le botteghe erano chiuse le porte di casa chiuse le finestre chiuse e nella strada nemmeno un cane pareva il paese dei morti allora pinocchio preso dalla disperazione e dalla fame si attaccò al campanello di una casa e cominciò a suonare a distesa dicendo dentro di sé qualcuno s'affaccerà difatti si affacciò un vecchino col berretto da notte in capo il quale gridò tutto stizzito che cosa volete a quest'ora che mi fareste il piacere di darmi un po di pane aspetta mi costì che torno subito rispose il vecchino credendo di aver da fare con qualcuno di quei ragazzacci rompicollo che si divertono di notte a suonare i campanelli delle case per molestare la gente per bene che se la dorme tranquillamente dopo mezzo minuto la finestra si riaprì e la voce del solito vecchino gridò a pinocchio fatti sotto e para il cappello pinocchio si levò subito il suo cappelluccio ma mentre faceva l'atto di pararlo sentì pioversi addosso un'enorme catinellata d'acqua che lo annaffiò tutto dalla testa ai piedi come se fosse un vaso di giranio appassito tornò a casa bagnato come un pulcino e rifinito dalla stanchezza e dalla fame e perché non aveva più forza di reggersi dritto si pose a sedere appoggiando i piedi fradici e impillaccherati sopra un caldano pieno di braccia accesa e lì si addormentò e nel dormire i piedi che erano di legno gli presero fuoco e ad agiataggio gli si carbonizzarono e diventarono cenere e pinocchio si guidava a dormire e a russare come se i suoi piedi fossero quelli di un altro finalmente sul far del giorno si svegliò perché qualcuno aveva bussato alla porta chi è domandò sbadigliando e stropicciandosi gli occhi sono io rispose una voce quella voce era la voce di geppetto geppetto torna a casa rifà i piedi al burattino e gli dà la colazione che il povero uomo aveva portata con sé il povero pinocchio che aveva sempre gli occhi fra il sonno non si era ancora visto dei piedi che gli si erano tutti bruciati per cui appena sentì la voce di suo padre schizzò giù dallo sgabello per correre a tirare il paletto ma invece dopo due o tre traballoni calde di picchio tutto lungo disteso sul pavimento e nel battere in terra fece lo stesso rumore che avrebbe fatto un sacco di mestoli cascato da un quinto piano aprimi intanto gridava geppetto dalla strada mambo mio non posso rispondeva il burattino piangendo e ruzzolandosi per terra perché non puoi perché mi hanno mangiato i piedi e chi te li ha mangiati il gatto disse pinocchio vedendo il gatto che con le zampine davanti si divertiva a far ballare alcuni truccioli di legno aprimi ti dico ripete geppetto se no quando vengo a casa il gatto te lo do io non posso star ritto credetelo oh povero me povero me che mi toccherà camminare coi ginocchi per tutta la vita geppetto credendo che tutti questi piagnistei fossero un'altra monelleria del burattino pensò bene di farla finita e arrampicatosi su per il muro entrò in casa dalla finestra da principio voleva dire e voleva fare ma poi quando vide il suo pinocchio sdraiato in terra e rimasto senza piedi davvero allora sentì intenerirsi e presolo subito in collo si dette a baciarlo e a fargli mille carezze e mille moine e coi lucciconi che gli cascavano giù per le gote gli disse singhiozzando pinocchiuccio mio com'è che ti sei bruciato i piedi non lo so babbo ma credetelo che è stata una nottata d'inferno e me ne ricorderò finché campo tonava balenava e io avevo una gran fame e allora il grillo parlante mi disse ti sta bene sei stato cattivo e te lo meriti e io gli dissi vada grillo e lui mi disse tu sei un burattino e hai la testa di legno e io gli tirai un martello di legno e lui morì ma la colpa fu sua perché io non volevo ammazzarlo prova ne sia che messe un tegamino sulla braccia accesa del caldano ma il pulcino scappò fuori e disse arrivedella e tanti saluti a casa ma la fame cresceva sempre motivo per cui quel vecchino col berretto da notte affacciandosi alla finestra mi disse fatti sotto e para il cappello e io con quella catinellata d'acqua sul capo perché il chiedere un po di pane non è vergogna non è vero me ne tornai subito a casa e perché avevo sempre una gran fame messi i piedi sul caldano per rasciugarmi e voi siete tornato e me li sono trovati bruciati e intanto la fame l'ho sempre e i piedi non li ho più e il povero pinocchio cominciò a piangere e a berciare così forte che lo sentivano da cinque chilometri lontano geppetto che di tutto quel discorso arruffato aveva capito una sola cosa cioè che il burattino sentiva morirsi dalla gran fame tirò fuori di tasca tre pere e porzendogliele disse tre pere erano per la mia colazione ma io te le do volentieri mangiale e buon po altifaccia se volete che le mangi fatemi il piacere di sbucciarle sbucciarle replicò geppetto meravigliato non avrei mai creduto ragazzo mio che tu fossi così boccuccia e così schizzinoso di palato male in questo mondo fin da bambini bisogna avvezzarsi a boccati e a saper mangiare di tutto perché non si sa mai quel che ci può capitare i casi son tanti voi direte bene soggiunse pinocchio ma io non mangerò mai una frutta che non sia sbucciata le bucce non le posso soffrire e quel buon uomo di geppetto cavato fuori un coltellino e armatosi di santa pazienza sbucciò le tre pere e pose tutte le bucce sopra un angolo della tavola quando pinocchio in due bocconi ebbe mangiata la prima pera fece l'atto di buttar via il torsolo ma geppetto gli trattenne il braccio dicendogli non lo buttar via tutto in questo mondo può far comodo ma io il torsolo non lo mangio davvero gridò il burattino rivoltandoci come una vipera chi lo sa i casi son tanti ripete geppetto senza riscaldarsi fatto sta che i tre torsoli invece di essere gettati fuori dalla finestra vennero posati sull'angolo della tavola in compagnia delle bucce mangiate o per dir meglio divorate le tre pere pinocchio fece un lunghissimo sbadiglio e disse pienucolando ho dell'altra fame ma io ragazzo mio non ho più nulla da darti proprio nulla nulla avrai soltanto queste bucce e questi torsoli di pera eh pazienza disse pinocchio se non c'è altro manzerò una buccia e cominciò a masticare da principio storse un po la bocca ma poi una dietro l'altra spolverò in un soffio tutte le bucce e dopo le bucce anche i torsoli e quando ebbe finito di mangiare ogni cosa si batté tutto contento le mani sul corpo e disse gongolando ora sì che sto bene vedi dunque osservò geppetto che avevo ragione io quando ti dicevo che non bisogna avvezzarsi né troppo sofistici né troppo delicati di palato caro mio non si sa mai quel che ci può capitare in questo mondo i casi sono tanti zeppetto rifà i piedi a pinocchio e vende la propria casacca per comprargli l'abbecedario il burattino appena si fu levata la fame cominciò subito a buffonchiare e a piangere perché voleva un paio di piedi nuovi ma zeppetto per punirlo della monelleria fatta lo lasciò piangere e disperarsi per una mezza giornata poi gli disse e perché dovrei rifarti i piedi forse per vederti scappar di nuovo da casa vi prometto disse il burattino singhiozzando che da oggi in poi sarà buono tutti i ragazzi replicò geppetto quando vogliono ottenere qualcosa dicono così vi prometto che andrò a scuola studierò e mi farò onore tutti i ragazzi quando vogliono ottenere qualcosa ripetono la medesima storia ma io non sono come gli altri ragazzi io sono più buono di tutti e dico sempre la verità vi prometto babbo che imparerò un'arte e che sarò la consolazione e il bastone della vostra vecchiaia zeppetto che sebbene facesse il viso di tiranno aveva gli occhi pieni di pianto e il cuore grosso dalla passione di vedere il suo povero pinocchio in quello stato compassionevole non rispose altre parole ma presi in mano gli arnesi del mestiere e due pezzetti di legno stagionato si pose a lavorare di grandissimo impegno e in meno di un'ora i piedi erano belle fatti due piedini svelti asciutti e nervosi come se fossero modellati da un artista di genio allora zeppetto disse al burattino chiudi gli occhi e dormi e pinocchio chiuse gli occhi e fece finta di dormire e nel tempo che si fingeva addormentato zeppetto con un po' di colla sciolta in un guscio d'uovo gli appiccicò i due piedi al loro posto e li appiccicò così bene che non si vedeva nemmeno il segno dell'attaccatura appena il burattino si accorse di avere i piedi salto giù dalla tavola dove stava disteso e principiò a fare mille sgambetti e mille capriole come se fosse ammattito dalla gran contentezza per ricompensarvi di quanto avete fatto per me disse pinocchio al suo babbo voglio subito andare a scuola bravo ragazzo ma per andare a scuola ho bisogno di un po' di vestito zeppetto che era povero e non aveva in tasca nemmeno un centesimo gli fece allora un vestituccio di carta fiorita un paio di scarpe di scorza d'albero e un berrettino di midolla di pane pinocchio corse subito a specchiarsi in una catinella piena d'acqua e rimase così contento di sé che disse pavoneggiandosi paio proprio un signore davvero replicò geppetto perché tienlo a mente non è il vestito bello che fa il signore ma è piuttosto il vestito pulito a proposito soggiunse il burattino per andare alla scuola mi manca sempre qualcosa anzi mi manca il più e il meglio cioè mi manca l'abbecedario hai ragione ma come si fa per averlo è facilissimo si va da un libraio e si compra e i quattrini io non ce li ho nemmeno io soggiunse il buon vecchio facendosi tristo e pinocchio sebbene fosse un ragazzo allegrissimo si fece tristo anche lui perché la miseria quando è miseria davvero la intendono tutti anche i ragazzi pazienza gridò geppetto tutt'antratto rizzandosi in piedi e infilatasi la vecchia casacca di fustagno tutta toppe e rimendi uscì correndo di casa poco dopo tornò e quando tornò aveva in mano l'abbecedario per il figliuolo ma la casacca non l'aveva più il pover'uomo era in maniche di camicia e fuori nevicava e la casacca babbo l'ho venduta perché l'avete venduta perché mi faceva caldo pinocchio capì questa risposta a volo e non potendo frenare l'impeto del suo buon cuore saltò il collo di geppetto e cominciò a baciarlo per tutto il viso pinocchio vende l'abbecedario per andare a vedere il teatrino dei burattini smesso che fu di nevicare pinocchio col suo bravo abbecedario nuovo sotto il braccio prese la strada che menava alla scuola e strada facendo fantasticava nel suo cervellino mille ragionamenti e mille castelli in aria uno più bello dell'altro e discorrendo da se solo diceva oggi alla scuola voglio subito imparare a leggere domani poi imparerò a scrivere e doman l'altro imparerò a fare i numeri poi con la mia abilità guadagnerò molti quattrini e coi primi quattrini che mi verranno in tasca voglio subito fare al mio babbo una bella casacca di panno ma che dico di panno gliela voglio fare tutta d'argento e d'oro e coi bottoni di brillanti e quel pover uomo se la merita davvero perché insomma per comprarmi libri e per farmi istruire è rimasto in maniche di camicia a questi freddi e non ci sono che i babbi che siano capaci di certi sacrifici mentre tutto commosso diceva così gli parve di sentire in lontananza una musica di pifferi e di colpi di gran cassa pi 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 zum 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 si fermò e stetti in ascolto quei suoni venivano di fondo a una lunghissima strada traversa che conduceva a un piccolo paesetto fabbricato sulla spiaggia del mare che cosa sia questa musica peccato che io debba andare a scuola se no rimase lì perplesso ad ogni modo bisognava prendere una risoluzione o andare a scuola o a sentire i pifferi oggi andrò a sentire i pifferi e domani a scuola per andare a scuola c'è sempre tempo disse finalmente quel monello facendo una spallucciata detto fatto infilò giù per la strada traversa e cominciò a correre a gambe più correva e più sentiva distinto il suono dei pifferi e dei tonfi della gran cassa pi 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 zum 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 quando ecco che si trovò in mezzo a una piazza tutta piena di gente la quale si affollava dintorno a un gran baraccone di legno e di tela dipinta di mille colori che cos'è quel baraccone domandò pinocchio voltandoci a un ragazzetto che era lì del paese leggi il cartello che c'è scritto e lo saprai lo leggerei volentieri ma per l'appunto oggi non so leggere bravo bue allora te lo leggerò io sappi dunque che in quel cartello a lettere rosse come il fuoco c'è scritto gran teatro dei burattini è molto che è incominciata la commedia comincia ora e quanto si spende per entrare quattro soldi pinocchio che aveva addosso la febbre della curiosità perse ogni ritegno e disse senza vergognarsi al ragazzetto col quale parlava mi daresti quattro soldi fino a domani te li darei volentieri rispose l'altro canzonandolo ma oggi per l'appunto non te li posso dare per quattro soldi ti vendo la mia giacchetta gli disse allora il burattino che vuoi che mi faccia di una giacchetta di carta fiorita se ci piove su non c'è verso di cavartela da dosso vuoi comprare le mie scarpe sono buone per accendere il fuoco quanto mi dai del berretto bello acquisto davvero un berretto di midolla di pane c'è il caso che i topi me lo vengono a mangiare in capo pinocchio era sulle spine stava lì lì per fare un'ultima offerta ma non aveva coraggio esitava tentennava pativa alla fine disse vuoi darmi quattro soldi di quest'abbecedario nuovo io sono un ragazzo e non compro nulla dai ragazzi gli rispose il suo piccolo interlocutore che aveva molto più giudizio di lui per quattro soldi l'abbecedario lo prendo io gli dò un rivenditore di panni usati che si era trovato presente alla conversazione e il libro fu venduto lì su due piedi e pensare che quel pover uomo di ceppetto era rimasto a casa a tremare dal freddo in maniche di camicia per comprare l'abbecedario al figliuolo i burattini riconoscono il loro fratello pinocchio e gli fanno una grandissima festa ma sul più bello esce fuori il burattinaio mangia fuoco e pinocchio corre il pericolo di fare una brutta fine quando pinocchio entrò nel teatrino delle marionette accadde un fatto che destò mezza rivoluzione bisogna sapere che il sipario era tirato su e la commedia era già incominciata sulla scena si vedevano arlecchino e pulcinella che bisticciavano fra di loro e secondo il solito minacciavano da un momento all'altro di scambiarsi un carico di schiaffi e di bastonate la platea tutta attenta si mandava a male dalle grandi risate nel sentire il battibecco di quei due burattini che gestivano e si trattavano d'ogni vitupero con tanta verità come se fossero proprio due animali ragionevoli e due persone di questo mondo quando all'improvviso che è che non è arlecchino smette di recitare e voltandosi verso il pubblico e accennando con la mano qualcuno in fondo alla platea comincia a urlare in tono melodrammatico nomi del firmamento sogno sondesto eppure quello laggiù è pinocchio è pinocchio davvero grida pulcinella è proprio lui strilla la signora rosaura facendo capolino in fondo alla scena è pinocchio è pinocchio urlano in coro tutti i burattini uscendo a salti fuori dalle quinte è pinocchio è il nostro fratello pinocchio evviva pinocchio pinocchio vieni quassù da me grida arlecchino vieni a gettarti fra le braccia dei tuoi fratelli di legno a questo affettuoso invito pinocchio spicca un salto e di fondo alla platea va nei posti distinti poi con un altro salto dai posti distinti monta sulla testa del direttore d'orchestra e di lì schizza sul palcoscenico è impossibile figurarsi gli abbracciamenti gli strizzoni di collo i pizzicotti dell'amicizia e le zuccate della vera e sincera fratellanza che pinocchio riceve in mezzo a tanto arruffio dagli attori e dalle attrici di quella compagnia drammatico vegetale questo spettacolo era commovente non c'è che dire ma il pubblico della platea vedendo che la commedia non andava più avanti si impazientì e prese a gridare vogliamo la commedia vogliamo la commedia tutto fiato buttato via perché i burattini invece di continuare la recita raddoppiarono il chiasso e le grida e postosi pinocchio sulle spalle se lo portarono in trionfo davanti ai lumi della ribalta allora uscì fuori il burattinaio un omone così brutto che metteva paura soltanto a guardarlo aveva una barbaccia nera come uno scarabocchio d'inchiostro e tanto lunga che gli scendeva dal mento fino a terra basta dire che quando camminava se la pestava coi piedi la sua bocca era larga come un forno i suoi occhi parevano due lanterne di vetro rosso col lume acceso di dietro e con le mani faceva schioccare una grossa frusta fatta di serpenti e di code di volpe attorcigliate insieme all'apparizione inaspettata del burattinaio ammutolirono tutti nessuno fiato più si sarebbe sentito volare una mosca quei poveri burattini maschi e femmine tremavano tutti come tante foglie perché sei venuto a mettere lo scompiglio nel mio teatro domandò il burattinaio a pinocchio con un vocione d'orco gravemente infreddato di testa la creda illustrissimo che la colpa non è stata mia basta così stasera faremo i nostri conti difatti finita la recita della commedia il burattinaio andò in cucina dove gli s'era preparato per cena un bel montone che girava lentamente infilato nello spiedo e perché gli mancavano la legna per finirlo di cuocere e di rosolare chiamò arlecchino e pulcinella e disse loro portatemi di qua quel burattino che troverete attaccato al chiodo mi pare un burattino fatto di un legname molto asciutto e sono sicuro che a buttarlo sul fuoco mi darà una bellissima fiammata all'arrosto arlecchino e pulcinella da principio agitarono ma impauriti da un'occhiataccia del loro padrone obbedirono e dopo poco tornarono in cucina portando sulle braccia il povero pinocchio il quale divincolandosi come un'anguilla fuori dell'acqua strillava disperatamente babbo mio salvatemi non voglio morire non voglio morire mangia fuoco sternutisce e perdona pinocchio il quale poi difende dalla morte il suo amico arlecchino il burattinaio mangia fuoco questo era il suo nome pareva un uomo spaventoso non dico di no specie con quella sua barbaccia nera che a uso di grembiale gli copriva tutto il petto e tutte le gambe ma nel fondo poi non era un cattiv'uomo prova ne sia che quando vide portarsi davanti quel povero pinocchio che si dibatteva per ogni verso urlando non voglio morire non voglio morire principiò subito a commuoversi e a impietosirsi e dopo aver resistito un bel pezzo alla fine non ne pote più e lasciò andare un sonorissimo starnuto a quello starnuto arlecchino che fino allora era stato afflitto e ripiegato come un salcio piangente si fece tutto allegro in viso e chinatosi verso pinocchio gli bisbigliò sottovoce buone nuove fratello il burattinaio ha starnutito e questo è il segno che si è mosso a compassione per te e oramai sei salvo perché bisogna sapere che mentre tutti gli uomini quando si sentono impietositi per qualcuno o piangono o perlomeno fanno finta di lasciugarsi gli occhi mangia fuoco invece ogni volta che si inteneriva davvero aveva il vizio di starnutire era un modo come un altro per dare a conoscere agli altri la sensibilità del suo cuore dopo aver starnutito il burattinaio seguitando a fare il burbero gridò a pinocchio finiscila di piangere i tuoi lamenti m'hanno messo un'uggiolina in fondo allo stomaco sento uno spasimo che quasi quasi e fece altri due starnuti felicità disse pinocchio grazie e il tuo babbo e la tua mamma sono sempre vivi gli domandò mangio a fuoco il babbo sì e la mamma non l'ho mai conosciuta chi lo sa che dispiacere sarebbe per il tuo vecchio padre se ora ti facessi gettare fra quei carboni ardenti povero vecchio lo compatisco e fece altri tre starnuti felicità disse pinocchio grazie dal resto bisogna compatire anche me perchè come vedi non ho più legna per finire di cuocere quel montone arrosto e tu dico la verità in questo caso mi avresti fatto un gran comodo ma ormai mi sono impietosito e ci vuol pazienza invece di te metterò a bruciare sotto lo spiedo qualche burattino della mia compagnia olà giandarmi a questo comando comparvero subito due giandarmi di legno lunghi lunghi secchi secchi col cappello a lucerna in testa e con la sciabola sfoderata in mano allora il burattinaio disse loro con voce rantolosa pigliatemi lì quell'arlecchino legatelo ben bene e poi gettatelo a bruciare sul fuoco io voglio che il mio montone sia arrostito bene figuratevi il povero arlecchino fu tanto il suo spavento che le gambe gli si ripiegarono e cadde bocconi per terra pinocchio alla vista di quello spettacolo straziante andò a gettarsi ai piedi del burattinaio e piangendo dirottamente e bagnandogli di lacrime tutti i peli della lunghissima barba cominciò a dire con voce supplichevole pietà signor mangiafuoco qui non ci sono signori replicò duramente il burattinaio pietà signor cavaliere qui non ci sono cavalieri pietà signor commendatore qui non ci sono commendatori pietà eccellenza a sentirsi chiamare eccellenza il burattinaio fece subito il bocchino tondo e diventato tutto a un tratto più umano e più trattabile disse a pinocchio ebbene che cosa vuoi da me vi domando grazia per il povero arlecchino qui non c'è grazia che tenga se ho risparmiato te bisogna che faccia mettere sul fuoco lui perché io voglio che il mio montone sia arrostito bene in questo caso si dò fieramente pinocchio rizzandosi e gettando via il suo berretto di midolla di pane in questo caso conosco qual è il mio dovere avanti signori giandarmi legatemi e gettatemi là fra quelle fiamme no non è giusta che il povero arlecchino il vero amico mio debba morire per me queste parole pronunciate con voce alta e con accento eroico fecero piangere tutti i burattini che erano plasenti a quella scena gli stessi giandarmi sebbene fossero di legno piangevano come due agnellini di latte mangia fuoco sul principio rimase duro e immobile come un pezzo di ghiaccio ma poi ad agio ad agio cominciò anche lui a commuoversi e a starnutire e fatti quattro o cinque starnuti aprì effettuosamente le braccia e disse a pinocchio tu sei un bravo ragazzo vieni qua da me e dammi un bacio pinocchio corse subito e arrampicandosi come uno scoiattolo su per la barba del burattinaio andò a posargli un bellissimo bacio sulla punta del naso dunque la grazia è fatta domandò il povero arlecchino con un fil di voce che si sentiva appena la grazia è fatta rispose mangia fuoco poi soggiunse sospirando e tentennando il capo pazienza per questa sera mi rassegnerò a mangiare il montone mezzo crudo ma un'altra volta guai a chi toccherà alla notizia della grazia ottenuta i burattini corsero tutti sul palcoscenico e accesi i lumi e i lampadari come in una serata di gala cominciarono a saltare e a ballare era l'alba e ballavano sempre il burattinaio mangia fuoco regala cinque monette d'oro a pinocchio perché le porti al suo babbo geppetto e pinocchio invece si lascia abbindolare dalla volpe e dal gatto e se ne va con loro il giorno di poi mangia fuoco chiamò in disparte pinocchio e gli domandò come si chiama tuo padre geppetto e che mestiere fa il povero guadagna molto guadagna tanto quanto ci vuole per non aver mai un centesimo in tasca si figuri che per comprarmi l'abbecedario della scuola dove vendere l'unica casacca che aveva addosso una casacca che fra toppe e rimendi era tutta una piaga povero diavolo mi fa quasi compassione ecco qui cinque monete d'oro vai subito a portargile e salutalo tanto da parte mia pinocchio come facile a immaginarselo ringraziò mille volte il burattinaio abbracciò a uno a uno tutti i burattini della compagnia anche i giandarmi e fuori di sé dalla contentezza si mise in viaggio per tornarsene a casa ma non aveva fatto ancora mezzo chilometro che incontrò per la strada una volpe zoppa a un piede e un gatto cieco da tutte e due gli occhi che se ne andavano là là aiutandosi fra di loro da buoni compagni di sventura la volpe che era zoppa camminava appoggiandosi al gatto e il gatto che era cieco si lasciava guidare dalla volpe buongiorno pinocchio gli disse la volpe salutandolo garbatamente com'è che sai il mio nome domandò il burattino conosco bene il tuo babbo dove l'hai veduto l'ho veduto ieri sulla porta di casa sua e che cosa faceva era in maniche di camicia e tremava dal freddo povero babbo ma se dio vuole da oggi in poi non tremerà più perché perché io sono diventato un gran signore un gran signore tu disse la volpe e cominciò a ridere di un riso sguaiato e canzonatore e il gatto rideva anche lui ma per non darlo a vedere si pettinava i baffi con le zampe davanti c'è poco da ridere gridò pinocchio impermalito mi dispiace davvero di farvi venire la colina in bocca ma queste qui se ve ne intendete sono cinque bellissime monete d'oro e tirò fuori le monete avute in regalo da mangiafuoco al simpatico suono di quelle monete la volpe per un moto involontario allungò la gamba che pareva rattrappita e il gatto spalancò tutte e due gli occhi che parevano due lanterne verdi ma poi li richiuse subito tant'è vero che pinocchio non si accorse di nulla e ora gli domandò la volpe che cosa vuoi farne di coteste monete prima di tutto rispuse il burattino voglio comprare per il mio babbo una bella casacca nuova tutta d'oro e d'argento e coi bottoni di brillanti e poi voglio comprare un abbecedario per me per te davvero perché voglio andare a scuola e mettermi a studiare a buono guarda a me disse la volpe per la passione sciocca di studiare ho perduto la vista di tutti e due gli occhi in quel mentre un merlo bianco che se ne stava appollaiato sulla siepe della strada fece il solito verso e disse pinocchio non dar retta ai consigli dai cattivi compagni se no te ne pentirai povero merlo non l'avesse mai detto il gatto spiccando un gran salto gli si avventò addosso e senza dargli nemmeno il tempo di dire oi se lo mangiò in un boccone con le penne e tutto mangiato che lebbe e ripulitasi la bocca chiusa gli occhi da capo e ricominciò a fare il cieco come prima povero merlo disse pinocchio al gatto perché l'ha trattato così male ho fatto per dargli una lezione così un'altra volta imparerà a non metter bocca nei discorsi degli altri erano giunti più che a mezza strada quando la volpe fermandosi di punto in bianco disse al burattino vuoi raddoppiare le tue monete d'oro cioè vuoi tu di cinque miserabili zecchini farne cento mille duemila magari e la maniera la maniera è facilissima invece di tornartene a casa dovresti venire con noi e dove mi volete condurre nel paese dei barbagianni pinocchio ci pensò un poco e poi disse risolutamente no non ci voglio venire ormai sono vicino a casa e voglio andarmene a casa dove c'è il mio babbo che mi aspetta chi lo sa povero vecchio quanto ha sospirato ieri a non vedermi tornare purtroppo io sono stato un figliuolo cattivo e il grillo parlante aveva ragione quando diceva i ragazzi disobbedienti non possono avere bene in questo mondo e io l'ho provato a mie spese perché mi sono capitate di molte disgrazie e anche ieri sera in casa di mangiafuoco ho corso pericolo mi viene ai bordoni soltanto a pensarci dunque disse la volpe vuoi proprio andare a casa tua allora vai pure e tanto peggio per te tanto peggio per te ripete il gatto pensati bene pinocchio perché tu dai un calcio alla fortuna alla fortuna ripete il gatto i tuoi cinque zecchini dall'oggi al domani sarebbero diventati duemila duemila ripete il gatto ma com'è possibile che diventino tanti domandò pinocchio restando a bocca aperta dallo stupore te lo spiego subito disse la volpe bisogna sapere che nel paese dei barbagianni c'è un campo benedetto chiamato da tutti il campo dei miracoli tu fai in questo campo una piccola buca e ci metti dentro per esempio uno zecchino d'oro poi ricopri la buca con un po di terra l'annaffi con due secchie d'acqua di fontana ci getti sopra una presa di sale e la sera te ne vai tranquillamente a letto intanto durante la notte lo zecchino germoglia e fiorisce e la mattina dopo di levata ritornando nel campo che cosa trovi trovi un bell'albero carico di tanti zecchini d'oro quanti chicchi di grano può avere una bella spiga nel mese di giugno sicché dunque disse pinocchio sempre più sbalordito se io sotterrassi in quel campo i miei cinque zecchini la mattina dopo quanti zecchini ci troverei è un conto facilissimo rispose la volpe un conto che puoi farlo sulla punta delle dita poni che ogni zecchino ti faccia un grappolo di cinquecento zecchini moltiplica il cinquecento per cinque e la mattina dopo ti trovi in tasca duemila cinquecento zecchini lampanti e sonanti ah che bella cosa gridò pinocchio ballando dall'allegrezza appena che questi zecchini li avrò raccolti ne prenderò per me duemila e gli altri cinquecento di più li darò in regalo a voi altri due un regalo per noi gridò la volpe sdegnandosi e chiamandosi offesa dio te ne liberi te ne liberi ripeté il gatto noi riprese la volpe non lavoriamo per il vila interesse noi lavoriamo unicamente per arricchire gli altri gli altri ripeté il gatto che brave persone pensò dentro di sé pinocchio e dimenticandosi lì sul tamburo del suo babbo della casacca nuova dell'abbecedario e di tutti i buoni proponimenti fatti disse alla volpe e gatto andiamo pure io vengo con voi l'osteria del gambero rosso cammina 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 alla fine sul far della sera arrivarono stanchi morti all'osteria del gambero rosso fermiamoci un po qui disse la volpe tanto per mangiare un boccone e per riposarci qualche ora a mezzanotte poi ripartiremo per essere domani all'alba nel campo dei miracoli entrati nell'osteria si posero tutti e tre a tavola ma nessuno di loro aveva appetito il povero gatto sentendoci gravemente indisposto di stomaco non poteva mangiare altro che 35 triglie con salsa di pomodoro e quattro porzioni di trippa alla parmigiana e perché la trippa non gli pareva condita abbastanza si rifece tre volte a chiedere il burro e il formaggio grattato la volpe avrebbe spelluzzicato volentieri qualche cosa anche lei ma siccome il medico le aveva ordinato una grandissima dieta così dove contentarsi di una semplice lepre dolce e forte con un leggerissimo contorno di pollastre ingrassate e di galletti di primo canto dopo la lepre si fece portare per torno a gusto un cibreino di pernici di starne di conigli di ranocchi di lucertone ed uva paradisa di lucertole ed uva paradisa e poi non volle altro aveva tanta nausea per il cibo diceva lei che non poteva accostarsi nulla alla bocca quello che mangiò meno di tutti fu pinocchio chiese uno spicchio di noce e un cantuccino di pane e lasciò nel piatto ogni cosa un povero figuolo col pensiero sempre fisso al campo dei miracoli aveva preso un'indigestione anticipata di monete d'oro quando ebbe cenato la volpe disse all'oste dateci due buone camere una per il signor pinocchio e un'altra per me e per il mio compagno prima di ripartire schiacceremo un sonnellino ricordatevi però che a mezzanotte vogliamo essere svegliati per continuare il nostro viaggio sì signori rispose l'oste e strizzò l'occhio alla volpe al gatto come dire ho mangiato la foglia e ci siamo intesi appena che pinocchio fu entrato nel letto si addormentò a colpo e principiò a sognare e sognando gli pareva di essere in mezzo a un campo e questo campo era pieno di arboscelli carichi di grappoli e questi grappoli erano carichi di zecchini d'oro che dondolandosi mossi dal vento facevano zin 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 quasi volessero dire chi ci vuole venga a prenderci ma quando pinocchio fu sul più bello quando cioè allungò la mano per prendere a manciate tutte quelle belle monete e mettersele in tasca si trovò svegliato all'improvviso da tre violentissimi colpi dati alla porta di camera era l'oste che veniva a dirgli che la mezzanotta era suonata e i miei compagni sono pronti gli domandò il burattino altro che pronti sono partiti due ore fa perché mai tanta fretta perché il gatto ha ricevuto un'imbasciata e il suo gattino maggiore malato di geloni ai piedi stava in pericolo di vita e la cena l'hanno pagata che vi pare quelle lì sono persone troppo educate perché facciano un affronto simile alla signoria vostra peccato quest'affronto m'avrebbe fatto tanto piacere disse pinocchio grattandosi il capo poi domandò e dove hanno detto di aspettarmi quei buoni amici al campo dei miracoli domattina allo spuntare del giorno pinocchio pagò uno zecchino per la cena sua e per quella dei suoi compagni e dopo partì ma si può dire che partisse a tastoni perché fuori dell'osteria c'era un buio così buio che non ci si vedeva da qui a lì nella campagna all'intorno non si sentiva alitare una foglia solamente alcuni uccellacci notturni traversando la strada da una siepe all'altra venivano a sbattere le ali sul naso di pinocchio il quale facendo un salto indietro per la paura gridava chi va là e l'eco delle colline circostanti ripeteva in lontananza chi va là chi va là chi va là intanto mentre camminava vide sul tronco di un albero un piccolo animaletto che riluceva di una luce pallida e opaca come un lumino da notte dentro una lampada di porcellana trasparente chi sei gli domandò pinocchio sono l'ombra del grillo parlante rispose l'animaletto con una vocina fioca fioca che pareva venisse dal mondo di là che vuoi da me disse il burattino voglio darti un consiglio ritorna indietro e porta i quattro zecchini che ti son rimasti al tuo povero babbo che piange e si dispera per non averti più veduto domani il mio babbo sarà un gran signore perché questi quattro zecchini diventeranno duemila non ti fidare ragazzo mio di quelli che promettono di farti ricco dalla mattina alla sera per il solito o sono matti o imbroglioni dai retta a me ritorna indietro e io invece voglio andare avanti l'ora è tarda voglio andare avanti la nottata è scura voglio andare avanti la strada è pericolosa voglio andare avanti ricordati che i ragazzi che vogliono fare di loro capriccio e a modo loro prima o poi se ne pentono le solite storie buonanotte grillo buonanotte pinocchio e che il cielo ti salvi dalla guazza e dagli assassini appena dette queste ultime parole il grillo parlante si spensa un tratto come si spegne un lume soffiandoci sopra e la strada rimase più buia di prima pinocchio per non aver dato retta ai buoni consigli del grillo parlante si imbatte negli assassini davvero disse fra sei il burattino rimettendosi in viaggio come siamo disgraziati noi altri poveri ragazzi tutti ci sgridano tutti ci ammoniscono tutti ci danno consigli a lasciarli dire tutti si metterebbero in capo di essere i nostri babbi e i nostri maestri tutti anche i grilli parlanti ecco qui perché io non ho voluto dar retta a quell'uggioso di grillo chi lo sa quante disgrazie secondo lui mi dovrebbero accadere dovrai incontrare anche gli assassini meno male che agli assassini io non ci credo né ci ho creduto mai per me gli assassini sono stati inventati apposta dai babbi per far paura ai ragazzi che vogliono andar fuori la notte e poi se anche li trovassi qui sulla strada mi darebbero forse soggezione e anche per sogno andrei loro sul viso gridando signori assassini che cosa vogliono da me si rammentino che con me non si scherza e se ne vadano dunque per i fatti loro e zitti a questa parlantina fatta sul serio quei poveri assassini mi par di vederli scapperebbero via come il vento caso poi fossero tanto ineducati da non voler scappare allora scapperei io e così la farei finita ma pinocchio non pote finire il suo ragionamento perché in quel punto gli parve di sentire dietro di sé un leggerissimo fruscio di foglie si voltò a guardare e vide nel buio due figuracce nere tutte imbaccuccate in due sacchi da carbone le quali correvano dietro a lui a salti e in punta di piedi come se fossero due fantasmi eccoli davvero disse dentro di sé e non sapendo dove nascondere i quattro zecchini se li nascose in bocca e precisamente sotto la lingua poi si provò a scappare ma non aveva ancora fatto il primo passo che sentìa guantarsi per le braccia e intese due voci orribili e cavernose che gli dissero o la borsa o la vita pinocchio non potendo rispondere con le parole a motivo delle monete che aveva in bocca fece mille salamelecchi e mille pantomime per dare ad intendere a quei due incappati di cui si vedevano soltanto gli occhi attraverso i buchi dei sacchi che lui era un povero burattino e che non aveva in tasca nemmeno un centesimo falso via via meno ciarle fuori i denari gridavano minocciosamente i due briganti e il burattino fece col capo e con le mani un segno come dire non ne ho metti fuori i denari o sei morto disse l'assassino più alto di statura morto ripete l'altro e dopo ammazzato te ammazzeremo anche tuo padre anche tuo padre no 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 il mio povero babbo no gridò pinocchio con accento disperato ma nel gridare così gli zecchini gli suonarono in bocca ah furfante dunque i denari te li sei nascosti sotto la lingua sputali subito e pinocchio duro ah tu fai il sordo aspetta un poco che penseremo noi a farteli sputare difatti uno di loro afferrò il burattino per la punta del naso e quell'altro lo prese per la bazza e lì cominciarono a tirare screanzatamente uno per in qua e l'altro per in là tanto da costringerlo a spalancare la bocca ma non ci fu verso la bocca del burattino pareva inchiodata e ribadita allora l'assassino più piccolo di statura cavato fuori un contellaccio provò a conficcargelo a guisa di leva e di scalpello fra le labbra ma pinocchio lesto come un lampo gazzannò la mano coi denti e dopo avergliela con un morso staccata di netto la sputò e figuratevi la sua meraviglia quando invece di una mano si accorse di aver sputato in terra uno zampetto di gatto incoraggiato da questa prima vittoria si liberò a forza dalle unghie degli assassini e saltata la siepe della strada cominciò a fuggire per la campagna e gli assassini a correre dietro a lui come due cani dietro a una lepre e quello che aveva perduto uno zampetto correva con una gamba sola ne si è saputo mai come facesse dopo una corsa di quindici chilometri pinocchio non ne poteva più allora vistosi perso si arrampicò su per il fusto di un altissimo pino e si pose a sedere in vetta ai rami gli assassini tentarono di arrampicarsi anche loro ma giunti a metà del fusto sdrucciolarono e ricascando a terra si spellarono le mani e i piedi non per questo si dettero per vinti che anzi raccolto un fastello di legne secche a piede del pino vi appiccarono il fuoco e men che non si dice il pino cominciò a bruciare e a divampare come una candela agitata dal vento pinocchio vedendo che le fiamme salivano sempre più e non volendo far la fine del piccione arrosto spiccò un bel salto di vetta all'albero e via a correre daccapo attraverso i campi e ai vigneti e gli assassini dietro sempre dietro senza stancarsi mai intanto cominciava a balluginare il giorno e si rincorrevano sempre quand'ecco che pinocchio si trovò sbarrato il passo da un fosso largo e profondissimo tutto pieno d'acquaccia sudicia color del caffè latte che fare una due tre gridò il bulattino e lanciandosi con una gran rincorsa saltò dall'altra parte e gli assassini saltarono anche loro ma non avendo preso bene la mira patapunfete cascarono giù nel bel mezzo del fosso pinocchio che sentì il tonfo e gli schizzi dell'acqua urlò ridendo e seguitando a correre buon bagno signori assassini e già si figurava che fossero bello affogati quando invece voltandoci a guardare si accorse che gli correvano dietro tutti e due sempre imbaccuccati nei loro sacchi e grondanti acqua come due panieri sfondati gli assassini inseguono pinocchio e dopo averlo raggiunto lo impiccano a un ramo della quercia grande allora il bulattino perdutosi d'animo fu proprio sul punto di gettarsi in terra e di darsi per vinto quando nel girare gli occhi all'intorno vide fra mezzo al verde cupo degli alberi piancheggiare in lontananza una casina candida come la neve se io avessi tanto fiato da arrivare fino a quella casa disse dentro di sé e senza indugiare un minuto riprese a correre per il bosco a carriera distesa e gli assassini sempre dietro e dopo una corsa disperata di quasi due ore finalmente tutto trafelato arrivò alla porta di quella casina e bussò nessuno rispose tornò a bussare con maggior violenza perché sentiva avvicinarsi il rumore dei passi e il respiro grosso e affannoso dei suoi persecutori lo stesso silenzio avvedutosi che il bussare non trovava a nulla cominciò per disperazione a dare calci e zuccate alla porta allora si affacciò alla finestra una bella bambina coi capelli turchini e il viso bianco come un'immagine di cera gli occhi chiusi e le mani incrociate sul petto la quale senza muovere punto le labbra disse con una vocina che pareva venisse dall'altro mondo in questa casa non c'è nessuno sono tutti morti aprimi almeno tu gridò pinocchio piangendo e raccomandandosi sono morta anch'io morta e allora che cosa fai costì alla finestra aspetto la bara che venga a portarmi via appena detto così la bambina disparve e la finestra si richiuse senza far rumore oh bella bambina dai capelli turchini gridava pinocchio aprimi per carità abbi compassione di un povero ragazzo inseguito dagli assas ma non pote finir la parola perché sentì afferrarsi per il collo e le solite due vociacce che gli brontolarono minacciosamente ora non ci scappi più e burattino vedendosi balenare la morte dinanzi agli occhi fu preso da un tremito così forte che nel tremare gli sonavano le giunture delle sue gambe di legno e i quattro zecchini che tenevano nascosti sotto la lingua dunque gli domandarono gli assassini vuoi aprirla la bocca sì o no ah non rispondi lascia fare che questa volta te la faremo aprir noi e cavato fuori due coltellacci lunghi lunghi e affilati come rasoi zaf e affibbiarono due colpi nel mezzo delle reni ma il burattino per sua fortuna era fatto d'un legno durissimo motivo per cui le lame spezzandoci andarono in mille schegge e gli assassini rimasero col manico dei coltelli in mano a guardarsi in faccia ho capito disse allora uno di loro bisogna impiccarlo impicchiamolo impicchiamolo ripete l'altro detto fatto gli legarono le mani dietro le spalle e passatogli un nodo scorsoio intorno alla gola lo attaccarono pensoloni al ramo di una grossa pianta detta la quercia grande poi si posero là seduti sull'erba aspettando che il burattino facesse l'ultimo sgambetto ma il burattino dopo tre ore aveva sempre gli occhi aperti la bocca chiusa e sgambettava più che mai annoiati finalmente di aspettare si voltarono a pinocchio e gli dissero sghignazzando addio a domani quando a domani torneremo qui si spera che ci farai la garbatezza di farti trovare belle morto e con la bocca spalancata e se ne andarono intanto s'era levato un vento impetuoso di tramontana che soffiando e mughiando con rabbia sbattacchiava in qua in là il povero impiccato facendolo dondolare violentemente come il battaglio di una campana che suona a festa e quel dondolio gli cagionava acutissimi spasimi e il nodo scorsoio stringendosi sempre più alla gola gli toglieva il respiro ma poco a poco gli occhi gli si appannavano e sebbene sentisse avvicinarsi la morte pure sperava sempre che da un momento all'altro sarebbe capitata qualche anima pietosa a dargli aiuto ma quando aspetta aspetta vide che non compariva nessuno proprio nessuno allora gli tornò in mente il suo povero babbo e palbettò quasi moribondo oh babbo mio se tu fossi qui e non ebbe fiato per dir altro chiuse gli occhi aprì la bocca stirò le gambe e dato un grande scrollone rimase lì come intirizzito la bella bambina dai capelli turchini fa raccogliere il burattino lo mette a letto e chiama tre medici per sapere se sia vivo o morto in quel mentre il povero pinocchio impiccato dagli assassini a un ramo della quercia grande pareva ormai più morto che vivo la bella bambina dai capelli turchini si affacciò da capo alla finestra e impietositasi alla vista di quell'infelice il sospeso per il collo ballava il trescone alle ventate di tramontana batte per tre volte le mani insieme e fece tre piccoli colpi a questo segnale si sentì un gran rumore d'ali che volavano con foga precipitosa e un grosso falco venne a posarsi sul davanzale della finestra di cosa comandate mia graziosa fata disse il falco abbassando il becco in atto di reverenza perché bisogna sapere che la bambina dai capelli turchini non era altro in fin dei conti che una buonissima fata che da più di mill'anni abitava nelle vicinanze di quel bosco vedi tu quel burattino attaccato penzoloni a un ramo della quercia grande lo vedo orbene vola subito laggiù rompi col tuo fortissimo becco il nodo che lo tiene sospeso in aria e posalo delicatamente sdraiato sull'erba a piede alla quercia il falco volò via e dopo due minuti tornò dicendo quel che mi avete comandato è fatto e come l'hai trovato vivo o morto a vederlo pareva morto ma non doveva essere ancora morto per bene perché appena gli ho sciolto il nodo scorsoio che lo stringeva intorno alla gola ha lasciato andare un sospiro malbettando a mezza voce ora mi sento meglio allora la fata battendo le mani insieme fece due piccoli colpi e apparve un magnifico cam barbone che camminava ritto sulle gambe di dietro tale e quale come se fosse un uomo il cam barbone era vestito da cocchiere in livrea di gala aveva in capo un nicchettino a tre punte gallonato d'oro una parrucca bianca coi riccioli che gli scendevano giù per il collo una giubba color cioccolata con bottoni di brillanti e due grandi tasche per tenervi gli ossi che gli regalava a pranzo la padrona un paio di calzoni corti di velluto cremisi le calze di seta gli scarpini scollati e di dietro una specie di fodera da ombrelli tutta di raso turchino per mettervi dentro la coda quando il tempo cominciava a piovere su da bravo e d'oro disse la fata al cam barbone fai subito attaccare la più bella carrozza della mia scuderia e prendi la via del bosco arrivato che sarai sotto la quersa grande troverai disteso sull'erba un povero burattino mezzo morto raccoglilo con garbo posalo pari pari sui cuscini della carrozza e portamelo qui hai capito il cam barbone per fare intendere che aveva capito dimenò tre o quattro volte la fodera di raso turchino che aveva dietro e partì come un bardero di ria poco si vide uscire dalla scuderia una bella carrozzina color dell'aria tutta imbottita di penne di canarino e foderata nell'interno di panna montata e di crema con savoiardi la carrozzina era tirata da cento pariglie di topini bianchi e il cam barbone seduto a cassetta schioccava la frusta a destra e a sinistra come un vetturino quando ha paura di aver fatto tardi non era ancora passato un quarto d'ora che la carrozzina tornò e la fata che stava aspettando sull'uscio di casa prese in collo il povero burattino e portatolo in una cameretta che aveva le pareti di madreperla andò subito a chiamare i medici più famosi del vicinato e i medici arrivarono subito uno dopo l'altro arrivò cioè un corvo una civetta e un grillo parlante vorrei sapere da lor signori disse la fata rivolgendosi ai tre medici riuniti intorno al letto di pinocchio vorrei sapere da lor signori se questo disgraziato burattino sia morto o vivo a quest'invito il corvo facendosi avanti per il primo tastò il polso a pinocchio poi gli tastò il naso poi il dito mignolo dei piedi e quando ebbe tastato ben bene pronunziò solennemente queste parole a mio credere il burattino è bello morto ma se per disgrazia non fosse morto allora sarebbe indizio sicuro che è sempre vivo mi dispiace disse la civetta di dover contraddire il corvo mio illustre amico e collega per me invece il burattino è sempre vivo ma se per disgrazia non fosse vivo allora sarebbe segno che è morto davvero e lei non dice nulla domandò la fata il grillo parlante io dico che il medico prudente quando non sa quello che dice la miglior cosa che possa fare è quella di stare zitto nel resto quel burattino lì non è fisionomia nuova io lo conosco da un pezzo pinocchio che fin da allora era stato immobile come un vero pezzo di legno ebbe una specie di fremito convulso che fece scuotere tutto il letto quel burattino lì seguì a dire il grillo parlante è una birba matricolata pinocchio aprì gli occhi e li richiuse subito è un monellaccio uno svogliato un vagabondo pinocchio si nascose la faccia sotto i lenzuoli quel burattino lì è un figliuolo disubbediente che farà morire di crepacuore il suo povero babbo a questo punto si sentì nella camera un suono soffocato di pianti e di singhiozzi figuratevi come rimasero tutti allorché sollevati un poco i lenzuoli si accorsero che quello che piangeva e singhiozzava era pinocchio quando il morto piange è segno che è in via di guarigione disse solennemente il corvo mi duole contraddire il mio illustre amico e collega soggiunse la civetta ma per me quando il morto piange è segno che gli dispiace a morire pinocchio mangia lo zucchero ma non vuol purgarsi però quando vede i becchini che vengono a portarlo via allora si purga poi dice una bugia e per gastigo gli cresce il naso appena i tre medici furono usciti di camera la fata si accostò a pinocchio e dopo averlo toccato sulla fronte si accorse che era travagliato da un febbrone da non si dire allora sciolse una certa polverina bianca in un mezzo bicchier d'acqua e porgendolo al burattino gli disse amorosamente bevila e in pochi giorni sarai guarito pinocchio guardò il bicchiere storse un po la bocca e poi dimanda con voce di piagnisteo è dolce o amara è amara ma ti farà bene se è amara non la voglio la retta a me bevila a me la mano non piace bevila e quando l'avrai bevuta ti darò una pallina di zucchero per rifarti la bocca dov'è la pallina di zucchero eccola qui disse la fata tirandola fuori da una zuccheriera d'oro prima voglio la pallina di zucchero e poi beverò quella acquaccia amara me lo prometti sì la fata gli dette la pallina e pinocchio dopo averla sgranocchiata ingoiata in un attimo disse leccandosi i labbri bella cosa se anche lo zucchero fosse una medicina mi purgherai tutti i giorni ora mantieni la promessa e bevi queste poche gocciole d'acqua che ti renderanno la salute pinocchio prese di malavoglia il bicchiere in mano e vi ficcò dentro la punta del naso poi se l'accostò alla bocca poi tornò a ficcarci la punta del naso finalmente disse è troppo amara troppo amara io non la posso bere come fai a dirlo se non l'hai nemmeno assaggiata me lo figuro l'ho sentita all'odore voglio prima un'altra pallina di zucchero e poi la beverò allora la fata con tutta la pazienza di una buona mamma gli pose in bocca un altro po di zucchero e dopo gli presentò da capo il bicchiere così non la posso bere disse il burattino facendo mille smorfie perché perché mi da noia quel guanciale che ho laggiù sui piedi la fata gli levò il guanciale è inutile nemmeno così la posso bere e cos'altro ti da noia mi da noia l'uscio di camera che è mezzo aperto la fata andò e chiuse l'uscio di camera insomma gridò pinocchio dando in uno scoppio di pianto questa quaccia amara non la voglio bere no 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 ragazzo mio ragazzo mio te ne pentirai non me ne importa la tua malattia è grave non me ne importa la febbre ti porterà in poche ore all'altro mondo non me ne importa non hai paura della morte punto paura piuttosto morire che bevere quella medicina cattiva a questo punto la porta della camera si spalancò ed entrarono dentro quattro conigli neri come l'inchiostro che portavano sulle spalle una piccola vara da morto che cosa volete da me gridò pinocchio rizzandosi tutto impaurito a sedere sul letto siamo venuti a prenderti rispose il coniglio più grosso a prendermi ma io non sono ancora morto ancora no ma ti restano pochi minuti di vita avendo tu ricusato di bevere la medicina che ti avrebbe guarito dalla febbre oh fata oh fata mia cominciò allora a strillare il burattino datemi subito quel bicchiere spicciatevi per carità perché non voglio morire no non voglio morire e preso il bicchiere con tutte e due le mani lo vuotò in un fiato pazienza dissero i conigli per questa volta abbiamo fatto il viaggio a ufo e tiratisi di nuovo la piccola bara sulle spalle uscirono di camera boffonchiando e mormorando fra i denti fatto sta che di lì a pochi minuti pinocchio saltò giù dal letto bello e guarito perché bisogna sapere che i burattini di legno hanno il privilegio di ammalarsi di rado e di guarire prestissimo e la fata vedendolo correre e ruzzare per la camera vispo e allegro come un gallettino di primo canto gli disse dunque la mia medicina t'ha fatto bene davvero altro che bene mi ha rimesso al mondo e allora come mai ti sei fatto tanto pregare per beverla e è che noi ragazzi siamo tutti così abbiamo più paura delle medicine che del male vergogna i ragazzi dovrebbero sapere che un buon medicamento preso a tempo può salvarli da una grave malattia e forse anche dalla morte oh ma un'altra volta non mi farò tanto pregare mi rammenterò di quei conigli neri con la bara sulle spalle e allora piglierò subito il bicchiere in mano e giù ora vieni un po' qui da me e raccontami come andò che ti trovasti fra le mani degli assassini e andò che il burattinaio mangia fuoco vedette alcune monete d'oro e mi disse no portali al babbo tuo e io invece per la strada trovai una volpe e un gatto due persone molto per bene che mi dissero vuoi che queste monete diventino mille e duemila vieni con noi e ti condurremmo al campo dei miracoli e io dissi andiamo e loro dissero fermiamoci qui all'osteria del gambero rosso e dopo la mezzanotte ripartiremo ed io quando mi svegliai loro non c'erano più perché erano partiti allora io cominciai a camminare di notte a dare a buio che pareva impossibile per cui trovai per la strada due assassini dentro due sacchi da carbone che mi dissero metti fuori i quattrini e io dissi non ce l'ho perché le quattro monete d'oro me l'erano nascosta in bocca e uno degli assassini si provò a mettermi le mani in bocca e io con un morso gli staccai la mano e poi la sputai ma invece di una mano sputai uno zampetto di gatto e gli assassini a corrermi dietro e io corri che ti corro finché mi raggiunsero e mi legarono per il collo a un albero di questo bosco col dire domani torneremo qui allora sarai morto e con la bocca aperta e così ti porteremo via le monete d'oro che hai nascoste sotto la lingua e ora le quattro monete dove le hai messe gli domandò la fata le ho perdute rispose pinocchio ma disse una bugia perché invece le aveva in tasca appena detta la bugia il suo naso che era già lungo gli crebbe subito due dita di più e dove le hai perdute nel bosco qui vicino a questa seconda bugia il naso seguitò a crescere se le hai perdute nel bosco vicino disse la fata le cercheremo e le ritroveremo perché tutto quello che si perde nel vicino bosco si ritrova sempre ah ora che mi rammento bene replicò il burattino imbrogliandosi le quattro monete non le ho perdute ma senza vedermene le ho inghiottite mentre bevevo la vostra medicina a questa terza bugia il naso gli si allungò in un modo così straordinario che il povero pinocchio non poteva più girarsi da nessuna parte se si voltava di qui batteva il naso nel letto o nei vetri della finestra se si voltava di là lo batteva nelle pareti o nella porta di camera si alzava un po di più il capo correva il rischio di ficcarlo in un occhio alla fata e la fata lo guardava e rideva perché ridete gli domandò il burattino tutto confuso e impensierito di quel suo naso che cresceva a occhiate rido della bugia che hai detto come mai sapete che ho detto una bugia le bugie ragazzo mio si riconoscono subito perché ve ne sono di due specie vi sono le bugie che hanno le gambe corte e le bugie che hanno il naso lungo la tua per l'appunto è di quelle che hanno il naso lungo pinocchio non sapendo più dove nascondersi per la vergogna si provò a fuggire di camera ma non gli riuscì il suo naso era cresciuto tanto che non passava più dalla porta pinocchio ritrova la volpe e il gatto e va con loro a seminare le quattro monete nel campo dei miracoli come potete immaginarvelo la fata lasciò che il burattino piangesse e urlasse una buona mezz'ora a motivo di quel suo naso che non passava più dalla porta di camera e lo fece per dargli una severa lezione perché si correggesse dal brutto vizio di dir le bugie il più brutto vizio che possa avere un ragazzo ma quando lo vide trasfigurato e con gli occhi fuori dalla testa dalla gran disperazione allora mossa a pietà batte le mani insieme e a quel segnale entrarono in camera dalla finestra un migliaio di grossi uccelli chiamati picchi i quali posatisi tutti sul naso di pinocchio cominciarono a beccarglielo tanto e poi tanto che in pochi minuti quel naso enorme e spropositato si trovò ridotto alla sua grandezza naturale quanto siete buona fatina mia disse il burattino asciugandosi gli occhi e quanto bene vi voglio ti voglio bene anch'io rispose la fata e se tu vuoi rimanere con me tu sarai il mio fratellino e io la tua buona sorellina io resterai volentieri ma il mio povero babbo ho pensato a tutto il tuo babbo è stato di già avvertito e prima che faccia notte sarà qui davvero gridò pinocchio saltando dall'allegrezza allora fatina mia se vi contentate vorrei andargli incontro non vedo l'ora di poter dare un bacio a quel povero vecchio che ha sofferto tanto per me vai pure ma bada di non ti sperdere prendi la via del bosco e sono sicurissima che lo incontrerai pinocchio partì e appena entrato nel bosco cominciò a correre come un capriolo ma quando fu arrivato a un certo punto quasi in faccia alla quersa grande si fermò perché gli parve di aver sentito gente fra mezzo alle frasche difatti vide apparire sulla strada indovinate chi la volpe e il gatto ossia i due compagni di viaggio coi quali aveva accenato all'osteria del gambero rosso ecco il nostro caro pinocchio gridò la volpe abbracciandolo e baciandolo come mai sei qui ripete il gatto è una storia lunga disse il burattino e ve la racconterò a comodo sappiate però che l'altra notte quando mi avete lasciato solo nell'osteria ho trovato gli assassini per strada gli assassini oh povero amico e che cosa volevano mi volevano rubare le monete d'oro infami disse la volpe infamissimi ripete il gatto e io cominciai a scappare continuò a dire il burattino e loro sempre dietro finché mi raggiunsero e mi impiccarono a un ramo della quercia e pinocchio accennò la quercia grande che era lì a due passi si può sentir di peggio disse la volpe in che modo siamo condannati a vivere dove troveremo un rifugio sicuro noi altri galantuomini nel tempo che parlavano così pinocchio si accorse che il gatto era zoppo dalla gamba destra davanti perché gli mancava in fondo tutto lo zampetto con gli unghioli per cui gli domandò che cosa hai fatto del tuo zampetto il gatto voleva nascondere qualche cosa ma si imbrogliò allora la volpe disse subito il mio amico è troppo modesto e per questo non risponde risponderò io per lui sappi dunque che un'ora fa abbiamo incontrato sulla strada un vecchio lupo quasi svenuto dalla fame che si ha chiesto un po' cremosina non avendo noi da dargli nemmeno una lisca di pesce che cosa ha fatto l'amico mio che ha davvero un cuore di cesare si è staccato coi denti uno zampetto delle sue gambe davanti e l'ha gettato a quella povera bestia perché potesse sdigiunarsi e la volpe nel dir così si asciugò una lacrima pinocchio commosso anche lui si avvicinò al gatto sussurrandogli negli orecchi se tutti i gatti ti somigliazzero fortunati i topi e ora che cosa fai in questi luoghi domandò la volpe al burattino aspetto il mio babbo che deve arrivare qui di momento in momento e le tue monete d'oro le ho sempre in tasca meno una che la spesi all'osteria del gambero rosso e pensare che invece di quattro monete potrebbero diventare domani mille e duemila perché non dai retta al mio consiglio perché non vai a seminarle nel campo dei miracoli oggi è impossibile pianderò un altro giorno un altro giorno sarà tardi disse la volpe perché perché quel campo è stato comprato da un gran signore e da domani in là non sarà più permesso a nessuno di seminarvi i denari quant'è distante di qui il campo dei miracoli a due chilometri appena vuoi venire con noi fra mezz'ora sei là semini subito le quattro monete dopo pochi minuti ne raccogli duemila e stasera ritorni qui con le tasche piene vuoi venire con noi pinocchio esitò un poco a rispondere perché gli tornò in mente la buona fata il vecchio geppetto e gli avvertimenti del grillo parlante ma poi finì col fare come fanno tutti i ragazzi senza un fil di giudizio e senza cuore finì cioè col dare una scrollatina di capo e disse alla volpe e al gatto andiamo pure io vengo con voi e partirono dopo aver camminato una mezza giornata arrivarono a una città che aveva nome a chiappa citrulli appena entrato in città pinocchio vide tutte le strade popolate di cani spelacchiati che sbadigliavano dall'appetito di pecore tosate che tremavano dal freddo di galline rimaste senza creste e senza bergigli che chiedevano l'elemosina di un chicco di gran turco di grosse farfalle che non potevano più volare perché avevano venduto le loro bellissime ali colorate di pavoni tutti scodati che si vergognavano a farsi vedere e di fagiani che zampettavano cheti cheti rimpiangendo le loro scintillanti penne d'oro ed argento ormai perdute per sempre in mezzo a questa folla di accattoni e di poveri vergognosi passavano di tanto in tanto alcune carrozze e signoridi con dentro o qualche volpe o qualche gazza ladra o qualche uccellaccio di rapina il campo dei miracoli dov'è domandò pinocchio è qui a due bassi detto fatto traversarono la città e usciti fuori dalle mura si fermarono in un campo solitario che su per giù somigliava a tutti gli altri campi eccoci giunti disse la volpe al burattino ora chinati giù a terra scava con le mani una piccola buca nel campo e mettici dentro le monete d'oro pinocchio ubbidì scavò la buca ci pose le quattro monete d'oro che gli erano rimaste e dopo ricoprì la buca con un po di terra ora poi disse la volpe vai alla gora qui vicina prendi una secchia d'acqua e annaffia il terreno dove hai seminato pinocchio andò alla gora e perché non aveva lì per lì una secchia si levò di piedi una ciabatta e riempitala d'acqua annaffiò la terra che copriva la buca poi domandò c'è altro da fare nient'altro disse la volpe ora possiamo andar via tu poi ritorna qui fra una ventina di minuti e troverai l'arboscello già spuntato dal suolo e coi rami tutti carichi di monete il povero burattino fuori di sé dalla contentezza ringraziò mille volte la volpe e il gatto e promise loro un bellissimo regalo noi non vogliamo regali risposero quei due malanni a noi ci basta di averti insegnato il modo di arricchire senza durare fatica e siamo contenti come pasque ciò detto salutarono pinocchio e augurandogli una buona raccolta se ne andarono per i fatti loro pinocchio è derubato delle sue monete d'oro e per gastigo si busca quattro mesi di prigione il burattino ritornato in città cominciò a contare i minuti a uno a uno e quando gli parve che fosse l'ora riprese subito la strada che menava al campo dei miracoli e mentre camminava con passo frettoloso il cuore gli batteva forte e gli faceva tic tac tic tac come un orologio da sala quando corre davvero e intanto pensava dentro di sé e se invece di mille monete ne trovassi sui rami dell'albero duemila e se invece di duemila ne trovassi cinquemila e se invece di cinquemila ne trovassi centomila oh che bel signore allora che diventerei vorrei avere un bel palazzo mille cavallini di legno e mille scuderie per potermi baloccare una cantina di rosoli e di elkermess e una libreria tutta piena di canditi di torte di panettoni di mandorlati e di cialdoni colla panna così fantasticando giunse in vicinanza del campo e lì si fermò a guardare se per caso avesse potuto scorgere qualche albero coi rami carichi di monete ma non vide nulla fece altri cento passi in avanti e nulla entrò sul campo andò proprio su quella piccola buca dove aveva sotterrato i suoi zecchini e nulla allora diventò pensieroso e dimenticando le regole del galateo e della buona creanza tirò fuori una mano di tasca e si dette una lunghissima grattatina di capo in quel mentre sentì fischiare negli orecchi una gran risata e voltandosi in su vide sopra un albero un grosso pappagallo che spollinava le poche penne che aveva addosso perché ridi gli domandò pinocchio con voce di bizza rido perché nello spollinarmi mi son fatto il solletico sotto le ali il burattino non rispose andò alla gora e riempita d'acqua la solita ciabatta si pose nuovamente ad annaffiare la terra che ricopriva le monete d'oro quando ecco che un'altra risata anche più impertinente della prima si fece sentire nella solitudine silenziosa di quel campo insomma gridò pinocchio arrabbiandosi si può sapere pappagallo maleducato di che cosa ridi rido di quei barbagianni che credono a tutte le scioccherie e si lasciano trappolare da chi è più furbo di loro parli forse di me parlo di te povero pinocchio di te che sei così dolce di sale a credere che i denari si possano seminare e raccogliere nei campi come si seminano i fagioli e le zucche anch'io l'ho creduto una volta e oggi ne porto le pene oggi ma troppo tardi mi sono dovuto persuadere che per mettere insieme onestamente pochi soldi bisogna saperseli guadagnare o col lavoro delle proprie mani o con l'ingegno della propria testa non ti capisco disse il burattino che già cominciava a tremare dalla paura pazienza mi spiegherò meglio soggiunse il pappagallo sappi dunque che mentre tu eri in città la volpa e il gatto sono tornati in questo campo hanno preso le monette d'oro sotterrate e poi sono fuggiti come il vento e ora chi li raggiunge è bravo pinocchio restò a bocca aperta e non volendo credere alle parole del pappagallo cominciò con le mani e con le unghie a scavare il terreno che aveva annaffiato e scava 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 fece una buca così profonda che ci sarebbe entrato per ritto un pagliaio ma le monete non c'erano più allora preso dalla disperazione tornò di corsa in città e andò di filato in tribunale per denunziare al giudice i due malandrini che lo avevano derubato il giudice era uno scimmione della razza dei gorilla un vecchio scimmione rispettabile per la sua grave età per la sua barba bianca e specialmente per i suoi occhiali d'oro senza vetri che era costretto a portare continuamente a motivo di una flussione d'occhi che lo tormentava da parecchi anni pinocchio alla presenza del giudice raccontò per filo e per segno l'inigua frode di cui era stato vittima dette il nome il cognome e i connotati dei malandrini e finì col chiedere giustizia il giudice lo ascoltò con molta benignità presi vivissima arte al racconto si intenerì si commosse e quando il burattino non ebbe più nulla da dire allungò la mano e suonò il campanello a quella scampanellata comparvero subito due cammastini vestiti da gendarmi allora il giudice accennando pinocchio ai gendarmi disse loro quel povero figliuolo è stato derubato di quattro monete d'oro pigliatelo dunque e mettetelo subito in prigione il burattino sentendosi dare questa sentenza fra capo e collo rimase di princisbecco e voleva protestare ma i gendarmi a scarso di perditempi inutili gli tapparono la bocca e lo condussero in gattabuia e lì vebbe a rimanere quattro mesi quattro lunghissimi mesi e vi sarebbe rimasto anche di più se non si fosse dato un caso fortunatissimo perché bisogna sapere che il giovane imperatore che regnava nella città di acchiappa citrulli avendo riportato una gran vittoria contro i suoi nemici ordinò grandi feste pubbliche luminarie fuochi artificiali corse di barberi e velocipedi e in segno di maggiore esultanza volle che fossero aperte le carceri e mandati fuori tutti i malandrini se escono di prigione gli altri voglio uscire anch'io disse pinocchio al carceriere voi no disse il carceriere perché voi non siete del bel numero domando scusa replicò pinocchio sono un malandrino anch'io in questo caso avete mille ragioni disse il carceriere e levandosi il berretto rispettosamente e salutandolo gli aprì le porte della prigione e lo lasciò scappare liberato dalla prigione si avvia per tornare a casa della fata ma lungo la strada trova un serpente orribile e poi rimane preso alla tagliola figuratevi l'allegrezza di pinocchio quando si sentì libero senza stare a dire che è e che non è uscì subito fuori della città e riprese la strada che doveva condurlo alla casina della fata a motivo del tempo più viginoso la strada era diventata tutta un pantano e ci si andava fino a mezza gamba ma il burattino non se ne dava per inteso tormentato dalla passione di rivedere il suo babbo e la sua sorellina dai capelli turchini correva a salti come un cane levriero e nel correre le pillacchiere gli schizzavano fin sopra il berretto intanto andava dicendo fra sé e sé quante disgrazie mi sono accadute e me le merito perché io sono un burattino testardo e piccoso e voglio far sempre tutte le cose a modo mio senza dar retta a quelli che mi vogliono bene e che hanno mille volte più giudizio di me ma da questa volta in là faccio proponimento di cambiare vita e di diventare un ragazzo a modo e obbediente tanto ormai ho belle visto che i ragazzi a essere disobbedienti ci scapitano sempre e non ne infilano mai una per il subverso e il mio babbo mi avrà aspettato ce lo troverò a casa della fata è tanto tempo povero uomo che non lo vedo più che mi struggo di fargli mille carezze e di finirlo dai baci ma la fata mi perdonerà la bruttazione che le ho fatto e pensare che ho ricevuto da lei tante attenzioni e tante cure amorose e pensare che se oggi sono sempre vivo lo debbo a lei ma si può dare un ragazzo più ingrato e più senza cuore di me nel tempo che diceva così si fermò tutto a un tratto spaventato e fece quattro passi indietro che cosa aveva veduto aveva veduto un grosso serpente disteso attraverso la strada che aveva la pelle verde gli occhi di fuoco e la coda puntuta che gli fumava come una cappa di camino impossibile immaginarsi la paura del burattino il quale allontanandosi più di mezzo chilometro si mise a sedere sopra un monticello di sassi aspettando che il serpente se ne andasse una buona volta per i fatti suoi e lasciasse libero il passo della strada aspettò un'ora due ore tre ore ma il serpente era sempre là e anche di lontano si vedeva il rosseggiare dei suoi occhi di fuoco e la colonna di fumo che gli usciva dalla punta della coda allora Pinocchio figurandosi di aver coraggio si avvicinò a pochi passi di distanza e facendo una vocina dolce, insinuante e sottile disse al serpente scusi, signor serpente che mi farebbe il piacere di tirarsi un pochino da parte tanto da lasciarmi passare fu lo stesso che dirà il muro nessuno si mosse allora riprese con la solita vocina deve sapere, signor serpente che io vado a casa dove c'è il mio babbo che mi aspetta e che è tanto tempo che non lo vedo più si contenta dunque che io seguiti per la mia strada aspettò un segno di risposta a quella domanda ma la risposta non venne anzi, il serpente che fin allora pareva arzillo e pieno di vita diventò immobile e quasi irrigidito gli occhi gli si chiusero e la coda gli smesse di fumare che sia morto davvero? disse Pinocchio dandosi una fregatina di mani dalla gran contentezza e senza mettere tempo in mezzo fece l'atto di scavalcarlo per passare dall'altra parte della strada ma non aveva ancora finito di alzare la gamba che il serpente si rizzò all'improvviso come una molla scattata e il burattino nel tirarsi indietro spaventato inciampò e cadde per terra e per l'appunto cadde così male che restò col capo conficcato nel fango della strada e con le gambe ritte su in aria alla vista di quel burattino che sgambettava a capofitto con una velocità incredibile il serpente fu preso da una tal convulsione di risa che ridi, ridi, ridi alla fine dallo sforzo del troppo ridere gli si strappò una vena sul petto e quella volta morì davvero allora Pinocchio ricominciò a correre per arrivare a casa della fata prima che si facesse buio ma lungo la strada non potendo più leggere ai morsi terribili della fame saltò in un campo con l'intenzione di cogliere poche ciocche ed uva moscadella non l'avesse mai fatto appena giunto sotto la vite crac sentì stringersi le gambe dei due ferri taglienti che gli fecero vedere quante stelle c'erano in cielo il povero burattino era rimasto preso da una tagliola appostata là da alcuni contadini per beccarvi alcune grosse faine che erano il flagello di tutti i pollaio del vicinato Pinocchio è preso da un contadino il quale lo costringe a far da canda guardia un pollaio Pinocchio come potete figurarvelo si dette a piangere a strillare a raccomandarsi ma erano pianti e grida inutili perché lì all'intorno non si vedevano case e dalla strada non passava anima viva intanto si fece notte un po' per lo spasimo della tagliola che gli segava gli stinchi un po' per la paura di trovarsi solo e al buio in mezzo a quei campi il burattino principiava quasi a svenirsi quando a un tratto vedendosi passare una lucciola di sul capo la chiamò e le disse oh lucciolina mi faresti la carità di liberarmi da questo supplizio povero figliuolo replicò la lucciola fermandosi impietosita a guardarlo come mai sei rimasto con le gambe attanagliate fra codesti ferri arrotati sono entrato nel campo per cogliere due grappoli di quest'uva moscadella e ma l'uva era tua no e allora chi ti ha insegnato a portare via la roba degli altri avevo fame la fame ragazzo mio non è una buona ragione per poter appropriarsi la roba che non è nostra è vero gridò Pinocchio piangendo ma un'altra volta non lo farò più a questo punto il dialogo fu interrotto da un piccolissimo rumore di passi che si avvicinavano era il padrone del campo che veniva in punta di piedi a vedere se qualcuna di quelle faine che mangiavano di nottetempo i polli fosse rimasta al trabocchetto della tagliuola e la sua meraviglia fu grandissima quando tirata fuori la lanterna di sotto il pastrano si accorse che invece di una faina ti era rimasto preso un ragazzo a ladricchiolo disse il contadino incolverito dunque sei tu che mi porti via le galline io no io no gridò Pinocchio singhiozzando io sono entrato nel campo per prendere soltanto due grappoli d'uva chi ruba l'uva è capacissimo di rubare anche i polli lascia fare a me che ti darò una lezione da ricordartene per un pezzo e aperta la tagliola afferrò il burattino per la collottola e lo portò di peso fino a casa come si porterebbe un agnellino di latte arrivato che fu sull'aia di lanzi alla casa lo scaraventò in terra e tenendogli un piede sul collo gli disse ormai è tardi e voglio andare a letto i nostri conti li aggiusteremo domani intanto siccome oggi mi è morto il cane che mi faceva la guardia di notte tu prenderai subito il suo posto tu mi farai da cane di guardia detto fatto gli infilò al collo un grosso collare tutto coperto di spunzoni di ottone e glielo strense in modo da non poterselo levare passandoci la testa dentro al collare si era attaccata una lunga catenella di ferro e la catenella era fissata nel muro se questa notte disse il contedino cominciasse a piovere tu puoi andare a cuccia in quel casotto di legno dove c'è sempre la paglia che ha servito di letto per quattro anni al mio povero cane e se per disgrazia venissero i ladri ricordati di stare a orecchi ritti e di abbaiare dopo quest'ultimo avvertimento il contedino entrò in casa chiudendo la porta con tanto di catenaccio un povero pinocchio rimase accuvacciato sull'aia più morto che vivo a motivo del freddo della fame e della paura e di tanto in tanto cacciandosi rabbiosamente le mani dentro al collare che gli serrava la gola diceva piangendo mi sta bene purtroppo mi sta bene ho voluto fare lo svegliato il vagabondo ho voluto dar retta ai cattivi compagni e per questo la sfortuna mi perseguita sempre se fossi stato un ragazzino per bene come ce ne tanti se avessi avuto voglia di studiare e di lavorare se fossi rimasto in casa col mio povero babbo a quest'ora non mi troverei qui in mezzo ai campi a fare il cane di guardia alla casa di un contadino se potessi rinascere un'altra volta ma ormai è tardi e ci vuole pazienza fatto questo piccolo sfogo che gli venne proprio dal cuore entrò dentro il casotto e si addormentò Pinocchio scuopre i ladri e ricompensa di essere stato fedele venne posto in libertà ed era già più di due ore che dormiva saporitamente quando verso la mezzanotte fu svegliato da un bisbiglio e da un pissi pissi di vocine strane che gli pareva di sentire nell'aia messa fuori la punta del naso dalla buca del casotto vide riuniti a consiglio quattro bestiguole di pelame scuro che parevano gatti ma non erano gatti erano faine animaletti carnivori diottissime specialmente di uova e di pollastrine giovani una di queste faine staccandosi dalle sue compagne andò alla buca del casotto e disse sottovoce buonasera melampo io non mi chiamo melampo rispose il burattino o dunque chi sei io sono pinocchio e che cosa fai costi faccio il cane da guardia o melampo dov'è dov'è il vecchio cane che stava in questo casotto è morto questa mattina morto povera bestia era tanto buono ma giudicandoti alla fisionomia anche te mi sembri un cane di garbo domando scusa io non sono un cane oh chi sei io sono un burattino e fai da cane di guardia purtroppo per mia punizione ebbene ebbene io ti propongo gli stessi patti che avevo col defunto melampo e sarai contento questi patti sarebbero noi verremo una volta alla settimana come per il passato a visitare di notte questo pollaio e porteremo via otto galline di queste galline sette le mangeremo noi e una la daremo a te a condizione si intende bene che tu faccia finta di dormire e non ti venga mai l'estro di abbaiare e di svegliare il contadino e melampo faceva proprio così domandò Pinocchio faceva così e fra noi e lui siamo andati sempre d'accordo dormi dunque tranquillamente e stai sicuro che prima di partire di qui ti lasceremo sul casotto una gallina bella e pelata per la colazione di domani ci siamo intesi bene anche troppo bene rispose Pinocchio e tentennò il capo in un certo modo minaccioso come se avesse voluto dire fra poco ci riparleremo quando le quattro faine si credettero sicure del fatto loro andarono difilato al pollaio che rimaneva appunto vicinissimo al casotto del cane e aperta a furia di denti e di unghioli la porticina di legno che ne chiudeva l'entratina vi sgusciarono dentro una dopo l'altra ma non erano ancora finite d'entrare e sentirono la porticina richiudersi con grandissima violenza quello che l'aveva richiusa era Pinocchio il quale non contento di averla richiusa riposò davanti per maggior sicurezza una grossa pietra a guisa di puntello e cominciò ad abbaiare e abbaiando proprio come se fosse un cane da guardia faceva con la voce wow 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 a quella abbaiata il contadino saltò dal letto e preso il fucile e affacciatosi alla finestra domandò che c'è di nuovo ci sono i ladri rispose Pinocchio dove sono nel pollaio ora scendo subito e infatti in men che non si dice amen il contadino scese entrò di corsa nel pollaio e dopo aver acchiappate e rinchiuse in un sacco le quattro faine disse loro con accento di vera contentezza alla fine siete cascate nelle mie mani potrei punirvi ma civil non sono mi contenterò invece di portarvi domani all'oste del vicino paese il quale vi spellerà e vi cucinerà a uso lepre dolce e forte è un onore che non vi meritate ma gli uomini generosi come me non badano a queste piccolezze quindi avvicinatosi a Pinocchio cominciò a fargli molte carezze e fra le altre cose gli domandò come hai fatto a scoprire il complotto di queste quattro ladroncelle e dire che Melampo il mio fido Melampo non sarà mai accorto di nulla il burattino ora avrebbe potuto raccontare quel che sapeva avrebbe potuto cioè raccontare i patti vergognosi che passavano fra il cane e le faine ma ricordatosi che il cane era morto pensò subito dentro di sé a che serve accusare i morti i morti sono morti e la miglior cosa che si possa fare è quella di lasciarli in pace all'arrivo delle faine sull'aia eri sveglio o dormivi? continuò a chiedergi il contadino dormivo rispose Pinocchio ma le faine mi hanno svegliato coi loro chiacchiericci e una è venuta fin qui al casotto per dirmi se prometti di non abbaiare e di non svegliare il padrone noi ti regaleremo una pollastra bella e pelata capite? avere la sfacciataggine di fare a me una simile proposta perché bisogna sapere che io sono un burattino che avrò tutti i difetti di questo mondo ma non avrò mai quello di star di balla e di leggere il sacco alla gente disonesta bravo ragazzo gridò il contadino battendogli su una spalla potesti i sentimenti ti fanno onore e per provarti la mia grande soddisfazione ti lascio libero fin d'ora di tornare a casa e gli levò il collare da cane Pinocchio piange la morte della bella bambina dai capelli turchini poi trova un colombo che lo porta sulla riva del mare e lì si getta nell'acqua per andare in aiuto del suo babbo geppetto appena Pinocchio non sentì più il peso durissimo e umiliante di quel collare intorno al collo si pose a scappare attraverso i campi e non si fermò un solo minuto finché non ebbe raggiunta la strada maestra che doveva ricondurlo alla casina della fata arrivato sulla strada maestra si voltò in giù a guardare nella sottostante pianura e vide benissimo occhio nudo il bosco dove disgraziatamente aveva incontrato la volpe e il gatto vide fra mezzo agli alberi innalzarsi la cima di quella quercia grande alla quale era stato appeso ciondoloni per il collo ma guarda di qua guarda di là non gli fu possibile di vedere la piccola casa della bella bambina dai capelli turchini allora ebbe una specie di tristo presentimento e datosi a correre con quanta forza gli rimaneva nelle gambe si trovò in pochi minuti sul prato dove sorgeva una volta la casina bianca ma la casina bianca non c'era più c'era invece una piccola pietra di marmo sulla quale si leggevano in carattere stampatello queste dolorose parole qui giace la bambina dai capelli turchini morta di dolore per essere stata abbandonata dal suo fratellino Pinocchio come rimanesse il burattino quando ebbe compitate alla peggio quelle parole lo lascio pensare a voi cadde bocconi a terra e coprendo di mille baci quel marmo mortuario dette in un grande scoppio di pianto pianse tutta la notte e la mattina dopo sul far del giorno piangeva sempre sebbene negli occhi non avesse più lacrime e le sue grida e i suoi lamenti erano così strazianti e acuti che tutte le colline all'intorno ne ripetevano l'eco e piangendo diceva oh fatina mia perché sei morta perché invece di te non sono morto io che sono tanto cattivo mentre tu eri tanto buona e il mio babbo dove sarà oh fatina mia dimmi dove posso trovarlo che voglio stare sempre con lui e non lasciarlo più 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 oh fatina mia dimmi che non è vero che sei morta se davvero mi vuoi bene se vuoi bene al tuo fratellino rivivisci torna viva come prima non ti dispiace a vedermi solo e abbandonato da tutti se arrivano gli assassini mi attaccheranno da capo al ramo dell'albero e allora morirò per sempre che vuoi che faccia qui solo in questo mondo ora che ho perduto te e il mio babbo chi mi darà da mangiare dove anderò a dormire la notte chi mi farà la giacchettina nuova oh sarebbe meglio cento volte meglio che morissi anch'io sì voglio morire e mentre si disperava a questo modo fece l'atto di volersi strappare i capelli ma i suoi capelli essendo di legno non pote nemmeno levarsi il gusto di ficcarci dentro le dita intanto passò su per aria un grosso colombo il quale soffermandosi ad ali distese gli gridò da una certa altezza dimmi bambino che cosa fai costaggiù non lo vedi piango disse pinocchio alzando il capo verso quella voce e strofinandosi gli occhi con la manica della giacchetta dimmi soggiunse allora il colombo non conosci per caso fra i tuoi compagni un burattino che ha nome pinocchio pinocchio hai detto pinocchio ripete il burattino saltando subito in piedi pinocchio sono io il colombo a questa risposta si calò velocemente e venne a posarsi a terra era più grosso di un tacchino conoscerai dunque anche geppetto domandò al burattino se lo conosco è il mio povero babbo ti ha forse parlato di me mi conduci da lui ma è sempre vivo rispondimi per carità è sempre vivo l'ho lasciato tre giorni fa sulla spiaggia del mare che cosa faceva si fabbricava da sé una piccola barchetta per attraversare l'oceano quel pover uomo sono più di quattro mesi che gira per il mondo in cerca di te e non avendoti potuto trovare ora si è messo in capo di cercarti nei paesi lontani del nuovo mondo quanto c'è di qui alla spiaggia domandò pinocchio con ansia affannosa più di mille chilometri mille chilometri o colombo mio che bella cosa potessi avere le tue ali se vuoi venire ti ci porto io come a cavallo sulla mia groppa sei peso di molto peso tutt'altro son leggero come una foglia e lì senza stare a dir altro pinocchio saltò sulla groppa il colombo e messa una gamba di qua e l'altra di là come fanno i cavallerizi gridò tutto contento galoppa galoppa cavallino che mi preme di arrivare presto il colombo prese l'aere e in pochi minuti arrivò col volo tanto in alto che toccava quasi le nuvole giunto a quell'altezza straordinaria il burattino ebbe la curiosità di voltarsi in giù a guardare e fu preso da tanta paura e da tali giracapi che per evitare il pericolo di venire di sotto si avviticchiò con le braccia stretto stretto al collo della sua piumata cavalcatura volarono tutto il giorno sul far della sera il colombo disse ho una gran sete e io ho una gran fame soggiunse pinocchio fermiamoci a questa colombaia pochi minuti e dopo ci rimetteremo in viaggio per essere domattina all'alba sulla spiaggia del mare entrarono in una colombaia deserta dove c'era soltanto una catinella piena d'acqua e un cestino ricolmo di vecce il burattino in tempo di vita sua non aveva mai potuto patire le vecce a sentir lui gli facevano nausea e gli rivoltavano lo stomaco ma quella sera ne mangiò a strippa pelle e quando le ebbe quasi finite si voltò al colombo e gli disse non avrei mai creduto che le vecce fossero così buone bisogna persuadersi ragazzo mio replicò il colombo che quando la fame dice davvero e non c'è altro da mangiare anche le vecce diventano squisite la fame non ha capricci né ghiottonerie fatto alla svelta un piccolo spuntino si riposero in viaggio e via la mattina dopo arrivarono sulla spiaggia del mare il colombo posò a terra pinocchio e non volendo nemmeno la seccatura di sentirsi ringraziare per aver fatto una buona azione riprese subito il volo e sparì la spiaggia era piena di gente che urlava e gesticolava guardando il mare che cos'è accaduto domandò pinocchio a una vecchina è accaduto che un povero babbo avendo perduto il figliuolo e ha voluto entrare in una barchetta per andare a cercarlo di là dal mare e il mare oggi è molto cattivo e la barchetta sta per andare sott'acqua dov'è la barchetta? eccola laggiù dritta al mio dito disse la vecchia accennando a una piccola barca che veduta in quella distanza pareva un guscio di noce con dentro un omino piccino piccino pinocchio appunto agli occhi da quella parte e dopo aver guardato attentamente cacciò un urlo acutissimo gridando via il mio babbo via il mio babbo intanto la barchetta sbattuta dall'infuriare dell'onde ora spariva fra i grossi cavalloni ora tornava a galleggiare e pinocchio ritto sulla punta di un alto scoglio non finiva più dal chiamare il suo babbo per nome e dal fargli molti segnali con le mani e col moccichino da naso e perfino col berretto che aveva in capo e parve che Geppetto sebbene fosse molto lontano sulla spiaggia riconoscesse il figliuolo perché si levò il berretto anche lui e lo salutò e a furia di gesti gli fece capire che sarebbe tornato volentieri indietro ma il mare era tanto grosso che gli impediva di lavorare col remo e di potersi avvicinare alla terra tutto a un tratto venne una terribile ondata e la barca sparì aspettarono che la barca tornasse a galla ma la barca non si vide più tornare pover uomo dissero allora i pescatori che erano raccolti sulla spiaggia e brontolando sotto voce una preghiera si mossero per tornarsene alle loro case quando ecco che udirono un urlo disperato e voltandosi indietro videro un ragazzetto che di vetta a uno scoglio si gettava in mare gridando voglio salvare il mio babbo Pinocchio essendo tutto di legno galleggiava facilmente e il motava come un pesce ora si vedeva sparire sott'acqua portato dall'impeto dei flutti ora riappariva fuori con una gamba o con un braccio a grandissima distanza dalla terra alla fine lo persero d'occhio e non lo videro più povero ragazzo dissero allora i pescatori che erano raccolti sulla spiaggia e brontolando sotto voce una preghiera tornarono alle loro case Pinocchio arriva all'isola delle api industriose e ritrova la fata Pinocchio animato dalla speranza di arrivare in tempo a dare aiuto al suo povero babbo nuotò tutta quanta la notte e che orribile nottata fu quella diluviò grandi no tuonò spaventosamente e con certi lampi che pareva di giorno sul far del mattino gli riuscì di vedere poco distante una lunga striscia di terra era un'isola in mezzo al mare allora fece di tutto per arrivare a quella spiaggia ma inutilmente le onde ricorrendosi e accavallandosi se lo abballottolavano fra di loro come se fosse stato un fucello o un filo di paglia alla fine per sua buona fortuna venne un'ondata tanto prepotente e impetuosa che lo scaraventò di peso sull'arena dell'ido il colpo fu così forte che battendo in terra gli crucchiarono tutte le costole e tutte le congiunture ma si consolò subito col dire anche per questa volta l'ho proprio scampata bella intanto a poco a poco il cielo si rasserenò il sole apparve fuori in tutto il suo splendore e il mare diventò tranquillissimo e buono come l'olio allora il burattino distese i suoi panni al sole per rasciugarli e si pose a guardare di qua e di là se per caso avesse potuto scorgere su quell'immensa spianata d'acqua una piccola barchetta con un omino dentro ma dopo aver guardato ben bene non vide altro dinanzi a sé che cielo, mare e qualche vela di bastimento ma così lontana che pareva una mosca sapessi almeno come si chiama quest'isola andava dicendo sapessi almeno se quest'isola è abitata da gente di garbo voglio dire da gente che non abbia il vizio di attaccare i ragazzi ai rami degli alberi ma a chi mai posso domandarlo a chi se non c'è nessuno quest'idea di trovarsi solo 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 in mezzo a quel gran paese disabitato gli messe addosso tanta malinconia che stava lì lì per piangere quando tutt'antratto vide passare a poca distanza dalla riva un grosso pesce che se ne andava tranquillamente per i fatti suoi con tutta la testa fuori dell'acqua non sapendo come chiamarlo per nome il burattino gli gridò a voce alta per farsi sentire è il signor pesce che mi permetterebbe una parola anche due rispose il pesce il quale era un delfino così garbato come se ne trovano pochi in tutti i mari del mondo mi farebbe il piacere di dirmi se in quest'isola vi sono dei paesi dove si possa mangiare senza pericolo d'essere mangiati ve ne sono sicuro rispose il delfino anzi ne troverai uno poco lontano di qui e che strada si fa per andarvi devi prendere quella viottola là a mancina e camminare sempre dritto al naso non puoi sbagliare mi dica un'altra cosa lei che passeggia tutto il giorno e tutta la notte per il mare non avrebbe incontrato per caso una piccola barchettina con dentro il mio babbo e chi è il tuo babbo è il babbo più buono del mondo come io sono il figliuolo più cattivo che si possa dare con la burrasca che ha fatto questa notte rispose il delfino la barchettina sarà andata sott'acqua e il mio babbo a quest'ora l'avrà inghiottito il terribile pesce cane che da qualche giorno è venuto a spargere lo sterminio e la desolazione nelle nostre acque che è grosso molto questo pesce cane domandò Pinocchio che di già cominciava a tremare dalla paura se gli è grosso replicò il delfino perché tu possa fartene un'idea ti dirò che è più grosso di un casamento di cinque piani e ha una boccazza così larga e profonda che ci passerebbe comodamente tutto il treno della strada ferrata con la macchina accesa mamma mia gridò spaventato il burattino e rivestitosi in fretta e furia si voltò al delfino e gli disse arrivedella signor pesce scusi tanto l'incomodo e mille grazie della sua garbatezza detto ciò prese subito la viottola e cominciò a camminare di un passo svelto tanto svelto che pareva quasi che corresse e a ogni più piccolo rumore che sentiva si voltava subito a guardare indietro per la paura di vedersi inseguire da quel terribile pesce cane grosso come una casa di cinque piani e con un treno della strada ferrata in bocca dopo mezz'ora di strada arrivò a un piccolo paese detto il paese delle api industriose le strade formicolavano di persone che correvano di qua e di là per le loro faccende tutti lavoravano tutti avevano qualche cosa da fare non si trovava un ozioso o un vagabondo nemmeno a cercarlo col lumicino ho capito disse subito quello svogliato di Pinocchio questo paese non è fatto per me io non sono nato per lavorare intanto la fame lo tormentava perché erano ormai passate ventiquattro ore che non aveva mangiato più nulla nemmeno una pietanza di vecce che fare non gli restavano che due modi per potersi sdigiunare o chiedere un po' di lavoro o chiedere in elemosina un soldo o un boccone di pane a chiedere l'elemosina si vergognava perché il suo babbo gli aveva predicato sempre che l'elemosina hanno il diritto di chiederla solamente i vecchi e gli infermi i veri poveri in questo mondo meritevoli di assistenza e di compassione non sono altro che quelli che per ragione d'età o di malattia si trovano condannati a non potersi più guadagnare il pane e col lavoro delle proprie mani tutti gli altri hanno l'obbligo di lavorare e se non lavorano e patiscono la fame tanto peggio per loro in quel frattempo passò per la strada un uomo tutto sudato e trafelato il quale da sé tirava con gran fatica due carretti carichi di carbone Pinocchio giudicandolo dalla fisionomia per un buon uomo gli si accostò e abbassando gli occhi dalla vergogna gli disse sottovoce ne fareste la carità di darmi un soldo perché mi sento morire dalla fame non un soldo solo rispose il carbonaio ma te ne do quattro a patto che tu mi aiuti a tirare fino a casa questi due carretti di carbone mi meraviglio rispose il burattino quasi offeso per vostra regola io non ho fatto mai il somaro io non ho mai tirato il carretto meglio per te rispose il carbonaio allora ragazzo mio se ti senti davvero morire di fame mangia due belle fette della tua superbia e vada di non prendere un'indigestione dopo pochi minuti passò per la via un muratore che portava sulle spalle un corbello di calcina fareste garantuomo la carità di un soldo a un povero ragazzo che sbadiglia dall'appetito volentieri vieni con me a portare calcina rispose il muratore e invece di un soldo te ne darò cinque ma la calcina è pesa replicò Pinocchio e io non voglio durar fatica se non vuoi durar fatica allora ragazzo mio divertiti a sbadigliare e buon protifaccia e men che mezz'ora passarono altre venti persone e a tutte Pinocchio chiese un po' dell'emosina ma tutti gli risposero non ti vergogni invece di fare il bighellone per la strada va piuttosto a cercarti un po' di lavoro e impara a guadagnarti il pane finalmente passò una buona donnina che portava due brocche d'acqua vi contentate buona donna che io beva una sorsata d'acqua dalla vostra brocca disse Pinocchio che bruciava dall'arsione della sete bevi pure ragazzo mio disse la donnina posando le due brocche in terra quando Pinocchio ebbe bevuto come una spugna borbottò a mezza voce asciugandosi la bocca la sete me la sono levata così mi potessi levar la fame la buona donnina sentendo queste parole soggiunse subito se mi aiuti a portare a casa una di queste brocche d'acqua ti darò un bel pezzo di pane Pinocchio guardò la brocca e non rispose né sì né no e insieme col pane ti darò un bel piatto di cavolfiore condito con l'olio e con l'aceto soggiunse la buona donna Pinocchio diate un'altra occhiata alla brocca e non rispose né sì né no e dopo il cavolfiore ti darò un bel confetto ripieno di rosolio alle seduzioni di quest'ultima ghiottoneria Pinocchio non seppe più resistere e fatto un animo risoluto disse pazienza vi porterò la brocca fino a casa la brocca era molto pesa e il burattino non avendo forza di portarla con le mani si rassegnò a portarla in capo arrivati a casa la buona donnina fece sedere Pinocchio su una piccola tavola apparecchiata e gli pose davanti il pane il cavolfiore condito e il confetto Pinocchio non mangiò ma diluviò il suo stomaco pareva un quartiere rimasto vuoto e disabitato da cinque mesi calmati a poco a poco i morsi rabbiosi della fame allora alzò il capo per ringraziare la sua benefattrice ma non aveva ancora finito di fissarla in volto che cacciò un lunghissimo oh di meraviglia rimase là incantato con gli occhi spalancati con la forchetta per aria e con la bocca piena di pane cavolfiore che cos'è mai tutta questa meraviglia disse ridendo la buona donna egli è rispose balbettando Pinocchio egli è egli è che voi somigliate voi mi rammentate sì 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 la stessa voce gli stessi occhi gli stessi capelli sì 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 anche voi avete i capelli turchini come lei oh fatina mia oh fatina mia ditemi che siete voi proprio voi non mi fate più piangere se sapeste ho pianto tanto ho patito tanto e nel dir così Pinocchio piangeva dirottamente e gettandosi i ginocchioni per terra abbracciava i ginocchi di quella donnina misteriosa Pinocchio promette alla fata di essere buono e di studiare perché è stufo di fare il burattino e vuol diventare un bravo ragazzo e sulle prime la buona donnina cominciò col dire che lei non era la piccola fata dai capelli turchini ma poi vedendosi oramai scoperta e non volendo mandare più a lungo la commedia finì col farsi riconoscere e disse a Pinocchio birba ad un burattino come mai ti sei accorto che ero io è il gran bene che ti voglio quello che me l'ha detto ti ricordi mi lasciasti bambina e ora mi ritrovi donna tanto donna che potrei quasi farti da mamma toccaro di molto perché così invece di sorellina vi chiamerò la mia mamma è tanto tempo che mi struggo di avere una mamma come tutti gli altri ragazzi ma come avete fatto a crescere così presto è un segreto insegnamelo vorrei crescere un poco anch'io non lo vedete sono sempre rimasto alto come un soldo di cacio ma tu non puoi crescere replicò la fata perché perché i burattini non crescono mai nascono burattini vivono burattini e muoiono burattini sono stufo di fare sempre il burattino mi do pinocchio dandosi uno scapellotto sarebbe ora che diventassi anch'io un uomo come tutti gli altri e lo diventerai se saprai meritartelo davvero e che posso fare per meritarmelo una cosa facilissima avvezzarti ad essere un ragazzino per bene o che forse non sono tutt'altro i ragazzi per bene sono ubbidienti e tu invece e io non ubbidisco mai i ragazzi per bene prendono amore allo studio e al lavoro e tu e io invece faccio il bighellone e il vagabondo tutto l'anno i ragazzi per bene dicono sempre la verità e io ho sempre le bugie i ragazzi per bene vanno volentieri alla scuola e a me la scuola mi fa venire i dolori di corpo ma da oggi in poi voglio mutare vita me lo prometti lo prometto voglio diventare un ragazzino per bene e voglio essere la consolazione del mio babbo dove sarà il mio povero babbo a quest'ora non lo so avrò mai la fortuna di poterlo rivedere e abbracciare credo di sì anzi ne sono sicura a questa risposta fu tale tanta la contentezza di Pinocchio che prese le mani della fata e cominciò a baciargliele con tanta foga che pareva quasi fuori di sé poi alzando il viso e guardandola amorosamente le domandò dimmi mammina dunque non è vero che tu sia morta par di no rispose sorridendo la fata se tu sapessi che dolore e che serratura alla gola che provai quando l'essi qui giace lo so ed è per questo che ti ho perdonato la sincerità del tuo cuore mi fece conoscere che tu avevi il cuore buono e dai ragazzi buoni di cuore anche se sono un po' monelli e avvezzati male c'è sempre da sperare qualcosa ossia c'è sempre da sperare che rientrino sulla vera strada ecco perché sono venuta a cercarti fin qui io sarò la tua mamma oh che bella cosa gridò Pinocchio saltando dall'allegrezza tu mi obbedirai e farai sempre quello che ti dirò io volentieri 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 fino da domani soggiunse la fata tu comincerai con l'andare a scuola Pinocchio diventò subito un po' meno allegro poi sceglierai a tuo piacere un'arte o un mestiere Pinocchio diventò serio che cosa brontoli fra i denti domandò la fata con accento risentito dicevo mugolò il burattino a mezza voce che ormai per andare a scuola mi pare un po' tardi no signore tieni a mente che per istruirsi e per imparare non è mai tardi ma io non voglio fare né arti né mestieri perché perché a lavorare mi par fatica ragazzo mio disse la fata quelli che dicono così finiscono quasi sempre o in carcere o all'ospedale l'uomo per tua regola nascaricco povero è obbligato in questo mondo a far qualcosa a occuparsi a lavorare guai a lasciarsi prendere dall'ozio l'ozio è una bruttissima malattia e bisogna guarirla subito fin da ragazzi se no quando siamo grandi non si guarisce più queste parole toccarono l'animo di Pinocchio il quale rialzando velocemente la testa disse alla fata io studierò io lavorerò io farò tutto quello che mi dirai perché insomma la vita del burattino mi è venuta a noia e voglio diventare un ragazzo a tutti i costi me l'hai promesso non è vero te l'ho promesso e ora dipende da te Pinocchio va con i suoi compagni di scuola in riva al mare per vedere il terribile pesce cane il giorno dopo Pinocchio andò alla scuola comunale figuratevi quelle birbe di ragazzi quando vi doveva entrare nella loro scuola un burattino fu una risata che non finiva più chi gli faceva uno scherzo chi un altro chi gli levava il berretto di mano chi gli tirava il giubettino di dietro chi si provava a fargli con l'inchiostro due grandi baffi sotto il naso e chi si attentava perfino a legargli dei fili ai piedi e alle mani per farlo ballare per un pochino Pinocchio usò disinvoltura e tirò via ma finalmente sentendosi scappare la pazienza si rivolse a quelli che più lo tafanavano e si pigliavano gioco di lui e disse loro a muso duro badate ragazzi io non son venuto qui per essere il vostro buffone io rispetto gli altri e voglio essere rispettato bravo berlicche hai parlato come un libro stampato urlarono quei monelli buttandosi via dalle matte risate e uno di loro più impertinente degli altri allungò la mano con l'idea di prendere il burattino per la punta del naso ma non fece a tempo perché Pinocchio stese la gamba sotto la tavola e gli consegnò una pedata negli stinchi oi che piedi duri urlò il ragazzo stroppicciandosi il livido che gli aveva fatto il burattino e che gomiti anche più duri dei piedi disse un altro che per i suoi scherzi sguaiati sarà beccata una gomitata nello stomaco fatto sta che dopo quel calcio e quella gomitata Pinocchio acquistò subito la stima e la simpatia di tutti i ragazzi di scuola e tutti gli facevano mille carezze e tutti gli volevano bene dell'anima e anche il maestro se ne lo dava perché lo vedeva attento studioso intelligente sempre il primo a entrare nella scuola sempre l'ultimo a rizzarsi in piedi a scuola finita il solo difetto che avesse era quello di bazzicare troppo i compagni e fra questi c'erano molti monelli conosciutissimi per la loro poca voglia di studiare e di farsi onore il maestro lo avvertiva tutti i giorni e anche la buona fata non mancava di dirgli e di ripetergli più volte vada Pinocchio quei tuoi compagnacci di scuola finiranno prima o poi col farti perdere l'amore allo studio e forse forse col tirarti addosso qualche grossa disgrazia non c'è pericolo rispondeva il burattino facendo una spallucciata e toccandosi con l'indice in mezzo alla fronte come per dire c'è tanto giudizio qui dentro ora avvenne che un bel giorno mentre camminava verso scuola incontrò un branco dei soliti compagni che andando gli incontro gli dissero sai la gran notizia no qui nel mare vicino è arrivato un pescecane grosso come una montagna davvero che sia quel medesimo pescecane di quando affogò il mio povero babbo noi andiamo alla spiaggia per vederlo vieni anche tu io no voglio andare a scuola che ti importa della scuola alla scuola ci andremo domani con una lezione di più o una di meno si rimane sempre dei somari e il maestro chi dirà il maestro si lascia dire è pagato apposta per brontolare tutto il giorno e la mia mamma le mamme non sanno mai nulla risposero quei malanni sapete che cosa farò disse pinocchio il pescecane voglio vederlo per certe mie ragioni andrò a vederlo dopo la scuola povero giucco ribatte uno del branco che credi che un pescecane di quella grossezza voglia star lì a fare il comodo tuo appena si è annoiato piglia il direzione per un'altra parte e allora chi si è visto si è visto quanto tempo ci vuole di qui alla spiaggia domandò il burattino fra un'ora siamo bello andati e tornati dunque via e chi più corre è più bravo gridò pinocchio dato così il segnale della partenza quel branco di monelli con i loro libri e i loro quaderni sotto brazzo si messero a correre attraverso i campi e pinocchio era sempre avanti a tutti pareva che avesse le ali ai piedi di tanto in tanto voltandosi indietro canzonava i suoi compagni rimasti a una bella distanza e nel vederli ansanti trafelati polverosi e con tanto di lingua fuori se la rideva proprio di cuore lo sciagurato in quel momento non sapeva a quali paure e a quali orribili disgrazie andava incontro gran combattimento fra pinocchio e i suoi compagni uno dei quali essendo rimasto ferito pinocchio viene arrestato dai carabinieri giunto che fu sulla spiaggia pinocchio diede subito una grande occhiata sul mare ma non vide nessun pescecane il mare era tutto liscio come un gran cristallo da specchio oh il pescecane dov'è? domandò voltandosi ai compagni sarà andato a far colazione rispose uno di loro ridendo o si sarà buttato sul letto per fare un sonnellino soggiunse un altro ridendo più forte che mai da quelle risposte sconclusionate e da quelle risatacce grulle pinocchio capì che i suoi compagni gli avevano fatto una brutta celia andogli ad intendere una cosa che non era vera e pigliandosela male disse a loro con voce di bizza e ora che sugo ci avete trovato a darmi ad intendere la storiella del pescecane il sugo c'è sicuro risposero in coro quei monelli e sarebbe quello di farti perdere la scuola e di farti venire con noi non ti vergogni a mostrarti tutti i giorni così preciso e così dirigente alle lezioni non ti vergogni a studiar tanto come fai e se io studio che cosa ve ne importa a noi ce ne importa moltissimo perché ci costringi a fare una brutta figura col maestro perché perché gli scolari che studiano fanno sempre scomparire quelli come noi che non hanno voglia di studiare e noi non vogliamo scomparire anche noi abbiamo il nostro amor proprio e allora che cosa devo fare per contentarvi devi prendere a noia anche tu la scuola la lezione e il maestro che sono i nostri tre grandi nemici e se io volessi seguitare a studiare noi non ti guarderemmo più in faccia e alla prima occasione se la pagherai in verità mi fate quasi ridere disse il burattino con una scrollatina di capo ehi Pinocchio gridò allora il più grande di quei ragazzi andandogli sul viso non venire qui a fare lo smargiasso non venire qui a far tanto il galletto perché se tu non hai paura di noi noi non abbiamo paura di te ricordati che tu sei solo e noi siamo in sette sette come i peccati mortali disse Pinocchio con una gran risata avete sentito ci ha insultati tutti ci ha chiamati col nome di peccati mortali Pinocchio chiedici scusa dell'offesa se no guai a te cucù fece il burattino battendosi con l'indice sulla punta del naso in segno di canzonatura Pinocchio la finisce male cucù ne toccherai quanto un somaro cucù ritornerai a casa col naso rosso cucù ora il cucù te lo darò io gridò il più ardito di quei monelli prendi intanto quest'acconto e sarbalo per la cena di stasera e nel dir così gli appiccicò un pugno sul capo ma fu come si suol dire botta e risposta perché il burattino come c'era ad aspettarselo rispose con un altro pugno e lì da un momento all'altro il combattimento diventò generale e accanito Pinocchio sebbene fosse solo si difendeva come un eroe con quei suoi piedi di legno durissimo lavorava così bene da tener sempre i suoi nemici a rispettosa distanza dove i suoi piedi potevano arrivare e toccare si lasciavano sempre un livido per ricordo allora i ragazzi indispettiti di non potersi misurare col burattino a corpo a corpo pensarono bene di mettere mano ai proiettili e sciolti i fagotti dei loro libri di scuola cominciarono a scagliare contro di lui i sillabari le grammatiche i giannettini i minuzzoli i racconti del tuar il pulcino della bacini e altri libri scolastici ma il burattino che era d'occhio svelto e ammalizzito faceva sempre civetta a tempo sicché i volumi passandogli di sopra il capo andavano tutti a cascar nel mare figuratevi i pesci i pesci credendo che quei libri fossero roba da mangiare correvano a frotte a fior d'acqua ma dopo aver abboccata qualche pagina o qualche frontespizio la risputavano subito facendo con la bocca una certa smorfia che pareva volesse dire non è roba per noi noi siamo avvezzi a cibarci molto meglio intanto il combattimento si inferociva sempre più quando ecco che un grosso granchio che era uscito fuori dell'acqua e si era ad agio ad agio arrampicato fino sulla spiaggia gridò con una vociaccia di trombone infreddato smettetela bilichini che non siete altro queste guerre manesche fra ragazzi e ragazzi raramente vanno a finir bene qualche disgrazia accade sempre povero granchio fu lo stesso che avesse predicato al vento anzi quella birba di Pinocchio voltandosi indietro a guardarlo in cagnesco gli disse sgarbatamente chetati granchio dell'uggia faresti meglio a succiare due pasticche di richene per guarire da questa infreddatura di gola vai piuttosto a letto e cerca di sudare in quel frattempo i ragazzi che avevano finito ormai di tirare tutti i loro libri occhiarono lì a poca distanza il fagotto dei libri del burattino e se ne impadronirono in men che non si dice fra questi libri vera un volume rilegato in cartoncino grosso con la costola e con le punte di carta pecora era un trattato di aritmetica vi lascio immaginare se era appeso di molto uno di quei monelli agguantò quel volume e presa di mira la testa di Pinocchio lo scagliò con quanta forza aveva nel brazzo ma invece di cogliere il burattino colse nella testa uno dei suoi compagni in quale diventò bianco come un panno lavato e non disse altro che queste parole oh mamma mia aiutatemi perché muoio poi cadde disteso sull'arena del Lido alla vista di quel morticino i ragazzi spaventati si dettero a scappare a gambe e in pochi minuti non si videro più ma Pinocchio rimase lì e sebbene per il dolore e per lo spavento anche lui fosse più morto che vivo non di meno corse a inzuppare il suo fazzoletto nell'acqua del mare e si pose a bagnare la tempia del suo povero compagno di scuola e intanto piangendo dirottamente e disperandosi lo chiamava per nome e gli diceva Eugenio povero Eugenio mio apri gli occhi e guardami perché non mi rispondi non sono stato io sai e ti ho fatto tanto male credi non sono stato io apri gli occhi Eugenio se tieni gli occhi chiusi mi farai morire anche me oh Dio mio come farò ora a tornare a casa con che coraggio potrò presentarmi alla mia buona mamma che ne sarà di me dove fuggirò dove andrò a nascondermi oh quanto era meglio mille volte meglio che fossi andato a scuola perché ho dato retta a questi compagni che sono la mia dannazione e il maestro me l'aveva detto e la mia mamma me lo aveva ripetuto guardati dai cattivi compagni ma io sono testardo un caparbiaccio lascio a dir tutti e poi fo sempre a modo mio e dopo mi tocca scontarle e così da che sono al mondo non ho mai avuto un quarto d'ora di bene Dio mio che sarà di me che sarà di me che sarà di me e Pinocchio continuava a piangere e berciare a darsi pugni nel capo e a chiamar per nome il povero Eugenio quando sentì a un tratto un rumore sordo di passi che si avvicinavano si voltò erano due carabinieri che cosa fai così sdraiato per terra domandarono a Pinocchio assisto questo mio compagno di scuola che gli è venuto male a par di sì altro che male disse uno dei carabinieri chinandosi osservando Eugenio da vicino questo ragazzo è stato ferito in una tempia chi è che l'ha ferito io no malbettò il burattino che non aveva più fiato in corpo non sei stato tu chi è dunque che l'ha ferito io no ripete Pinocchio e con che cosa è stato ferito con questo libro e il burattino raccattò di terra il trattato all'irritmetica rilegato in cartone e carta pecora per mostrarlo al carabiniere e questo libro di chi è mio basta così non occorre altro rizzati subito e vieni via con noi ma io via con noi ma io sono innocente via con noi prima di partire i carabinieri chiamarono alcuni pescatori che in quel momento passavano per l'appunto con la loro barca vicino alla spiaggia e dissero loro vi affidiamo questo ragazzetto ferito nel capo portatelo a casa vostra e assistetelo domani torneremo a vederlo quindi si volsero a Pinocchio e dopo averlo messo in mezzo a loro due intimarono con accento soldatesco avanti e cammina spedito se no peggio per te senza farselo ripetere il burattino cominciò a camminare per quella viottola che conduceva al paese ma il povero diavolo non sapeva più nemmeno lui in che mondo si fosse gli pareva di sognare e che brutto sogno era fuori di sé i suoi occhi vedevano tutto doppio le gambe gli tremavano la lingua gli era rimasta attaccata al palato e non poteva più spiccicare una sola parola eppure in mezzo a quella specie di stupidità e di rintontimento una spina acutissima gli bucava il cuore il pensiero cioè di dover passare sotto le finestre di casa della sua buona fata in mezzo ai carabinieri avrebbe preferito piuttosto di morire erano già arrivati e stavano per entrare in paese quando una folata di vento strapazzone levò di testa Pinocchio il berretto portandoglielo lontano una decina di passi si contentano disse il burattino ai carabinieri che vada a riprendere il mio berretto vai pure ma facciamo una cosa resta il burattino andò raccattò il berretto ma invece di metterselo in capo se lo mise in bocca fra i denti e cominciò a correre di gran carriera verso la spiaggia del mare andava via come una palla di fucile i carabinieri giudicando che fosse difficile raggiungerlo viaggiarono dietro un grosso cane mastino che aveva guadagnato il primo premio in tutte le corse dei cani Pinocchio correva e il cane correva più di lui per cui tutta la gente si affacciava alle finestre e si affollava in mezzo alla strada ansiosa di veder la fine di questo palio feroce ma non pote levarsi questa voglia perché il cane mastino e Pinocchio sollevarono lungo la strada un tal polverone e dopo pochi minuti non fu più possibile veder nulla Pinocchio corre pericolo di essere fritto in padella come un pesce durante quella corsa disperata vi fu un momento terribile un momento in cui Pinocchio si crede perduto perché bisogna sapere che ali d'oro era questo il nome del can mastino a furia di correre e correre l'aveva quasi raggiunto basti dire che il burattino sentiva dietro di sé alla distanza di un palmo l'ansare affannoso di quella bestiaccia e ne sentiva perfino la vampa calda delle fiatate per buona fortuna la spiaggia era ormai vicina e il mare si vedeva lì a pochi passi appena fu sulla spiaggia il burattino spiccò un bellissimo salto come avrebbe potuto fare un ranocchio e andò a cascare in mezzo all'acqua alidoro invece voleva fermarsi ma trasportato dall'impeto della corsa entrò nell'acqua anche lui e quel disgraziato non sapeva nuotare per cui cominciò subito ad annaspare con le zampe per reddersi a galla ma più annaspava e più andava col capo sott'acqua quando tornò a rimettere il capo fuori il povero cane aveva gli occhi impauriti e stralunati e abbaiando gridava affogo affogo crepa gli rispose Pinocchio da lontano il quale si vedeva ormai sicuro da ogni pericolo aiutami Pinocchio mio salvami dalla morte a quelle grida strazianti il burattino che in fondo aveva un cuore eccellente si mosse a compassione e voltosi al cane gli disse ma se io ti aiuto a salvarti mi prometti di non darmi più noia e di non corrermi dietro te lo prometto te lo prometto spicciati per carità perché se induce un altro mezzo minuto sono belle morto Pinocchio esita un poco ma poi ricordandoci che il suo babbo gli aveva detto tante volte che a fare una buona azione non ci si scapita mai andò nuotando ad aggiungere Alidoro e presolo per la coda con tutte e due le mani lo portò sano e salvo sull'arena asciutta del Lido il povero cane non si leggeva più in piedi aveva bevuto senza volerlo tant'acqua salata che era gonfiato come un pallone peraltro il burattino non volendo fare affidarsi troppo stimò cosa prudente di gettarsi nuovamente in mare e allontanandosi dalla spiaggia gridò all'amico salvato addio Alidoro fai buon viaggio e tanti saluti a casa addio Pinocchio rispose il cane mille grazie di avermi liberato dalla morte tu mi hai fatto un gran servizio e in questo mondo quel che hai fatto è reso se capita l'occasione si riparleremo Pinocchio seguitò a nuotare tenendosi sempre vicino alla terra finalmente gli parve di essere giunto in un luogo sicuro e dando un'occhiata alla spiaggia vide sugli scogli una specie di grotta dalla quale usciva un lunghissimo pennacchio di fumo in quella grotta disse allora fra sé ci deve essere del fuoco tanto meglio anderò a rasciugarmi e a riscaldarmi e poi e poi sarà quel che sarà presa questa risoluzione si avvicinò alla scogliera ma quando fu lì per arrampicarsi sentì qualche cosa sotto l'acqua che saliva 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 e lo portava per aria tentò subito di fuggire ma ormai era tardi perché con sua grandissima maraviglia si trovò rinchiuso dentro a una grossa rete in mezzo a un brulichio di pesci d'ogni forma e grandezza che scodinzolando si dibattevano come tante anime disperate e nel tempo stesso vide uscire dalla grotta un pescatore così brutto ma tanto brutto che pareva un mostro marino invece di capelli aveva sulla testa un cespuglio foltissimo di erba verde verde era la pelle del suo corpo verdi gli occhi verde la barba lunghissima che gli scendeva fin qua giù pareva un grosso ramarro ritto sui piedi di dietro quando il pescatore ebbe tirata fuori la rete dal mare gridò tutto contento provvidenza benedetta anche oggi potrò fare una bella scorpacciata di pesce manco male che io non sono un pesce disse Pinocchio dentro di sé ripigliando un po' di coraggio la rete piena di pesci fu portata dentro la grotta una grotta buia e affumicata in mezzo alla quale friggeva una gran padella d'olio che mandava un odorino di Moccolai ad ammozzare il respiro ora vediamo un po' che pesce abbiamo presi disse il pescatore verde e ficcando nella rete una manona così spropositata che pareva una pala da fornai tirò fuori una manciata di triglie buone queste triglie disse guardandole e annusandole con compiacenza e dopo averle annusate le scaraventò in una conca senza acqua poi ripete più volte la solita operazione e via via chi cavava fuori gli altri pesci sentiva venirsi l'acquolina in bocca e gongolando diceva buoni questi naselli squiciti questi muggini deliziose queste sogliole preribati questi ragnotti carine queste acciughe col capo come potete immaginarvelo i naselli i muggini le sogliole i ragnotti e le acciughe andarono tutti alla rinfusa nella conca a tener compagnia alle triglie l'ultimo che restò nella rete fu Pinocchio appena il pescatore l'ebbe cavato fuori sgranò dalla meraviglia i suoi occhioni verdi gridando quasi impaurito che razza di pesce è questo dei pesci fatti a questo modo non mi ricordo di averne mai mangiati e tornò a guardarlo attentamente e dopo averlo guardato ben bene per ogni verso finì col dire ho già capito deve essere un granchio di mare allora Pinocchio mortificato di sentirsi scambiare per un granchio disse con accento risentito ma che granchio e non granchio guardi come lei mi tratta io per sua regola sono un burattino un burattino replicò il pescatore dico la verità il pesce burattino è per me un pesce nuovo meglio così ti mangerò più volentieri manzarmi ma la vuoi capire che io non sono un pesce o non sente che parlo e ragiono come lei è verissimo soggiunse il pescatore e siccome vedo che sei un pesce che hai la fortuna di parlare e di ragionare come me così voglio usarti anch'io i dovuti riguardi e questi riguardi sarebbero in segno di amicizia e di stima particolare asserò a te la scelta del come vuoi essere cucinato decideri essere fritto in padella oppure preferisci di essere cotto nel tegame con la salsa di pomodoro a dir la verità rispose Pinocchio se io debbo scegliere preferisco piuttosto di essere lasciato libero per potermene tornare a casa mia tu scherzi ti pare che io voglio perdere l'occasione di assaggiare un pesce così raro non capita mica tutti i giorni un pesce burattino in questi mari lascia fare a me ti friggerò in padella assieme a tutti gli altri pesci e te ne troverai contento essere fritto in compagnia è sempre una consolazione l'infelice Pinocchio a quest'antifona cominciò a piangere a strillare a raccomandarsi e piangendo diceva quant'era meglio che fossi andato a scuola ho voluto dar retta ai compagni e ora la pago e perché si divincolava come un'anguilla e faceva sforzi incredibili per sgusciare dalle grinfie del pescatore verde questi prese una bella buccia di giunco e dopo averlo legato per le mani e per i piedi come un salame lo gettò in fondo alla conca con gli altri poi tirato fuori un vassoiaccio di legno pieno di farina si dette a infarinare tutti quei pesci e man mano che li aveva infarinati li buttava a friggere dentro la padella i primi a ballare nell'olio bollente furono i poveri naselli poi toccò ai ragnotti poi ai muggini poi alle sogliole e alle acciughe e poi venne la volta di Pinocchio in quale a vedersi così vicino alla morte e che brutta morte fu preso da tanto tremito e da tanto spavento che non aveva più né voce né fiato per raccomandarsi il povero figliuolo si raccomandava con gli occhi ma il pescatore verde senza badarlo neppure lo avvoltolò cinque o sei volte nella farina infarinandolo così bene dal capo ai piedi che pareva diventato un burattino di gesso poi lo prese per il capo e ritorna a casa della fata la quale gli promette che il giorno dopo non sarà più un burattino ma diventerà un ragazzo gran colazione di caffè e latte per festeggiare questo grande avvenimento mentre il pescatore era proprio sul punto di buttare Pinocchio nella padella entrò nella grotta un grosso cane condotto là dall'odore acutissimo e ghiotto della frittura passa via e gridò il pescatore minacciandolo e tenendo sempre in mano il burattino infarinato ma il povero cane aveva una fame per quattro e mugolando e dimenando la coda pareva che dicesse dammi un boccon di frittura e ti lascio in pace passa via ti dico gli ripetè il pescatore e allungò la gamba per tirargli una pedata allora il cane che quando aveva fame davvero non era avvezzo a lasciarsi posare mosche sul naso si rivoltò ringhioso al pescatore mostrandogli le sue terribili zanne in quel mentre si udì nella grotta una vocina fioca fioca che disse salvami alidoro se non mi salvi sono fritto il cane riconobbe subito la voce di pinocchio e si accorse con sua grandissima maraviglia che la bucina era uscita da quel fagotto infarinato che il pescatore teneva in mano allora che cosa fa spicca un gran lancio da terra abbocca quel fagotto infarinato e tenendolo leggermente coi denti esce correndo dalla grotta e via come un baleno il pescatore arrabbiatissimo di vedersi strappare di mano un pesce che gli avrebbe mangiato tanto volentieri si provò a rincorrere il cane ma fatti pochi passi gli venne un nodo di tosse e dove tornarsene indietro intanto alidoro ritrovata che ebbe la viottola che conduceva al paese si fermò e posò delicatamente in terra l'amico pinocchio quanto ti debbo ringraziare disse il burattino non c'è bisogno replicò il cane tu salvasti me e quel che hai fatto è reso si sa in questo mondo bisogna tutti aiutarsi l'un con l'altro ma come mai sei capitato in quella grotta ero sempre qui disteso sulla spiaggia più morto che vivo quando il vento mi ha portato da lontano un odorino di frittura quell'odorino mi ha stuzzicato l'appetito e io gli sono andato dietro se arrivavo un minuto più tardi non me lo dire urlò pinocchio che tremava ancora dalla paura non me lo dire se tu arrivavi un minuto più tardi a quest'ora io ero bello e fritto mangiato e digerito brrr me vengono i brividi soltanto a pensarci Alidoro ridendo stese la zampa destra verso il burattino in quale gliela strinse forte forte in segno di grande amicizia e dopo si lasciarono il cane riprese la strada di casa e Pinocchio rimasto solo andò a una capanna lì poco distante e domandò a un vecchietto che stava sulla porta a scaldarsi al sole dite galantuomo sapete nulla di un povero ragazzo ferito nel capo che si chiamava Eugenio il ragazzo è stato portato da alcuni pescatori in questa capanna e ora ora sarà morto interruppe Pinocchio con gran dolore no ora è vivo ed è già ritornato a casa sua davvero davvero gridò il burattino saltando d'allegrezza dunque la ferita non era grave ma poteva riuscire gravissima e anche mortale rispose il vecchietto perché gli tirarono sul capo un grosso libro rilegato in cartone e chi glielo tirò un suo compagno di scuola un certo Pinocchio e chi è questo Pinocchio domandò il burattino facendolo gnorri dicono che sia un ragazzaccio un vagabondo un vero rompicollo calunnie tutte calunnie tu lo conosci questo Pinocchio di vista rispose il burattino e tu che concetto ne hai gli chiese il vecchietto a me pare un gran buon figliuolo pieno di voglia di studiare ubbidiente affezionato al suo babbo e alla sua famiglia e mentre il burattino sfilava a faccia fresca tutte queste bugie si toccò il naso e si accorse che il naso gli si era allungato più di un palmo allora tutto impaurito cominciò a gridare non date retta galantuomo a tutto il bene che ve n'ho detto perché conosco benissimo Pinocchio e posso assicurarvi anch'io che è davvero un ragazzaccio un disubbidiente e uno svogliato che invece di andare a scuola va coi compagni a fare lo sbarazzino appena ebbe pronunziate queste parole il suo naso raccorci e tornò della grandezza naturale come era prima e perché sei tutto bianco a cotesto modo gli domandò a un tratto il vecchietto vi dirò senza vedermene mi sono strofinato a un muro che era imbiancato di fresco risuose il burattino vergognandosi a confessare che lo avevano infarinato come un pesce per poi friggerlo in padella ho della tua giacchetta dei tuoi calzoncini e del tuo berretto che cosa ne hai fatto ho incontrato i ladri e mi hanno spogliato dite buon vecchio non avreste per caso da darmi un po' di vestituccio tanto perché io possa ritornare a casa ragazzo mio in fatto di vestiti io non ho che un piccolo sacchetto dove ci tengo i lupini se vuoi pigliano eccolo là e Pinocchio non se lo fece dire due volte prese subito il sacchetto dei lupini che era vuoto e dopo averci fatto con le forbici una piccola buca nel fondo e due buche dalle parti se lo infilò ad uso camicia e vestito leggerino a quel modo si avviò verso il paese ma lungo la strada non si sentiva punto tranquillo tant'è vero che faceva un passo avanti e una indietro e discorrendo da se solo andava dicendo come farò a presentarmi alla mia buona Fatina che dirà quando mi vedrà vorrà perdonarmi questa seconda birichinata scommetto che non me la perdona no oh non me la perdona di certo e mi sta il dovere perché io sono un monello che prometto sempre di correggermi e non mantengo mai arrivò al paese che era già notte buia e perché faceva tempaccio e l'acqua veniva giù a Catinelle andò diritto diritto alla casa della fata con l'animo risoluto di bussare alla porta e di farsi aprire ma quando fu lì sentì mancarsi il coraggio e invece di bussare si allontanò correndo una ventina di passi si avvicinò una seconda volta alla porta e non concluse nulla si avvicinò una terza volta e nulla la quarta volta prese tremando il battente di ferro in mano e bussò un piccolo colpettino aspetta aspetta finalmente dopo mezz'ora si aprì una finestra dell'ultimo piano la casa era di quattro piani e Pinocchio vide affacciarsi una grossa lumaca che aveva un lumicino acceso sul capo la quale disse chi è a quest'ora la fata è in casa domandò il burattino la fata dorme e non vuole essere svegliata ma tu chi sei sono io chi io Pinocchio chi è Pinocchio il burattino quello che sta in casa con la fata ah ho capito disse la lumaca aspetta mi costi che ora scendo giù e ti apro subito spicciatevi per carità perché io muoio dal freddo ragazzo mio io sono una lumaca e le lumache non hanno mai fretta intanto passò un'ora ne passarono due e la porta non si apriva per cui Pinocchio che tremava dal freddo dalla paura e dall'acqua che aveva addosso si fece cuore e bussò una seconda volta e bussò più forte a quel secondo colpo si aprì una finestra del piano di sotto e si affacciò la solita lumaca lumachella bella gridò Pinocchio dalla strada sono due ore che aspetto e due ore ma questa serataccia diventano più lunghe di due anni spicciatevi per carità ragazzo mio gli risposi dalla finestra quella bestiola tutta pace e tutta flemma ragazzo mio io sono una lumaca e le lumache non hanno mai fretta e la finestra si richiuse di lì a poco suonò la mezzanotte poi il tocco poi le due dopo mezzanotte e la porta era sempre chiusa allora Pinocchio perduta la pazienza afferrò con rabbia il battente della porta per bussare un gran colpo da far rintronare tutto il casamento ma il battente che era di ferro diventò a un tratto un'anguilla viva e sgusciandogli dalle mani sparì nel rigagnolo d'acqua in mezzo alla strada ah sì gridò Pinocchio sempre più accecato dalla collera se il battente è sparito io se guiterò a bussare a furia di calci e tiratosi un poco indietro lasciò andare una solennissima pedata nell'uscio della casa il colpo fu così forte che il piede penetrò nel legno fino a mezzo e quando il burattino si provò a ricavarlo fuori fu tutta fatica inutile perché il piede c'era rimasto conficcato dentro come un chiodo ribadito figuratevi il povero Pinocchio dove passare tutto il resto della notte con un piede in terra e con quell'altro per aria la mattina sul far del giorno finalmente la porta si aprì quella brava bestiola della lumaca a scendere dal quarto piano fino all'uscio di strada ci aveva messo solamente nove ore bisogna proprio dire che avesse fatto una sudata che cosa fate con codesto piede conficcato nell'uscio domandò ridendo al burattino è stata una disgrazia vedete un po' lumachina bella se vi riesce di liberarmi da questo supplizio ragazzo mio così ci vuole un legnaiuolo e io non ho mai fatto la legnaiuola pregate la fata da parte mia la fata dorme e non vuole essere svegliata ma che cosa volete che io faccia inchiodato tutto il giorno a questa porta divertiti a contare le formicole che passano per la strada portatemi almeno qualcosa da mangiare perché mi sento rifinito subito disse la lumaca difatti dopo tre ore e mezzo Pinocchio la vide tornare con un vassoio d'argento in capo nel vassoio c'era un pane un pollastro arrosto e quattro albicocche mature ecco la colazione che vi manda la fata disse la lumaca alla vista di quella grazia di dio il burattino sentì consolarsi tutto ma quale fu il suo disinganno quando incominciando a mangiare si doveva accorgere che il pane era di gesso il pollastro di cartone e le quattro albicocche di alabastro colorite al naturale voleva piangere voleva darsi alla disperazione voleva buttar via il vassoio e quel che c'era dentro ma invece o fosse il gran dolore o la gran languidezza di stomaco fatto sta che cadde svenuto quando si riebbe si trovò disteso sopra un sofà e la fata era accanto a lui anche per questa volta ti perdono gli disse la fata ma guai a te se me ne fai un'altra delle tue Pinocchio promise e girò che avrebbe studiato e che si sarebbe condotto sempre bene e mantenne la parola per tutto il resto dell'anno difatti agli esami delle vacanze ebbe l'onore di essere il più bravo della scuola e i suoi portamenti in generale furono giudicati così lodevoli e soddisfacenti che la fata tutta contenta gli disse domani finalmente il tuo desiderio sarà pagato cioè domani finirai di essere un burattino di legno e diventerai un ragazzo per bene chi non ha veduto la gioia di Pinocchio a questa notizia tanto sospirata non potrà mai figurarsela tutti i suoi amici e compagni di scuola dovevano essere invitati per il giorno dopo a una gran colazione in casa della fata per festeggiare insieme il grande avvenimento e la fata aveva fatto preparare 200 tazze di caffè e latte e 400 panini imburrati di sopra e di sotto quella giornata prometteva ad essere molto bella e molto allegra ma disgraziatamente nella vita dei burattini c'è sempre un ma che sciupa ogni cosa Pinocchio invece di diventare un ragazzo parte di nascosto col suo amico Lucignolo per il paese dei balocchi com'è naturale Pinocchio chiace subito alla fata il permesso di andare in giro per la città a fare gli inviti e la fata gli disse e vai pure a invitare i tuoi compagni per la colazione di domani ma ricordati di tornare a casa prima che faccia notte hai capito fra un'ora prometto di essere bello e ritornato replicò il burattino vada Pinocchio i ragazzi fanno presto promettere ma il più delle volte fanno tardi a mantenere ma io non sono come gli altri io quando dico una cosa la mantengo vedremo caso poi tu disubbidissi tanto peggio per te perché perché i ragazzi che non danno retta ai consigli di chi ne sa più di loro vanno sempre incontro a qualche disgrazia io l'ho provato disse Pinocchio ma ora non ci ricasco più vedremo se dici il vero senza aggiungere altre parole il burattino salutò la sua buona fata che era per lui una specie di mamma e cantando e ballando uscì fuori della porta di casa in poco più di un'ora tutti i suoi amici furono invitati alcuni accettarono subito di gran cuore altri da principio si fecero un po' pregare ma quando seppero che i panini da inzuppare nel caffè latte sarebbero stati imburrati anche dalla parte di fuori finirono tutti col dire verremo anche noi per farti piacere ora bisogna sapere che Pinocchio fra i suoi amici e compagni di scuola ne aveva uno prediletto e carissimo il quale si chiamava di nome Romeo ma tutti lo chiamavano col soprannome di Lucignolo per via del suo personalino asciutto secco e allampanato tale quale come il Lucignolo nuovo di un lumino da notte Lucignolo era il ragazzo più svogliato e più birichino di tutta la scuola ma Pinocchio gli voleva un gran bene difatti andò subito a cercarlo a casa per invitarlo alla colazione ma non lo trovò tornò una seconda volta e Lucignolo non c'era tornò una terza volta e fece la strada in vano dove poterlo ripescare cerca di qua di là finalmente lo vide nascosto sotto il portico di una casa di contadini che cosa fai costì gli domandò Pinocchio avvicinandosi aspetto la mezzanotte per partire dove vai lontano 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 e io che sono venuto a cercarti a casa tre volte che cosa volevi da me non sai il grande avvenimento non sai la fortuna che mi è toccata quale domani finisco di essere un burattino e divento un ragazzo come te e come tutti gli altri buon protifaccia domani dunque ti aspetto a colazione a casa mia ma se ti dico che parto questa sera a che ora fra poco e dove vai vado ad abitare in un paese che è il più bel paese di questo mondo una vera cuccagna e come si chiama si chiama il paese dei balocchi perché non vieni anche tu io no davvero hai torto Pinocchio credilo a me e se non vieni te ne pentirai dove vuoi trovare un paese più salubre per noi altri ragazzi lì non vi sono scuole lì non vi sono maestri lì non vi sono libri in quel paese benedetto non si studia mai il giovedì non si fa scuola e ogni settimana è composta di sei giovedì e di una domenica figurati che le vacanze dell'autunno cominciano col primo di gennaio e finiscono con l'ultimo di dicembre ecco un paese come piace veramente a me ecco come dovrebbero essere tutti i paesi civili ma come si passano le giornate nel paese dei balocchi si passano balloccandosi e divertendosi dalla mattina alla sera la sera poi si va a letto e la mattina dopo si ricomincia da capo che te ne pare mmm fece Pinocchio e tentennò leggermente il capo come dire è una vita che farei volentieri anch'io dunque vuoi partire con me sì o no risolviti no 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 e poi no ormai ho promesso alla mia buona fata di diventare un ragazzo per bene e voglio mantenere la promessa anzi siccome vedo che il sole va sotto così ti lascio subito e scappo via dunque addio e buon viaggio dove corri con tanta furia a casa la mia buona fata vuole che ritorni prima di notte aspetta altri due minuti faccio troppo tardi due minuti soli e se poi la fata mi grida lasciala gridare quando avrà gridato ben bene si chiederà disse quella birba di lucignolo e come fai parti solo o in compagnia solo saremo più di cento ragazzi e il viaggio lo fate a piedi a mezzanotte passerà qui il carro che ci deve prendere e condurre fin dentro ai confini di quel fortunatissimo paese che cosa pagherai che ora fosse mezzanotte perché per vedervi partire tutti insieme rimani qui un altro poco e ci vedrai no no voglio ritornare a casa aspetta altri due minuti ho indugiato anche troppo la fata starà in pensiero per me povera fata che ha paura forse che ti mangino i pipistrelli ma dunque soggiunse Pinocchio tu sei veramente sicuro che in quel paese non ci sono punto scuole neanche l'ombra e nemmeno maestri nemmeno uno e non c'è mai l'obbligo di studiare mai 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 che bel paese disse Pinocchio sentendo venirsi l'acquolina in bocca che bel paese io non ci sono stato mai ma me lo figuro perché non vieni anche tu è inutile che mi tenti oramai ho promesso alla mia buona fata di diventare un ragazzo di giudizio e non voglio mancare alla parola dunque addio e salutami tanto alle scuole ginnasiali e anche quelle liceali se li incontri per strada addio lucignolo fai buon viaggio divertiti e rammentati qualche volta degli amici ciò detto il burattino fece due passi in atto di andarsene ma poi fermandoci e voltandosi all'amico gli domandò ma sei proprio sicuro che in quel paese tutte le settimane siano composte di sei giovedì e di una domenica sicurissimo ma lo sai di certo che le vacanze abbiano principio col primo di gennaio e finiscano con l'ultimo di dicembre di certissimo che bel paese ripete Pinocchio sputando dalla soverchia consolazione poi fatto un animo risoluto soggiunse in fretta e furia dunque addio davvero e buon viaggio addio fra quanto partirete fra due ore peccato se alla partenza mancasse un'ora sola sarei quasi capace di aspettare e la fata ormai ho fatto tardi e tornare a casa un'ora prima un'ora dopo è lo stesso povero Pinocchio e se la fata ti grida pazienza la lascerò gridare quando avrà gridato ben bene si chiederà intanto si era già fatta notte e notte buia quando a un tratto videro muoversi in lontananza un lumicino e sentirono un suono di buboli e uno squillo di trombetta così piccolo e soffocato che pareva il simbilo di una zanzara eccolo gridò Lucignolo rizzandosi in piedi chi è? domandò sotto voce Pinocchio è il carro che viene a prendermi dunque vuoi venire sì o no? ma è proprio vero domandò il burattino che in quel paese i ragazzi non hanno mai l'obbligo di studiare mai 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 che bel paese dopo cinque mesi di cuccagna Pinocchio con sua grande meraviglia sente spuntarsi un bel paio d'orecchie asinine e diventa un ciuchino con la coda e tutto finalmente il carro arrivò e arrivò senza fare il più piccolo rumore perché le sue ruote erano fasciate di stop e di cenzi lo tiravano dodici pariglie di ciuchini tutti della medesima grandezza ma di diverso pelame alcuni erano bigi altri bianchi altri brizzolati a uso pepe e sale e altri rigati a grandi strisce gialle e turchine ma la cosa più singolare era questa che quelle dodici pariglie ossia quei ventiquattro ciuchini invece di essere ferrati come tutte le altre bestie da tiro e la soma avevano ai piedi degli stivali da uomo di vacchetta bianca e il conduttore del carro figuratevi un omino più largo che lungo tenero e untuoso come una palla di burro con un visino di mela rosa una bocchina che rideva sempre e una voce sottile e carezzevole come quella di un gatto che si raccomanda al buon cuore della padrona di casa tutti i ragazzi appena lo vedevano ne restavano innamorati e facevano a gara nel montare sul suo carro per essere condotti da lui in quella vera cuccagna conosciuta nella carta geografica col seducente nome di paese dei balocchi difatti il carro era già tutto pieno di ragazzetti fra gli otto e i dodici anni ammontichiati gli uni sugli altri come tante acciughe nella sala voia stavano male stavano pigiati non potevano quasi respirare ma nessuno diceva oi nessuno si lamentava la consolazione di sapere che fra poche ore sarebbero giunti in un paese dove non c'erano libri né scuole né maestri li rendeva così contenti e rassegnati che non sentivano né i disagi né gli strapazzi né la fame né la sete né il sonno appena il carro si fu fermato l'omino si volse all'ucignolo e con mille smorfie e mille manierine gli domandò sorridendo dimmi mio bel ragazzo vuoi venire anche tu in quel fortunato paese sicuro che ci voglio venire ma ti avverto carino mio che nel carro non c'è più posto come vedi è tutto pieno pazienza replicò l'ucignolo se non c'è posto dentro io mi adatterò a star seduto sulle stanghe del carro e spiccato un salto montò a cavalcioni sulle stanghe e tu amor mio disse Romino volgendosi tutto complimentoso a Pinocchio che intendi fare vieni con noi o rimani io rimango rispose Pinocchio io voglio tornarmene a casa mia voglio studiare e voglio farmi onore alla scuola come fanno tutti i ragazzi per bene buon prati faccia Pinocchio disse allora l'ucignolo dai retta a me vieni via con noi e staremo allegri no 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 vieni via con noi e staremo allegri gridarono altre quattro voci di dentro il carro vieni via con noi e staremo allegri urlarono tutte insieme un centinaio di voci di dentro il carro se vengo via con voi che cosa dirà la mia buona fata disse il burattino che cominciava a intenerirsi e a ciurlar nel manico non ti fasciare il capo con tante malinconie pensa che andiamo in un paese dove saremo padroni di fare il chiasso dalla mattina alla sera Pinocchio non rispose ma fece un sospiro poi fece un altro sospiro vuoi un terzo sospiro disse finalmente fatemi un po' di posto voglio venire anch'io i posti sono tutti pieni replicò Lomino ma per mostrarti quanto sei gradito posso cederti il mio posto a cassetta e voi e io farò la strada a piedi no davvero non lo permetto preferisco piuttosto salire in groppa a qualcuno di questi ciuchini gridò Pinocchio e detto fatto si avvicinò al ciuchino manritto della prima pariglia e fece l'atto di voler cavalcare ma la bestiola voltandosi a secco gli dette una gran musata nello stomaco e lo gettò a gambe all'aria figuratevi la risatona impertinente sgangherata di tutti quei ragazzi presenti alla scena ma Lomino non rise si accostò pieno di amorevolezza al ciuchino ribelle e facendo finta di dargli un bacio gli staccò con un morso la metà dell'orecchio destro intanto Pinocchio rizzatosi da terra tutto infuriato schizzò un salto sulla groppa di quel povero animale e il salto fu così bello che i ragazzi smesso di ridere cominciarono a urlare viva Pinocchio e a fare una smanacciata di applausi che non finivano più quando ecco che all'improvviso il ciuchino alzò tutte e due le gambe di dietro e dando una fortissima sgroppata scaraventò il povero burattino in mezzo alla strada sopra un monte di ghiaia allora grandi risate da capo ma l'omino invece di ridere si sentì preso da tanto amore per l'irrequieto asinello che con un bacio gli portò via di netto la metà di quell'altro orecchio poi disse il burattino rimonta pure a cavallo e non aver paura quel ciuchino aveva qualche grillo per il capo ma io gli ho detto due paroline negli orecchi e spero di averlo reso mansueto e ragionevole Pinocchio montò e il carro cominciò a muoversi ma nel tempo che i ciuchini galoppavano e che il carro correva sui ciotoli della via maestra gli parve al burattino di sentire una voce sommessa e appena intellegibile che gli disse povero gonzo hai voluto fare a modo tuo ma te ne pentirai Pinocchio quasi impaurito guardò di qua e di là per conoscere da quale parte venissero queste parole ma non vide nessuno i ciuchini galoppavano il carro correva i ragazzi dentro al carro dormivano l'ucignolo russava come un ghiro e l'omino seduto a cassetta canterellava fra i denti tutti la notte dormono e io non dormo mai fatto un altro mezzo chilometro Pinocchio sentì la solita vocina a fioca che gli disse tienilo a mente grullerello i ragazzi che smettono di studiare e voltano le spalle ai libri alle scuole ai maestri per darsi interamente ai balocchi ai divertimenti non possono far altro che una fine disgraziata lo so per prova e te lo posso dire verrà un giorno che piangerai anche tu come oggi piango io ma allora sarà tardi a queste parole bisbigliate sommessamente il burattino spaventato più che mai salto giù dalla groppa della cavalcatura e andò a prendere il suo ciuchino per il muso immaginatevi come restò quando si accorse che il suo ciuchino piangeva e piangeva proprio come un ragazzo ehi signor Romino gridò allora Pinocchio al padrone del carro sapete che cosa c'è di nuovo? questo ciuchino piange lascialo piangere riderà quando sarà sposo ma che forse gli avete insegnato anche a parlare? no ha imparato da sé obrobottare qualche parola essendo stato tre anni in una compagnia di cani ammaestrati povera bestia via via disse Romino non perdiamo il nostro tempo a veder piangere un ciucho rimonta a cavallo e andiamo la notte è fresca e la strada è lunga Pinocchio obbedì senza rifiatare il carro riprese la sua corsa e la mattina sul far dell'alba arrivarono felicemente nel paese dei balocchi questo paese non somigliava a nessun altro paese del mondo la sua popolazione era tutta composta di ragazzi i più vecchi avevano 14 anni i più giovani ne avevano 8 appena nelle strade un'allegria un chiasso uno strillio da levar di cervello branchi di monelli dappertutto chi giocava alle noci chi alle piastrelle chi alla palla chi andava al velocipede chi sopra un cavallino di legno questi facevano la mosca cieca quegli altri si rincorrevano altri vestiti da pagliacci mangiavano la stoppa accesa chi recitava chi cantava chi faceva i salti mortali chi si divertiva a camminare con le mani in terra e con le gambe in aria chi mandava il cerchio chi passeggiava vestito da generale con l'elmo di foglio e lo squadrone di cartapesta chi rideva chi urlava chi chiamava chi batteva le mani chi fischiava chi rifaceva il verso alla gallina quando ha fatto l'uovo insomma un tal pandemonio un tal passeraio un tal baccano indiavolato da doversi mettere il cotone negli orecchi per non rimanere assordati su tutte le piazze si vedevano teatrini di tela affollati di ragazzi dalla mattina alla sera e su tutti i muri delle case si leggevano scritte col carbone delle bellissime cose come queste viva i balocci invece di balocchi non vogliamo più scuole invece di non vogliamo più scuole abbasso la rimmetica invece di l'aritmetica e altri fiori consimili Pinocchio Lucignolo e tutti gli altri ragazzi che avevano fatto il viaggio con l'omino appena ebbero messo il piede dentro la città si ficcarono subito in mezzo alla gran barahonda e in pochi minuti come è facile a immaginarselo diventarono gli amici di tutti chi più felice chi più contento di loro in mezzo ai continui spassi agli svariati divertimenti le ore, i giorni, le settimane passavano come tanti baleni oh che bella vita diceva Pinocchio tutte le volte che per caso si imbatteva in Lucignolo vedi dunque se avevo ragione ripigliava quest'ultimo e dire che tu non volevi partire e pensare che ti hai rimesso in capo di tornartene a casa dalla tua fata per perdere il tempo a studiare se oggi ti sei liberato dalla noia dei problemi e delle scuole lo devi a me ai miei consigli alle mie premure ne convieni non vi sono che i veri amici che sappiano rendere di questi grandi favori è vero Lucignolo se oggi io sono un ragazzo veramente contento è tutto a merito tuo e il maestro invece sai che cosa mi diceva parlando di te mi diceva sempre non praticare quella birba di Lucignolo perché Lucignolo è un cattivo compagno e non può consigliarti altro che a far del male povero maestro replicò l'altro tentennando il capo lo so purtroppo che mi aveva noia e che si divertiva sempre a calunniarmi ma io sono generoso e gli perdono anima grande disse Pinocchio abbracciando affettuosamente l'amico e dandogli un bacio in mezzo agli occhi intanto era già da cinque mesi che durava questa bella cuccagna di baloccarsi e di divertirsi le giornate intere senza mai vedere in faccia né un libro né una scuola quando una mattina Pinocchio svegliandosi ebbe come si suol dire una gran brutta sorpresa che lo messe proprio di malumore a Pinocchio gli vengono gli orecchi di ciucco e poi diventa un ciuchino vero e comincia a ragliare e questa sorpresa quale fu? ve lo dirò io miei cari e piccoli lettori la sorpresa fu che Pinocchio svegliandosi gli venne fatto naturalmente di grattarsi il capo e nel grattarsi il capo si accorse indovinate un po' di che cosa si accorse si accorse con sua grandissima maraviglia che gli orecchi gli erano cresciuti più di un palmo voi sapete che il burattino fin dalla nascita aveva gli orecchi piccini piccini tanto piccini che a occhio nudo non si vedevano neppure immaginatevi dunque come restò quando si pote scorgere che i suoi orecchi durante la notte si erano così allungati che parevano due spazzole di padule andò subito in cerca di uno specchio per potersi vedere ma non trovando uno specchio empi d'acqua la catinella del lavamano e specchiandovisi dentro vide quel che non avrebbe mai voluto vedere vide cioè la sua immagine abbellita di un magnifico paio di orecchi asinini lascio pensare a voi il dolore la vergogna la disperazione del povero Pinocchio cominciò a piangere a strillare a battere la testa nel muro ma quanto più si disperava ma quanto più si disperava e più i suoi orecchi crescevano crescevano e diventavano pelosi verso la cima al rumore di quelle grida acutissime entrò nella stanza una bella marmottina che abitava al piano di sopra la quale vedendo il burattino in così grandi sbanie gli domandò premurosamente che cos'hai mio caro casigliano sono malato marmottina mia molto malato e malato di una malattia che mi fa paura te ne intendi tu del polso un pochino senti dunque se per caso avessi la febbre la marmottina alzò la zampa destra davanti e dopo aver tastato il polso di Pinocchio gli disse sospirando amico mio mi dispiace doverti dare una cattiva notizia cioè tu hai una gran brutta febbre e che febbre sarebbe la febbre del somaro non capisco questa febbre rispose il burattino che l'aveva purtroppo capita allora te la spiegherò io soggiunse la marmottina sappi dunque che fra due o tre ore tu non sarai più burattino né un ragazzo e che cosa sarò fra due o tre ore tu diventerai un ciuchino vero e proprio come quelli che tirano il carretto e che portano i cavoli e l'insalata al mercato povero me povero me gridò Pinocchio pigliandosi con le mani tutte e due gli orecchi e tirandoli e strapazzandoli rabbiosamente come se fossero gli orecchi di un altro caro mio replicò la marmottina per consolarlo che cosa ci vuoi fare oramai è destino oramai è scritto nei decreti della sapienza che tutti quei ragazzi svogliati che pigliando a noi ai libri le scuole e i maestri passano le loro giornate in balocchi in giochi e in divertimenti debbano finire prima o poi col trasformarsi in tanti piccoli somari ma davvero è proprio così domandò singhiozzando il burattino purtroppo è così e ora i pianti sono inutili bisognava pensarci prima ma la colpa non è mia la colpa credi marmottina è tutta di lucignolo e chi è questo lucignolo un mio compagno di scuola io volevo tornare a casa io volevo essere ubbidiente io volevo seguitare a studiare e a farmi onore ma lucignolo mi disse perché vuoi annoiarti a studiare perché vuoi andare alla scuola vieni piuttosto con me nel paese dei balocchi lì non studieremo più lì ci divertiremo dalla mattina alla sera e staremo sempre allegri e perché seguisti il consiglio di quel falso amico di quel cattivo compagno perché perché marmottina mia io sono un burattino senza giudizio e senza cuore se avessi avuto un zinzino di cuore non avrei mai abbandonato quella buona fata che mi voleva bene come una mamma e che aveva fatto tanto per me a quest'ora non sarai più un burattino ma sarai invece un ragazzo a modo come ce ne sono tanti oh ma se incontro l'ucignolo guai a lui gliene voglio dire un sacco e una sporta e fece l'atto di voler uscire ma quando fu sulla porta si ricordò che aveva gli orecchi d'asino e vergognandosi di mostrargli al pubblico che cosa inventò prese un gran berretto di cotone e ficcandoselo in testa se lo ingozzò fin sotto la punta del naso poi uscì e si dette a cercare l'ucignolo dappertutto lo cercò nelle strade nelle piazze nei teatrini in ogni luogo ma non lo trovò le chiese notizie a quanti incontrò per la via ma nessuno l'aveva veduto allora andò a cercarlo in casa e arrivato alla porta bussò chi è? domandò l'ucignolo di dentro sono io rispose il burattino aspetta un poco e ti aprirò dopo mezz'ora la porta si aprì e figuratevi come restò Pinocchio quando entrando nella stanza vide il suo amico lucignolo con un gran berretto di cotone in testa che gli scendeva fin sotto il naso alla vista di quel berretto Pinocchio sentì quasi consolarsi e pensò subito dentro di sé che l'amico sia malato della mia medesima malattia che abbia anche lui la febbre del ciuchino e facendo finta di non essersi accorto di nulla gli domandò sorridendo come stai mio caro lucignolo benissimo come un topo in una forma di cacio parmigiano lo dici proprio sul serio e perché dovrei dirti una bugia scusami amico e allora perché tieni in capo con questo berretto di cotone che ti cuopre tutti gli orecchi me l'ha ordinato il medico perché mi son fatto male a questo ginocchio e tu caro burattino perché porti questo berretto di cotone ingozzato fin sotto il naso me l'ha ordinato il medico perché mi sono sbucciato un piede oh povero pinocchio oh povero lucignolo a queste parole tenne dietro un lunghissimo silenzio durante il quale i due amici non fezzero altro che guardarsi fra loro in atto di canzonatura finalmente il burattino con una vocina mellifola e flautata disse al suo compagno levami una curiosità mio caro lucignolo hai mai sofferto di malattia agli orecchi mai e tu mai peraltro da questa mattina in poi ho un orecchio che mi fa spasimare ho lo stesso male anch'io anche tu e qual è l'orecchio che ti duole tutte e due e tu tutte e due che sia la medesima malattia ho paura di sì vuoi farmi un piacere lucignolo volentieri con tutto il cuore mi fai vedere i tuoi orecchi perché no ma prima voglio vedere i tuoi caro Pinocchio no il primo devi essere tu no carino prima tu e dopo io ebbene disse allora il burattino facciamo un patto da buoni amici sentiamo il patto leviamoci tutti e due il berretto nello stesso tempo accetti accetto dunque attenti e Pinocchio cominciò a contare a voce alta uno due tre alla parola tre i due ragazzi presero i loro berretti di capo e li gettarono in terra e allora avvenne una scena che parrebbe incredibile se non fosse vera avvenne cioè che Pinocchio e Lucignolo quando si videro colpiti tutte e due dalla medesima disgrazia invece di restare mortificati e dolenti cominciarono ad ammiccarsi i loro orecchi smisuratamente cresciuti e dopo mille sguaiataggini finirono col dare in una bella risata e risero 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 da doversi rezzare il corpo se non che sul più bello del ridere Lucignolo tutto un tratto si chietò e barcollando e cambiando colore disse all'amico aiuto aiuto Pinocchio che cos'hai ohimè non mi riesce più di sterritto sulle gambe non mi riesce più neanche a me gridò Pinocchio piangendo e traballando e mentre dicevano così si piegarono tutte e due carponi a terra e camminando con le mani e coi piedi cominciarono a girare e a correre per la stanza e intanto che correvano i loro bracci diventavano zampe i loro visi si allungarono e diventarono musi e le loro schiene si coprirono di un pelame grigolino chiaro brizzolato di nero ma il momento più brutto per quei due sciagurati sapete quando fu il momento più brutto e più umiliante fu quando sentirono spuntarsi di dietro la coda vinti allora dalla vergogna e dal dolore si provarono a piangere e a lamentarsi del loro destino non l'avessero mai fatto invece di gemiti e di lamenti mandavano fuori dei ragli asinini e ragliando sonoramente facevano tutte e due coro in quel frattempo fu bussato alla porta e una voce di fuori disse aprite aprite sono lomino sono il conduttore del carro che vi portò in questo paese aprite subito o guai a voi diventato un ciuchino vero è portato a vendere e lo compra il direttore di una compagnia di pagliazzi per insegnargli a ballare e a saltare i cerchi ma una sera zoppisce e allora lo ricomprò un altro per far con la sua pelle un tamburo vedendo che la porta non si apriva lomino la spalancò con un violentissimo calcio ed entrato che fu nella stanza disse col suo solito risolino a Pinocchio e a Lucignolo bravi ragazzi avete ragliato bene e io vi ho subito riconosciuti dalla voce e per questo eccomi qui a tali parole i due ciuchini rimasero mogi mogi con la testa giù con gli orecchi bassi e con la coda fra le gambe da principio lomino li lisciò li accarezzò li palpeggiò poi tirata fuori la striglia cominciò a strigliarli per bene e quando a furia di strigliarli gli ebbe fatti lustri come due specchi allora messe loro la cavezza e li condusse sulla piazza del mercato con la speranza di venderli e di beccarsi un discreto guadagno e i compratori di fatti non si fecero aspettare l'ucignolo fu comprato da un contadino a cui era morto il somaro il giorno avanti e Pinocchio fu venduto al direttore di una compagnia di pagliacci e di saltatori di corda il quale lo comprò per ammaestrarlo e per farlo poi saltare e ballare insieme con le altre bestie della compagnia e ora avete capito nei piccoli lettori qual era il bel mestiere che faceva l'omino questo brutto mostriciattolo che aveva una fisionomia tutta latte e miele andava di tanto in tanto con un carro a girare per il mondo strada facendo raccoglieva con promesse e con moine tutti i ragazzi svogliati che avevano a noia i libri e le scuole e dopo averli caricati sul suo carro li conduceva nel paese dei balocchi perché passassero tutto il loro tempo in giochi in chiassate e in divertimenti quando poi quei poveri ragazzi illusi a furia di baloccarsi sempre e di non studiare mai diventavano tanti ciuchini allora tutto allegro e contento si impadroniva di loro e li portava a vendere sulle fiere e sui mercati e così in pochi anni aveva fatto fior di quattrini ed era diventato milionario quel che accadesse di lucignolo non lo so so peraltro che Pinocchio andò incontro fin dai primi giorni a una vita durissima e strapazzata quando fu condotto nella stalla il nuovo padrone gli empì la greppia di paglia ma Pinocchio dopo averne assaggiato una boccata la risputò allora il padrone brontolando gli empì la greppia di fieno ma neppure il fieno gli piacque non ti piace neppure il fieno gridò il padrone imbizzito lascia fare ciuchino bello che se hai dei capricci per il capo penserò io a levarteli e a titolo di correzione gli affibbiò subito una frustata nelle gambe Pinocchio dal gran dolore cominciò a piangere e a ragliare e ragliando disse la paglia non la posso digerire allora mangia il fieno replicò il padrone che intendeva benissimo il dialetto asinino il fieno mi fa dolere il corpo pretenderesti dunque che un somaro partuo lo dovessi mantenere a petti di pollo e cappone in galantina soggiunse il padrone arrabbiandosi sempre di più e affibbiandogli una seconda frustata a quella seconda frustata Pinocchio per prudenza si chietò subito e non disse altro intanto la stalla fu chiusa e Pinocchio rimase solo e poiché erano molte ore che non aveva mangiato cominciò a sbadigliare dal grande appetito e sbadigliando spalancava una bocca che pareva un forno alla fine non trovando altro nella greppia si rassegnò a masticare un po' di fieno e dopo averlo masticato ben bene chiuse gli occhi e lo tirò giù questo fieno non è cattivo poi disse dentro di sé ma quanto sarebbe stato meglio se avessi continuato a studiare a quest'ora invece di fieno potrei mangiare un cantuccio di pan fresco e una bella fetta di salame pazienza la mattina dopo svegliandosi cercò subito nella greppia un altro po' di fieno ma non lo trovò perché l'aveva mangiato tutto nella notte allora prese una boccata di paglia tritata ma in quel mentre che la masticava si dove accorgere che il sapore della paglia tritata non somigliava appunto né al risotto alla milanese né ai maccheroni alla napoletana pazienza ripetei continuando a masticare pazienza ripetei continuando a masticare che almeno la mia disgrazia possa servire di lezione a tutti i ragazzi disobbedienti e che non hanno voglia di studiare pazienza pazienza un corno urlò il padrone entrando in quel momento nella stalla credi forse il mio bel ciuchino che io ti abbia comprato unicamente per darti da bere e da mangiare io ti ho comprato perché tu lavori e perché tu mi faccia guadagnare molti quattrini su dunque da bravo vieni con me nel circo e là ti insegnerà a saltare i cerchi a rompere col capo le botti di foglio e a ballare il valser e la polca stando ritto sulle gambe di dietro un povero Pinocchio per amore o per forza dove imparare tutte queste bellissime cose ma per impararle gli ci vollero tre mesi di lezioni e molte frustate da levare il pelo venne finalmente il giorno in cui il padrone poteva annunziare uno spettacolo veramente straordinario i cartelloni di vario colore attaccati alle cantonate delle strade dicevano così quella sera come potete figurarvelo un'ora prima che cominciasse lo spettacolo il teatro era stipato non si trovava più né un posto distinto né un palco nemmeno a pagarlo a peso d'oro le gradinate del circo formicolavano di bambini di bambine e di ragazzi di tutta l'età che avevano la febbre addosso per la smania di veder ballare il famoso ciuchino Pinocchio finita la prima parte dello spettacolo il direttore della compagnia vestito in giubba nera calzoni bianchi a coscia e stivaloni di pelle fin sopra i ginocchi si presentò all'affollatissimo pubblico e fatto un grande inchino recitò con molta solennità il seguente spropositato discorso rispettabile pubblico cavalieri e dame l'umile sottoscritto essendo di passaggio per questa illustre metropolitana ha voluto procrearmi l'onore nonché il piacere di presentare a questo intelligente e cospicuo auditorio un celebre ciuchino che ebbe già l'onore di ballare al cospetto di sua maestà l'imperatore di tutte le corti principali d'Europa ecco ringraziandoli aiutateci della vostra animatrice presenza e compatiteci questo discorso fu accolto da molte risate e da molti applausi ma gli applausi raddoppiarono e diventarono una specie di uragano alla comparsa del ciuchino Pinocchio in mezzo al circo egli era tutto agghiendato a festa aveva una briglia nuova di pelle lustre con fibbie e borchie d'ottone due camellia bianche agli orecchi la criniera divisa in tanti rizzoli legati con fiocchettini d'argento attraverso alla vita e la coda tutta intrezzata con nastri di velluto amaranto e celeste era insomma un ciuchino da innamorare il direttore nel presentarlo al pubblico aggiunse queste parole miei rispettabili auditori non starò qui a farvi menzogne delle grandi difficoltà da me soppressate per comprendere e soggiogare questo mammifero mentre pascolava liberamente di montagna in montagna nelle pianure della zona torrida osservate vi prego quanta selvaggina trasudi dai suoi occhi conciossi a che essendo riusciti vanitosi tutti i mezzi per addomesticarlo al vivere dei quadrupedi civili ho dovuto più volte ricorrere all'affabile dialetto della frusta ma ogni mia gentilezza invece di farmi da lui ben volere me ne ha maggiormente cattivato l'animo io però seguendo il sistema di Galles trovai nel suo cranio una piccola cartilagine ossea che la stessa facoltà medicea di Parigi riconobbe essere quello il bulbo rigeneratore dei capelli e della danza pirrica e per questo io lo voglio ammaestrare nel ballo nonché nei relativi salti dei cerchi e delle botti foderate di foglio ammiratelo e poi giudicatelo prima però di prendere cognato da voi permettete o signori che io vi inviti al diurno spettacolo di domani sera ma nell'apoteosi che il tempo piovoso minacciasse acqua allora lo spettacolo invece di domani sera sarà posticipato domattina alle ore 11 antimeridiane del pomeriggio e qui il direttore fece un'altra profondissima riverenza quindi rivolgendosi a Pinocchio gli disse animo Pinocchio avanti di dar principio ai vostri esercizi salutate questo rispettabile pubblico cavalieri dame e ragazzi Pinocchio ubbidiente piegò subito i due ginocchi davanti fino a terra e rimase inginocchiato fino a tanto che il direttore schioccando la frusta non gli gridò al passo allora il ciuchino si rizzò sulle quattro zampe e cominciò a girare intorno al circo camminando sempre di passo dopo un po' quel direttore gridò al trotto e Pinocchio ubbidiente al comando cambiò il passo in trotto al galoppo e Pinocchio staccò il galoppo alla carriera e Pinocchio si dette a correre di gran carriera ma in quella che correva come un barbero il direttore alzando il braccio in aria scaricò un colpo di pistola a quel colpo il ciuchino fingendosi ferito cadde disteso nel circo come se fosse moribondo davvero rizzatosi da terra in mezzo a uno scoppio di applausi d'urli e di battimani che andavano alle stelle gli venne naturalmente di alzare la testa e di guardare in su e guardando vide in un palco una bella signora che aveva al collo una grossa collana d'oro dalla quale pendeva un medaglione nel medaglione c'era dipinto il ritratto di un burattino quel ritratto è il mio quella signora è la fata disse dentro di sé Pinocchio riconoscendola subito e lasciandosi vincere dalla gran contentezza si provò a gridare oh fatina mia fatina mia ma invece di queste parole gli uscì dalla gola un raglio così sonoro e prolungato che fece ridere tutti gli spettatori e segnatamente tutti i ragazzi che erano in teatro allora il direttore per insegnargli e per fargli intendere che non è buona creanza mettersi a ragliare in faccia al pubblico gli die col manico della frusta una bacchettata sul naso un povero ciuchino tirato fuori un palmo di lingua durò a leccarsi il naso almeno cinque minuti credendo forse così di rasciugarsi il dolore che aveva sentito ma quale fu la sua disperazione quando voltandosi in su una seconda volta vide che il palco era vuoto e che la fata era sparita si sentì come morire gli occhi gli si riempirono di lacrime e cominciò a piangere dirottamente nessuno però se ne accorse e meno degli altri il direttore il quale anzi schioccando la frusta gridò da bravo Pinocchio ora farete vedere a questi signori con quanta grazia sapete saltare i cerchi Pinocchio si provò due o tre volte ma ogni volta che arrivava davanti al cerchio invece di attraversarlo ci passava più comodamente di sotto alla fine spiccò un salto e l'attraversò ma le gambe di dietro gli rimasero disgraziatamente impigliate nel cerchio motivo per cui ricadde in terra dall'altra parte tutto in un fascio quando si rizzò era azzoppito e a malapena poter ritornare alla scuderia fuori Pinocchio vogliamo il ciuchino fuori il ciuchino gridavano i ragazzi dalla platea impietositi e commossi al tristissimo caso ma il ciuchino per quella sera non si fece rivedere la mattina dopo il veterinario ossia il medico delle bestie quando l'ebbe visitato dichiarò che sarebbe rimasto zoppo per tutta la vita allora il direttore disse al suo garzone di stalla che vuoi tu che mi faccia di un somaro zoppo sarebbe un mangia pane a ufo portalo dunque in piazza e rivendilo arrivati in piazza trovarono subito il compratore il quale domandò al garzone di stalla quanto vuoi dico testo ciuchino zoppo 20 lire io ti do 20 soldi non credere che io lo compri per servirmene lo compro unicamente per la sua pelle vedo che ha la pelle molto dura e con la sua pelle voglio fare un tamburo per la banda musicale del mio paese lascio pensare a voi ragazzi il bel piacere che fu per il povero Pinocchio quando sentì che era destinato a diventare un tamburo fatto sta che il compratore appena pagati i 20 soldi condusse il ciuchino sopra uno scoglio che era sulla riva del mare e messogli un sasso al collo e legatolo per una zampa con una fune che teneva in mano gli dia improvvisamente uno spintone e lo gettò nell'acqua Pinocchio con quel macigno al collo andò subito a fondo e il compratore tenendo sempre stretta in mano la fune si pose a sedere sullo scoglio aspettando che il ciuchino avesse tutto il tempo di morire affogato per poi levargli la pelle Pinocchio zettato in mare è mangiato dai pesci e ritorna ad essere un burattino come prima ma mentre nuota per salvarsi è ingoiato dal terribile pesce cane dopo 50 minuti che il ciuchino era sott'acqua il compratore disse discorrendo da sé solo a quest'ora il mio povero ciuchino zoppo deve essere bello affogato riteriamo dunque su e facciamo con la sua pelle questo bel tamburo e cominciò a tirare la fune con la quale lo aveva legato per una gamba e tira 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 alla fine vide apparire a fior d'acqua indovinate invece di un ciuchino morto vide apparire a fior d'acqua un burattino vivo che scodinzolava come un'anguilla vedendo quel burattino di legno il povero uomo crede di sognare e rimase lì intontito a bocca aperta e con gli occhi fuori dalla testa riavutosi un poco dal suo primo stupore disse piangendo e balbettando e il ciuchino che ho gettato in mare dov'è? quel ciuchino sono io rispose il burattino ridendo tu? io? ah marivolo pretenderesti forse di burlarti di me burlarmi di voi tutt'altro caro padrone io vi parlo sul serio ma come mai tu che poco fa eri un ciuchino ora stando nell'acqua sei diventato un burattino di legno sarà effetto dell'acqua di mare il mare ne fa di questi scherzi vada burattino vada non credere di divertirti alle mie spalle guai a te se mi scappa la pazienza ebbene padrone volete sapere tutta la vera storia? scioglietemi questa gamba e ve la racconterò quel buon pasticcione del compratore curioso di conoscere la vera storia gli sciolse subito il nodo della fune che lo teneva legato e allora Pinocchio trovandosi libero come un uccello nell'aria prese a dirgli così sappiate dunque che io ero un burattino di legno come sono oggi ma mi trovavo a tocco e non a tocco di diventare un ragazzo come in questo mondo ce ne tanti se non che per la mia poca voglia di studiare e per dar retta ai cattivi compagni scappai di casa e un bel giorno svegliandomi mi trovai cambiato in un somaro con tanto di orecchi e con tanto di coda che vergogna fu quella per me una vergogna caro padrone che Sant'Antonio Benedetto non la faccia provare neppure a voi portato a vendere sul mercato degli asini fui comprato dal direttore di una compagnia equestre il quale si messe in capo di far di me un gran ballerino e un gran saltatore di cerchi ma una sera durante lo spettacolo feci in teatro una brutta cascata rimasi zoppo da tutte e due le gambe allora il direttore non sapendo che cosa farsi di un asino zoppo mi mandò a rivendere e voi mi avete comprato purtroppo e ti ho pagato venti soldi e ora chi mi rende i miei poveri venti soldi e perché mi avete comprato voi mi avete comprato per fare con la mia pelle un tamburo un tamburo purtroppo e ora dove troverò un'altra pelle non vi date alla disperazione padrone dei ciuchini ce n'è tanti in questo mondo dimmi monello impertinente e la tua storia finisce qui no rispose il burattino ti sono altre due parole e poi è finita dopo avermi comprato mi avete condotto in questo luogo per uccidermi ma poi cedendo a un sentimento pietoso d'umanità avete preferito di legarmi un sasso al collo e di gettarmi in fondo al mare questo sentimento di delicatezza vi onora moltissimo e io ve ne serverò eterna riconoscenza peraltro caro padrone questa volta avete fatto i vostri conti senza la fata e chi è questa fata è la mia mamma la quale somiglia a tutte le buone mamme che vogliono un gran bene ai loro ragazzi e non li perdono mai d'occhio e li assistono amorosamente in ogni disgrazia anche quando questi ragazzi per le loro scappataggini e per i loro cattivi portamenti meriterebbero di essere abbandonati e lasciati in balia a se stessi dicevo dunque che la buona fata appena mi vide in pericolo di affogare mandò subito intorno a me un branco infinito di pesci i quali credendomi davvero un ciuchino bello e morto cominciarono a mangiarmi e che bocconi che facevano non avrei mai creduto che i pesci fossero più ghiotti anche dei ragazzi chi mi mangiò gli orecchi chi mi mangiò il muso chi il collo e la criniera chi la pelle delle zampe chi la pelliccia della schiena e fra gli altri vi fu un pesciolino così garbato che si degnò perfino di mandarmi la coda da oggi in poi disse il compratore inorridito faccio giuro di non assaggiar più carne di pesce mi dispiacerebbe troppo di aprire una triglia o un nasello fritto e di trovargli in corpo una coda di ciucco io la penso come voi replicò il burattino ridendo dal resto dovete sapere che quando i pesci ebbero finito di mangiarmi tutta quella buccia asinina che mi copriva dalla testa ai piedi arrivarono come naturale all'osso o per dir meglio arrivarono al legno perché come vedete io sono fatto di legno durissimo ma dopo dati i primi morsi quei pesci ghiottoni si accorsero subito che il legno non era ciccia per i loro denti e nauseati da questo cibo indigesto se ne andarono chi di qua chi di là senza voltarsi nemmeno a dirmi grazie ed eccovi raccontato come qualmente voi tirando sulla fune avete trovato un burattino vivo invece di un ciuchino morto io mi rido della tua storia gridò il compratore imbestialito io so che ho speso venti soldi per comprarti e rivoglio i miei quattrini sai che cosa farò ti porterò da capo al mercato e ti rivenderò a peso di legno stagionato per accendere il fuoco nel caminetto rivendetemi pure io sono contento disse Pinocchio ma nel dir così fece un bel salto e schizzò in mezzo all'acqua e nuotando allegramente e allontanandosi dalla spiaggia gridava al povero compratore addio padrone se avete bisogno di una pelle per fare un tamburo ricordatevi di me e poi rideva e seguitava a nuotare e dopo un poco rivoltandosi indietro urlava più forte addio padrone se avete bisogno di un po' di legno stagionato per accendere il caminetto ricordatevi di me fatto sta che in un batter d'occhio si era tanto allontanato che non si vedeva quasi più ossia si vedeva solamente sulla superficie del mare un puntolino nero che di tanto in tanto rizzava le gambe fuori dell'acqua e faceva capriole e salti come un delfino in vena di buon umore e intanto che Pinocchio nuotava all'avventura vide in mezzo al mare uno scoglio che pareva di marmo bianco e su in cima allo scoglio una bella caprettina che belava amorosamente e gli faceva segno di avvicinarsi la cosa più singolare era questa che la lana della caprettina invece ad essere bianca o nera o pallata di due colori come quella delle altre capre era invece turchina ma ad un color turchino sfolgorante che rammentava moltissimo i capelli della bella bambina lascio pensare a voi se il cuore del povero Pinocchio cominciò a battere più forte raddoppiando di forza e di energia si dia a nuotare verso lo scoglio bianco ed era già a mezza strada quando ecco uscir fuori dall'acqua e venirgi incontro una orribile testa di mostro marino con la bocca spalancata come una voragine e tre filari di zanne che avrebbero fatto paura anche a vederle dipinte e sapete chi era quel mostro marino quel mostro marino era né più né meno quel gigantesco pesce cane ricordato più volte in questa storia e che per le sue stragi e per la sua insaziabile voracità veniva soprannominato l'attila dei pesci e dei pescatori immaginatevi lo spavento del povero Pinocchio alla vista del mostro cercò di scansarlo di cambiare strada cercò di fuggire ma quella immensa bocca spalancata gli veniva sempre incontro con la velocità di una saetta affrettati Pinocchio per carità gridava belando la bella caprettina e Pinocchio nuotava disperatamente con le brazze col petto con le gambe e coi piedi corri Pinocchio perché il mostro si avvicina e Pinocchio raccogliendo tutte le sue forze raddoppiava di lena nella corsa vada Pinocchio il mostro ti raggiunge eccolo eccolo affrettati per carità o sei perduto e Pinocchio a nuotar più lesto che mai e via e via e via come andrebbe una palla di fucile e già era presso lo scoglio e già la caprettina spenzolandosi tutta sul mare gli porgeva le sue zampine davanti per aiutarlo a uscire dall'acqua ma ormai ma ormai era tardi il mostro tirando il fiato a sé si beve il povero burattino come avrebbe bevuto un uovo di gallina e lo inghiottì con tante violenza e con tanta avidità che Pinocchio cascando giù in corpo al pescecane batte un colpo così screanzato da restarne sbalordito per un quarto d'ora quando ritornò in seda quello sbigottimento non sapeva raccapezzarsi nemmeno lui in quale mondo si fosse intorno a sé c'era da ogni parte un gran buio ma un buio così nero e profondo che gli pareva di essere entrato col capo in un calamaio pieno di inchiostro stette in ascolto e non sentì nessun rumore solamente di tanto in tanto sentiva battersi nel viso alcune grandi buffate di vento da principio non sapeva intendere da dove quel vento uscisse ma poi capì che usciva dai polmoni del mostro perché bisogna sapere che il pesce cane soffriva moltissimo d'asma e quando respirava pareva proprio che tirasse la tramontana Pinocchio sulle prime si ingegnò di farsi un poco di coraggio ma quando ebbe la prova e la riprova di trovarsi chiuso in corpo al mostro marino allora cominciò a piangere e a strillare e piangendo diceva aiuto aiuto oh povero me non c'è nessuno che venga a salvarmi chi vuoi che ti salvi disgraziato disse in quel buio una vociaccia fessa di chitarra scordata chi è che parla così domandò Pinocchio sentendosi gelare dallo spavento sono io un povero tonno inghiottito dal pesce cane insieme con te e tu che pesce sei io non ho a che vedere nulla coi pesci io sono un burattino e allora se non sei un pesce perché ti sei fatto inghiottire dal mostro non sono io che mi son fatto inghiottire e è lui che mi ha inghiottito ed ora che cosa dobbiamo fare qui al buio l'assegnarsi e aspettare che il pesce cane ci abbia digeriti tutte e due ma io non voglio essere digerito urlò Pinocchio ricominciando a piangere neppure io vorrei essere digerito soggiunse il tonno ma io sono abbastanza filosofo e mi consolo pensando che quando si nasce tonni c'è più dignità a morire sott'acqua che sott'olio scioccherie gridò Pinocchio la mia è un'opinione replicò il tonno e le opinioni come dicono i tonni politici vanno rispettate insomma io voglio andarmene di qui io voglio fuggire fuggi se ti riesce è molto grande questo pesce cane che ci ha inghiottiti domandò il burattino figurati che il suo corpo è lungo più di un chilometro senza contare la coda nel tempo che facevano questa conversazione al buio parve a Pinocchio di veder lontano lontano una specie di chiarore che cosa sarà mai quel lumicino lontano lontano disse Pinocchio sarà qualche nostro compagno di sventura che aspetterà come noi il momento di essere digerito voglio andare a trovarlo non potrebbe darsi il caso che fosse qualche vecchio pesce capace di insegnarmi la strada per fuggire io te l'auguro di buon cuore caro burattino addio tonno addio burattino e buona fortuna dove ci rivedremo chi lo sa è meglio non pensarci neppure Pinocchio ritrova in corpo al pesce cane chi ritrova leggete questo capitolo e lo saprete Pinocchio appena ebbe detto addio al suo buon amico tonno si mosse brancolando in mezzo a quel buio e cominciò a camminare a tastoni dentro il corpo del pesce cane avviandosi un passo dietro l'altro verso quel piccolo chiarore che vedeva ballucinare lontano lontano e nel camminare sentì che i suoi piedi sguazzavano in una pozzanghera d'acqua grassa e sdrucciolona e quell'acqua sapeva di un odore così acuto di pesce fritto che gli pareva di essere a mezza quaresima e più andava avanti più il chiarore si faceva riducente e distinto finché cammina cammina alla fine arrivò e quando fu arrivato che cosa trovò ve lo do ad indovinare in mille trovò una piccola tovaglia apparecchiata con sopra una candela accesa infilata in una bottiglia di cristallo verde e seduto a tavola un vecchiettino tutto bianco come se fosse di neve o di panna montata il quale se ne stava lì biascicando alcuni pesciolini vivi ma tanto vivi che alle volte mentre li mangiava gli scappavano perfino di bocca a quella vista il povero pinocchio ebbe un'allegrezza così grande così inaspettata che ci mancò un ette non cadesse in delirio voleva ridere voleva piangere voleva dire un monte di cose e invece mugolava confusamente e balbettava delle parole tronche sconclusionate finalmente gli riuscì di cacciar fuori un grido di gioia e spalancando le braccia e gettandosi al collo del vecchietto cominciò ad urlare oh bambino mio finalmente vi ho ritrovato ora poi non vi lascio più mai più mai più dunque gli occhi mi dicono il vero replicò il vecchietto stropicciandoci gli occhi dunque tu sei proprio il mi caro pinocchio sì sì sono io proprio io e voi mi avete di già perdonato non è vero oh bambino mio come siete buono e pensare che io invece oh ma se sapeste quante disgrazie mi sono pievute sul capo e quante cose mi sono andate per traverso figuratevi che il giorno che voi povero bambino col vendere la vostra casacca mi complaste l'abbecedario per andare a scuola io scappai a vedere i burattini e il burattinaio mi voleva mettere sul fuoco perché gli cocessi il montone arrosto e fu quello che poi mi dette cinque monete d'oro perché le portassi a voi ma io trovai la volpe e il gatto che mi condussero all'osteria del gambero rosso dove mangiarono come lupi e partito solo di notte incontrai gli assassini che si messero a corrermi dietro e io via e loro dietro e io via e loro sempre dietro e io via finché mi piccarono a un ramo della querza grande dove che la bella bambina dai capelli turchini mi mandò a prendere su una carrozzina e i medici quando mi ebbero visitato dissero subito se non è morto è segno che è sempre vivo e allora mi scappò detto una bugia e il naso cominciò a crescermi e non mi passava più dalla porta di camera motivo per cui andai con la volpe e col gatto a sotterrare le quattro monete d'oro che una l'avevo spesa all'osteria e il pappagallo si è messo a ridere e viceversa di duemila monete non trovai più nulla la quale dice il giudice quando seppe che ero stato derubato mi fece subito mettere in prigione per dare una soddisfazione ai ladri di dove col venire via vidi un bel grappolo d'uva in un campo che rimasi preso alla tagliola e il contadino di santa ragione mi messe il collare da cane perché facessi la guardia al pollaio che riconobbe la mia innocenza e mi lasciò andare e il serpente con la coda che gli fumava cominciò a ridere e gli si strappò una vena sul petto e così ritornai alla casa della bella bambina che era morta e il colombo vedendo che piangevo mi disse ho visto il tuo babbo che si fabbricava una barchettina per venirti a cercare e io gli dissi oh se avessi l'ali anch'io e lui mi disse vuoi venire dal tuo babbo e io gli dissi magari ma chi mi ci porta e lui mi disse ti ci porto io e io gli dissi come e lui mi disse montami sulla groppa e così abbiamo volato tutta la notte e poi la mattina tutti i pescatori che guardavano verso il mare mi dissero c'è un povero uomo in una barchetta che sta per affogare e io da lontano vi riconobbi subito perché me lo diceva il cuore e vi feci cenno di tornare alla spiaggia ti riconobbi anch'io disse geppetto e sarai volentieri tornato alla spiaggia ma come fare il mare era grosso e un cavallone mi arrovesciò la barchetta allora un orribile pescicane che era lì vicino appena mi bevisto nell'acqua corse subito verso di me e tirata fuori la lingua mi prese pari pari e mi inghiottì come un tortellino di bologna e quant'è che siete chiusi qui dentro domandò pinocchio da quel giorno in poi saranno ormai due anni due anni pinocchio mio che mi son parsi due secoli e come avete fatto a campare e dove avete trovata la candela e i fiammiferi per accenderla chi ve li ha dati ora ti racconterò tutto devi dunque sapere che quella medesima burrasca che rovesciò la mia barchetta fece anche affondare un bastimento mercantile i marinai si salvarono tutti ma il bastimento colò a fondo e il solito pescicane che quel giorno aveva un appetito eccellente dopo aver inghiottito me inghiotti anche il bastimento come lo inghiotti tutto in un boccone domandò pinocchio maravigliato tutto in un boccone e risputò solamente l'albero maestro perché gli era rimasto fra i denti come una lisca per mia gran fortuna quel bastimento era carico di carne conservata in cassette di stagno di biscotto ossia di pane abbrustolito di bottiglie di vino d'uva secca di cacio di caffè di zucchero di candele steariche e di scatole di fiammiferi di cera con tutta quella grazia di dio ho potuto campare due anni ma oggi sono gli ultimi sgoccioli oggi nella dispensa non c'è più nulla e questa candela che vedi accesa è l'ultima candela che mi sia rimasta e dopo e dopo caro mio rimarremo tutte e due al buio allora babbino mio disse pinocchio non c'è tempo da perdere bisogna pensare subito a fuggire a fuggire e come scappando dalla bocca del pesce cane e gettandosi al moto in mare tu parli bene ma io caro pinocchio non so nuotare e che importa voi mi monterete a cavalluccio sulle spalle e io che sono un buon nuotatore vi porterò sano e salvo fino alla spiaggia illusioni ragazzo mio replicò geppetto scotendo il capo e sorridendo malinconicamente ti pare gli possibile che un burattino alto appena un metro come sei tu possa avere tanta forza da portarmi a nuoto sulle spalle provatevi e vedrete a ogni modo se sarà scritto in cielo che dobbiamo morire avremo almeno la gran consolazione di morire abbracciati insieme e senza dir altro pinocchio prese in mano la candela e andando avanti per far lume disse al suo babbo venite dietro a me e non abbiate paura e così camminarono un bel pezzo e traversarono tutto il corpo e tutto lo stomaco del pesce cane ma giunti che furono al punto dove cominciava la gran gola del mostro pensarono bene di fermarsi per dare un'occhiata e cogliere il momento opportuno alla fuga ora bisogna sapere che il pesce cane essendo molto vecchio e soffrendo d'asma e di palpitazione di cuore era costretto a dormire a bocca aperta per cui Pinocchio affacciandosi al principio della gola e guardando in su poté vedere al di fuori di quell'enorme bocca spalancata un bel pezzo di cielo stellato e un bellissimo lume di luna questo è il vero momento di scappare mi svegliò allora voltandosi al suo babbo il pesce cane dorme come un ghiro il mare è tranquillo e ci si vede come di giorno venite dunque babbino dietro a me e fra poco saremo salvi detto fatto salirono su per la gola del mostro marino e arrivati in quell'immensa bocca cominciarono a camminare in punta di piedi sulla lingua una lingua così larga e così lunga che pareva il viottolone di un giardino e già stavano lì lì per fare il gran salto e per gettarsi a nuoto nel mare quando sul più bello il pesce cane starnutì e nello starnutire detto uno scossone così violento che pinocchio e geppetto si trovarono rimbalzati all'indietro e scaramentati nuovamente in fondo allo stomaco del mostro nel gran durto della caduta la candela si spense e padre e figliuolo rimasero al buio e ora domandò pinocchio facendosi serio ora ragazzo mio siamo belli perduti perché perduti datemi la mano babbino e badate di non sdrucciolare dove mi conduci dobbiamo ritentare la fuga venite con me e non abbiate paura ciò detto finocchio prese il suo babbo per mano e camminando sempre in punta di piedi risalirono insieme su per la gola del mostro poi traversarono tutta la lingua e scavalcarono i tre filari di denti prima però di fare il gran salto il burattino disse al suo babbo montatemi a cavalluccio sulle spalle e abbrazzatemi forte forte al resto ci penso io appena geppetto si fu accomodato per bene sulle spalle del figliuolo finocchio sicurissimo del fatto suo si gettò nell'acqua e cominciò a nuotare il mare era tranquillo come un olio la luna splendeva in tutto il suo chiarore e il pesce cane si guidava a dormire di un sonno così profondo che non avrebbe svegliato nemmeno una cannonata finalmente finocchio cessa ad essere un burattino e diventa un ragazzo mentre pinocchio nuotava alla svelte per raggiungere la spiaggia si accorse che il suo babbo il quale gli stava a cavalluccio sulle spalle e aveva le gambe mezze nell'acqua tremava fitto fitto come se al pover uomo gli battesse la febbre terzana tremava di aver freddo o di paura chi lo sa forse un po' dell'uno e un po' dell'altro ma pinocchio credendo che quel tremito fosse di paura gli disse per confortarlo coraggio babbo fra pochi minuti arriveremo a terra e saremo salvi ma dov'è questa spiaggia benedetta? domandò il vecchietto diventando sempre più inquieto e appuntando gli occhi come fanno i sarti quando infilano l'ago eccomi qui che guardo da tutte le parti e non vedo altro che cielo e mare ma io vedo anche la spiaggia disse il burattino per vostra regola io sono come i gatti ci vedo meglio di notte che di giorno il povero pinocchio faceva finta di essere di buon umore ma invece invece cominciava a scoraggiarsi le forze gli scemavano e il suo respiro diventava grosso e affannoso insomma non ne poteva più la spiaggia era sempre lontana notò finché ebbe fiato poi si voltò col capo verso geppetto e disse con parole interrotte babbo mio aiutatemi perché io muoio e il padre e il figliuolo erano ormai sul punto di affogare quando udirono una voce di chitarra scordata che disse chi è che muore? sono io e il mio povero babbo questa voce la riconosco tu sei il pinocchio preciso e tu? io sono il tonno il tuo compagno di prigionia in corpo al pesce cane e come hai fatto a scappare? ho imitato il tuo esempio tu sei quello che mi ha insegnato la strada e dopo te sono fuggito anch'io tonno mio tu capiti proprio a tempo ti prego per l'amor che porti ai tonnini i tuoi figliuoli aiutaci lo siamo perduti volentieri e con tutto il cuore attaccatevi tutte e due alla mia coda e lasciatevi guidare in quattro minuti vi condurrò alla riva ceppetto e pinocchio come potete immaginarvelo accettarono subito l'invito ma invece di attaccarsi alla coda giudicarono più comodo di mettersi addirittura a sedere sulla groppa del tonno siamo troppo pesi? gli domandò pinocchio pesi? anche per ombra mi par di avere addosso due gusci di conchiglia riprese il tonno il quale era di una corporatura così grossa e robusta da parere un vitello di due anni giunti alla riva pinocchio saltò a terra il primo per aiutare il suo babbo a fare altrettanto poi si voltò al tonno e con voce commossa gli disse amico mio tu hai salvato il mio babbo dunque non ho parole per ringraziarti abbastanza permetti almeno che ti dia un bacio in segno di riconoscenza eterna il tonno cacciò il muso fuori dall'acqua e pinocchio piegandosi coi ginocchi a terra gli posò un affettuosissimo bacio sulla bocca a questo tratto di spontanea e vivissima tenerezza il povero tonno che non era avvezzo si sentì talmente commosso che vergognandosi a farsi veder piangere come un bambino ricacciò il capo sott'acqua e sparì e intanto sarà fatto giorno allora pinocchio offrendo il suo braccio a geppetto che aveva appena il fiato di leggersi in piedi gli disse appoggiatevi pure al mio braccio caro bambino e andiamo cammineremo pian pianino come le formicole e quando saremo stanchi ci riposeremo lungo la via e dove dobbiamo andare domandò geppetto in cerca di una casa o di una capanna dove ci diano per carità un boccon di pane e un po' di paglia che ci serva da letto ma avevano ancora fatti cento passi che videro seduti sul ciglione della strada due brutti ceffi i quali stavano lì in atto di chiedere l'elemosina erano il gatto e la volpe ma non si riconoscevano più da quelli d'una volta figuratevi che il gatto a furia di fingersi cieco aveva finito con l'accecare davvero e la volpe invecchiata intignata e tutta perduta da una parte non aveva più nemmeno la coda così è quella triste ladracchiola caduta nella più squallida miseria si trovò costretta un bel giorno a vendere perfino la sua bellissima coda a un merciaio ambulante che la comprò per farsene uno scacciamosche oh Pinocchio gridò la volpe con voce di piagnisteo fai un po' di carità a questi due poveri infermi infermi ripete il gatto addio mascherine rispose il burattino mi avete ingannato una volta e ora non mi ripigliate più credilo Pinocchio che oggi siamo poveri e disgraziati davvero davvero ripete il gatto se siete poveri ve lo meritate ricordatevi del proverbio che dice i quattrini rubati non fanno mai frutto addio mascherine abbi compassione di noi di noi addio mascherine ricordatevi del proverbio che dice la farina del diavolo va tutta in crusca non ci abbandonare are ripete il gatto addio mascherine ricordatevi del proverbio che dice chi ruba il mantello al suo prossimo per il solito muore senza camicia eccoci dicendo Pinocchio e Geppetto seguitarono tranquillamente per la loro strada finché fatti altri cento passi videro in fondo a una viottola in mezzo ai campi una bella capanna tutta di paglia e col tetto coperto d'embrici e di mattoni quella capanna deve essere abitata da qualcuno disse Pinocchio andiamo là e bussiamo difatti andarono e bussarono alla porta chi è? disse una vocina di dentro siamo un povero babbo e un povero figliuolo senza pane e senza tetto rispose il burattino girate la chiave e la porta si aprirà disse la solita vocina Pinocchio girò la chiave e la porta si aprì appena entrati dentro guardarono di qua guardarono di là e non videro nessuno ho il padrone della capanna dov'è? disse Pinocchio maravigliato eccomi quassù babbo e figliuolo si voltarono subito verso il soffitto e videro sopra un travicello il grillo parlante oh mio caro grillino disse Pinocchio salutandolo garbatamente ora mi chiami il tuo caro grillino non è vero? ma ti rammenti di quando per scacciarmi di casa tua mi tirasti un martello di legno? hai ragione grillino scaccia anche me tira anche a me un martello di legno ma abbi pietà del mio povero babbo io avrò pietà del babbo e anche del figliuolo ma ho voluto rammentarti il brutto garbo ricevuto per insegnarti che in questo mondo quando si può bisogna mostrarsi cortesi con tutti e vogliamo essere ricambiati con pari cortesia nei giorni del bisogno hai ragione grillino hai ragione da vendere e io terroamente la lezione che mi hai data ma mi dici come hai fatto a comprarti questa bella capanna? questa capanna mi è stata regalata ieri da una graziosa capra che aveva la lana ad un bellissimo colore turchino e la capra dove è andata? non lo so e quando ritornerà? domandò Pinocchio con vivissima curiosità non ritornerà mai ieri è partita tutta afflitta e Belando pareva che dicesse povero Pinocchio ormai non lo rivedrò più il pesce cane a quest'ora l'avrà bello e divorato ha detto proprio così dunque era lei era lei era la mia cara Fatina cominciò a urlare Pinocchio si inghiozzando e piangendo dirottamente quando ebbe pianto ben bene si rasciugò gli occhi e preparato un buon lettino di paglia vi distese sopra il vecchio geppetto poi domandò il grillo parlante dimmi grillino dove potrai trovare un bicchiere di latte per il mio povero babbo tre campi distante di qui c'è l'ortolano Giangio che tiene le mucche va da lui e troverai il latte che cerchi Pinocchio andò di corsa a casa dell'ortolano Giangio ma l'ortolano gli disse quanto ne vuoi di latte? ne voglio un bicchiere pieno un bicchiere di latte costa un soldo comincia intanto a darmi il soldo non ho nemmeno un centesimo rispose Pinocchio tutto mortificato e dolente male burattino mio replicò l'ortolano se tu non hai nemmeno un centesimo io non ho nemmeno un dito di latte pazienza disse Pinocchio e fece l'atto di andarsene aspetta un po' disse Giangio fra te e me ci possiamo accomodare vuoi adattarti a girare il bindolo? che cos'è il bindolo? gli è quell'ordigno di legno che serve a tirar su l'acqua dalla cisterna per annaffiare gli ortaggi mi proverò dunque tirami su cento secchie d'acqua e io ti regalerò in compenso un bicchiere di latte sta bene Giangio condusse il burattino nell'orto e gli insegnò la maniera di girare il bindolo Pinocchio si pose subito al lavoro ma prima di aver tirato su le cento secchie d'acqua era tutto grondante di sudore dalla testa ai piedi una fatica a quel modo non l'aveva durata mai finora questa fatica di girare il bindolo disse l'ortolano l'ho fatta fare al mio ciuchino ma oggi quel povero animale è in fin di vita mi menate a vederlo disse Pinocchio volentieri appena che Pinocchio fu entrato nella stalla vide un bel ciuchino disteso sulla paglia rifinito dalla fame e dal troppo lavoro quando ebbe guardato fisso fisso disse dentro di sé turbandosi eppure quel ciuchino lo conosco non mi è fisonomia nuova e chinatosi fino a lui gli domandò in dialetto asinino chi sei? a questa domanda il ciuchino aprì gli occhi moribondi e rispose balbettando nel medesimo dialetto sono lucignolo e dopo richiuse gli occhi e espirò oh povero lucignolo disse Pinocchio a mezza voce e preso una manciata di paglia si rasciugò una lacrima che gli colava giù per il viso ti commuovi tanto per un asino che non ti costa nulla disse l'ortolano che cosa dovrei fare io che lo comprai a quattrini contanti vi dirò era un mio amico tuo amico? un mio compagno di scuola come? urlò Giangio dando in una gran risata come? avevi dei somari per compagni di scuola figuriamoci i belli studi che devi aver fatto Gurettino sentendosi mortificato da quelle parole non rispose ma prese il suo bicchiere di latte quasi caldo e se ne tornò alla capanna e da quel giorno in poi continuò più di cinque mesi a levarsi ogni mattina prima dell'alba per andare a girare il bindolo e guadagnare così quel bicchiere di latte che faceva tanto bene alla salute cagionosa del suo babbo ne si contentò di questo perché a tempo avanzato imparò a fabbricare anche i canestri e i panieri di giunco e coi quattrini che ne ricavava provvedeva con moltissimo giudizio a tutte le spese giornaliere fra le altre cose costruì da se stesso un elegante carrettino per condurre a spasso il suo babbo alle belle giornate e per fargli prendere una boccata d'aria nelle veglie poi della sera si esercitava a leggere e a scrivere aveva comprato nel vicino paese per pochi centesimi un grosso libro al quale mancavano il frontespizzo e l'indice e con quello faceva la sua lettura quanto allo scrivere si serviva di un fuscello temperato a uso penna e non avendone calamaio né inchiostro lo intingeva in una boccettina ripiena di sugo di more e di ciliese fatto sta che con la sua buona volontà di ingegnarsi di lavorare e tirarsi avanti non solo era riuscito a mantenere quasi agiatamente il suo genitore sempre malatico ma per di più aveva potuto mettere da parte anche quaranta soldi per comprarsi un vestitino nuovo una mattina disse a suo padre vado qui al mercato vicino a comprarmi una giacchettina un berrettino e un paio di scarpe quando tornerò a casa soggiunse ridendo sarò vestito così bene che mi scambierete per un gran signore e uscito di casa cominciò a correre tutto allegro e contento quando a un tratto sentì chiamarsi per nome e voltandosi vede una bella lumaca che sbucava fuori della siepe non mi riconosci disse la lumaca mi pare e non mi pare non ti ricordi di quella lumaca che stava per cameriera con la fata dai capelli turchini non ti rammenti di quella volta quando scesi a farti lume e che tu rimanesti con un piede confitto nel luscio di casa mi rammento di tutto gridò Pinocchio rispondimi subito lumachina bella dove hai lasciato la mia buona fata che fa mi ha perdonato si ricorda sempre di me mi vuol sempre bene è molto lontana da qui potrei andarla a trovare a tutte queste domande fatte precipitosamente senza ripigliar fiato la lumaca rispose con la sua solita flemma Pinocchio mio la povera fata giace in un fondo di letto all'ospedale all'ospedale? purtroppo colpita da mille disgrazie si è gravemente ammalata e non ha più da comprarsi un boccon di pane davvero? oh che gran dolore che mi hai dato oh povera fatina povera fatina povera fatina se avessi un milione correrei a portarglielo ma io non ho che 40 soldi eccoli qui andavo giusto a comprarmi un vestito nuovo prendili lumaca prendili lumaca e va a portarli subito alla mia buona fata e il tuo vestito nuovo che mi importa del vestito nuovo? venderai anche questi censico addosso per poterlo aiutare va lumaca spicciati e fra due giorni ritorna qui e spero di poterti dare qualche altro soldo finora ho lavorato per mantenere il mio babbo da oggi in là lavorerò 5 ore di più per mantenere anche la mia buona mamma addio lumaca addio lumaca e fra due giorni ti aspetto la lumaca contro il suo costume cominciò a correre come una lucertola nei grandi solleoni d'agosto quando Pinocchio tornò a casa il suo babbo gli domandò e il vestito nuovo non mi è stato possibile di trovarne uno che mi tornasse bene pazienza lo comprerò un'altra volta quella sera Pinocchio invece di vegliare fino alle 10 vegliò fino alla mezzanotte suonata e invece di far otto canestre di giunco ne fece 16 e andò a letto e si addormentò e nel dormire gli parvi di vedere in sogno la fata tutta bella e sorridente la quale dopo avergli dato un bacio gli disse così bravo Pinocchio in grazia del tuo buon cuore io ti perdono tutte le monellerie che hai fatto fino ad oggi i ragazzi che assistono amorosamente i propri genitori nelle loro miserie e nelle loro infermità meritano sempre gran lode e grande affetto anche se non possono essere citati come modelli di obbedienza e di buona condotta metti giudizio per l'avvenire e sarai felice a questo punto il sogno finì e Pinocchio si svegliò con tanto d'occhi spalancati ora immaginatevi voi quale fu la sua maraviglia quando svegliandosi si accorse che non era più un burattino di legno ma che era diventato invece un ragazzo come tutti gli altri dette un'occhiata all'intorno e invece delle solite pareti di paglia della capanna vide una bella camerina ammobiliata e agghindata con una semplicità quasi elegante saltando giù dal letto trovò preparato un bel vestiario nuovo un berretto nuovo e un paio di stivaletti di pelle che gli tornavano una vera pittura appena si fu vestito gli venne fatto naturalmente di metterle le mani nelle tasche e tirò fuori un piccolo portamonete d'avorio sul quale erano scritte queste parole la fata dai capelli turchini restituisce al suo caro Pinocchio i quaranta soldi e lo ringrazia tanto del suo buon cuore aperto il portamonete invece dei quaranta soldi di rame vi luccicavano quaranta zecchini d'oro tutti nuovi di zecca dopo andò a guardarsi allo specchio e gli parve d'essere un altro non vide più riflessa la solita immagine della marionetta di legno ma vide l'immagine vispa intelligente di un bel fanciullo dai capelli castagni con gli occhi celesti e con un'aria allegra e festosa come una pasqua di rose in mezzo a tutte queste meraviglie che si succedevano le une alle altre Pinocchio non sapeva più nemmeno lui se era adesso davvero o se sognava sempre ad occhi aperti e il mio babbo dov'è gli dò tutto un tratto ed entrato nella stanza accanto trovò il vecchio geppetto sano arzillo e di buon umore come una volta il quale avendo ripreso subito la sua professione di intagliatore di legno stava appunto disegnando una bellissima cornice ricca di fogliami di fiori e di testine di diversi animali nevatemi una curiosità babbino ma come si spiega tutto questo cambiamento improvviso gli domandò Pinocchio saltandogli al collo e coprendolo di baci questo improvviso cambiamento in casa nostra è tutto merito tuo disse geppetto perché merito mio perché quando i ragazzi di cattivi diventano buoni hanno la virtù di far prendere un aspetto nuovo e sorridente anche all'interno delle loro famiglie e il vecchio Pinocchio di legno dove si sarà nascosto eccolo là rispogge geppetto e gli accennò un grosso burattino appoggiato a una seggiola col capo girato su una parte con le braccia a ciondoloni e con le gambe incrocicchiate ripiegate a mezzo da parere un miracolo se stava ritto Pinocchio si voltò a guardarlo e dopo che l'ebbe guardato un poco disse dentro di sé con grandissima compiacenza com'ero buffo quando ero un burattino e come ora son contento di essere diventato un ragazzino per bene e come ora e come ora e come ora l'abbiamo e come ora Grazie.